libro quarto l'abitatore del limitare guarda dietro a lui io lo sollevo egli mi chiama ad alta voce lo vedrò dunque l'immagine velata di sé capitolo primo come vittima io vengo a Lara metastasio un mese circa dopo la partenza di zanoni due inglesi passeggiavano tenendosi di braccio in via toledo vi assicuro diceva il primo parlando con calore che se vi rimane una dracma di senso comune ma accompagnerete in inghilterra cotesto mesnur è un impostore più pericoloso di zanoni perché più insistente in fin dei conti a che vi gioverà la sua promessa dal momento che confessate che è affatto equivoca dite avere egli lasciata napoli scelto un ritiro più adatto delle popolose città agli studi in cui deve iniziarvi e che codesto ritiro è fra i ricoveri dei più feroci banditi d'italia dove la stessa giustizia non artisce penetrare romitaggio convenevole per un sapiente io tremo per voi seco testo straniero che nessuno conosce fosse in lega coi banditi e allettasse la vostra credulità per svaliggiarvi o forse per uccidervi forse non vi potrete riscattare che apprezzo di mezza la vostra fortuna sorridete sdegnoso ebbene lasciamo da parte il buon senso e ragioniamo sul fatto voi state per tentare una prova che lo stesso majnur vi dice molto ardua riuscirete o no nel primo caso non sarete miglior condizione del cupo impassibile mistico che prendeste a guida nel secondo siete minacciato da tremende sciagure abbandonate questo folle progetto e godete la gioventù finché vi dura tornate con me in inghilterra scordando questi sogni intraprendete la vostra carriera stringete vincoli d'affezione più rispettabili di quelli che vadescavano per un'avventuriere italiana occupatevi della vostra fortuna e arricchite divenendo uomo stimato e felice tale è il consiglio di una temperata amicizia e le promesse che io vi faccio sono più lisinghevoli di quelle di majnur mervel rispose glindon burberamente non potrei se anche il volessi piegarmi ai vostri desideri un potere a me superiore mi spinge è mai impossibile resistere alla sua influenza continuerò fino al termine lo strano cammino intrapreso non occupatevi più di me seguite voi stesso il consiglio che mi date e siate felice è una pazzia replicò mervel la vostra salute si alterò e siete cambiato a segno che appena vi riconosco venite ho già fatto porre il vostro nome nel mio passaporto tra un'ora avrò lasciato napoli e voi fanciullo che siete rimarrete senza un amico in balia della vostra sfrenata immaginazione e di un inflessibile ciarlatano basta concluse glindon freddamente voi non siete più un buon consigliere da che i pregiudizi vi traviano così evidentemente io ho già una valida prova soggiunse il giovane e le sue guance si fecero più pallide del potere di quest'uomo seppure egli è un uomo come talvolta dubito trovi la vita o la morte io non devierò dal sentiero che gli mi traccia addio mervel se più non ci rivedremo se udite nelle nostre antiche care dimore che clarence glindon dorme il sonno eterno sulle spiagge di napoli o fra le lontane montagne dite agli amici della nostra giovinezza egli morì onoratamente come mille altri martiri studiosi prima di lui nella ricerca della sapienza così dicendo strinse la mano a mervel e allontanandosi scomparve tra la folla sull'angolo della via toledo nico lo fermò a glindon è un mese che non ti vedo dove sei stato nascosto forse immerso nei tuoi studi sì io sto per lasciar napoli e recarmi a parigi vuoi accompagnarmi colà il talento di qualunque genere ricercato e tu sei sicuro di salire in alto ti ringrazio ma per ora ho altri progetti così laconico che ti gira per il capo forse ti affliggi per aver perduta la pisani prendi esempio da me che sono già consolato con bianca sacchini una bella donna allegra e senza pregiudizi non dubitare che ti riuscirà molto profittevole ma cotesto zanoni semmai dipingerò un quadro allegorico voglio collocarvelo sotto la figura di satanasso ha una vendetta da pittore quando non possiamo far nulla contro l'uomo da noi odiato almeno c'è dato di effigiarlo come un demonio ma parlando sul serio io aborrisco costui e per qual motivo perché egli mi portò via la moglie e la dote che mi ero buscato di più soggiunse nicò pensieroso quando anche invece di ingiuriarmi ma avesse reso un servizio lo odierei ugualmente le sue fattezze mi ispirano invidia ed avversione sento che c'è qualche cosa di antipatico fra noi due e presagisco che ci incontreremo di nuovo quando l'odio di jean nicò non sarà come ora impotente e noi pure caro confratello noi pure ci incontreremo viva la repubblica vado a parigi nel mio nuovo mondo e dio nel mio rispose glindon addio quel giorno mervel partì da napoli e la mattina seguente glindon solo uscendo a cavallo da quella deliziosa capitale si avviò verso le pittoresche ma pericolose montagne infestate a quei giorni dai banditi e che pochi viaggiatori ardivano attraversare anche di pieno giorno senza una numerosa scorta non si potrebbe figurare una strada più solitaria di quella su cui le zampe del suo cavallo calpestando i frantumi di roccia che la ingombravano destavano un melanconico eco larghi tratti di terreno incolto variati dall'ussureggiante fogliame dei climi meridionali si stendevano a lui dinanzi di quando in quando una capra selvatica si affacciava sul ciglione di uno scoglio e lo stridio che un uccello di rapina faceva udire dalla sua tana fra le rupi erano i soli indizi di vita poiché il cavaliere non incontrava alcun essere umano alcuna abitazione immerso nelle sue ardenti e solenni meditazioni glindon si avanzò finché il sole declinando una fresca brezza si alzò dal mare che si stendeva in molta distanza sulla destra allora svoltando strada si trovò in faccia ad uno di quei lunghi e miserabili villaggi che si trovano nell'interno del regno di napoli all'ingresso vi era una cappelletta con l'immagine dipinta della vergine vicino a quel luogo che in un paese cristiano osservava i vestigi dell'antica idolatria essendo nei tempi pagani simili cappelle dedicate alle deità mitologiche stavano sdraiati sei o sette laceri mascalzoni che schifose malattie avevano segregati dall'umano consorzio essi gettarono un grido avvolgendo le facce sparute al cavaliere e senza muoversi stesero le mani chiedendole lemosina in nome della vergine misericordiosa glindon gettò loro in fretta alcune monete e torcendo il viso diede di sprone al cavallo fino all'ingresso del villaggio lungo l'angusta contrada uomini con truce sguardo alcuni appoggiati ai muri delle diroccate case altri seduti sulla soglia altri sdraiati nel fango suscitavano compassione e terrore compassione per loro stato miserabile terrore per la ferocia del loro selvaggio aspetto tutti lo guardavano copamente mentre s'avanzava parlando sottovoce in modo espressivo senza però impedirgli il passo anche i ragazzi cessavano dai trastulli e lo divoravano con gli occhi mormorando alle loro madri faremo tripudio domani era infatti uno di quei villaggi in cui la legge non ha forza come ve ne sono parecchi in quella parte d'italia poco incivilita villaggi nei quali il contadino merita il nome di ladro glindon sentì venirsi meno il coraggio e morì sul suo labbro la domanda che stava per fare allorché da una capanna uscì un uomo che pareva superiore agli altri invece ad una veste cenciosa unico abito di quei contadini egli portava tutti i distintivi caratteristici dei banditi italiani sui ben pettinati capelli aveva un berretto con fiocco d'oro scendente sulla spalla i mostacchi erano ben arricciati e un fazzoletto di seta colori vivaci li cingeva il muscoloso collo il corto giubbetto di grosso panno era guarnito di molte fila di bottoni in filigrana dorata i calzoni erano ricamati bizzarramente nella larga cintola stavano due pistole con l'impugnatura d'argento e l'affilato coltello che portano usualmente in italia gli uomini del popolo col manico d'avorio a rilievo una corta carabina ben lavorata che portava ad armacollo completava l'abbigliamento quest'uomo era di mezza età di forme atletiche slanciate di fattezze regolari ma pronunciate e con una espressione ardita sì ma non feroce la quale non ispirava una sinistra prevenzione glindo dopo averlo fissato attentamente arrestò il cavallo domandando la via per il castello della montagna l'uomo si levò il berretto ed avvicinandosi pose la mano sul collo del cavallo rispondendo sottovoce voi siete dunque il cavaliere che il nostro padrone attende egli mi ordinò di aspettarvi qui e condurvi al castello sarebbe stata una disgrazia o signore se io avessi trascurato di ubbidire al suo comando poscia tirandosi alquanto da parte chiamò gli astanti gridando olà amici miei trattate d'ora innanzi con tutto il rispetto questo degno cavaliere egli è l'ospite atteso dal nostro benedetto padrone del castello della montagna lunga vita a lui possa come il suo ospite essere salvo di giorno e di notte sulla collina e nella pianura dal pugnale dalla palla nella vita in ogni membro maledetto colui che gli toccasse un capello in testa un baiocco in tasca ora e sempre noi lo proteggeremo e lo onoreremo secondo la legge e contro la legge fedeli sino alla morte amen amen risposero in coro cento voci selvagge e i disordinati gruppi si affollarono nella strada più vicina al cavaliere tutto ciò proseguì lo strano protettore di clinton sia noto all'occhio e all'orecchio io lo fascio con la bianca cintura e gli do la sacra parola d'ordine pace al valoroso quando voi porterete o signore questa cintura i più ardimentosi abitanti dei dintorni si snuderanno il capo e piegheranno il ginocchio quando pronunzierete la sacra parola i più intrepidi saranno pronti ai vostri ordini bramate voi sicurezza o vendetta ottenere una bellezza o perdere un nemico dite la parola e noi siamo vostri non è così i camerati e di nuovo cento voci urlarono amen amen adesso signore mormorò il bravo sottovoce se avete moneta spiccia gettatela tra la folla e partiamo glindon cui non dispiaco il suggerimento vuotò la sua borsa in strada e intanto che fra bestemmie benedizioni urli e strida uomini donne e fanciulli si accapigliavano per acciuffare il denaro il bravo pigliando le redini del cavallo lo condusse di trotto per pochi passi attraverso il villaggio poscia voltò per una straduzza manca e in breve uomini e caseggiati divennero invisibili e i due viandanti che s'avanzavano fra due montagne allora il bravo lasciando le briglie e rallentando il passo volse i suoi neri occhi a glindon dicendo con arguta espressione vostra eccellenza non era forse preparata al nostro cordiale ricevimento sì lo attendevo da che il signore alla cui casa sono addetto non mi fece mistero del carattere di questi abitanti qual è il vostro nome amico o non fate cerimonie con me eccellenza nel villaggio mi chiamano comunemente maestro paolo ho però un soprannome ma lo dimenticai dopo che mi sono ritirato dal mondo fu per disgusto o povertà o per uno di quei trascorsi giovanili che vengono puniti che vi ritiraste nelle montagne gli eremiti della mia specie non amano troppo il confessionale o signore replicò con allegro riso non di meno non ho segreti quando muovo i passi in queste gole col fischietto in mano e la carabina in spalla così dicendo come fosse lieto d'avere licenza di favellare a piacer suo tossì tre volte e incominciò di buon umore il racconto benché a misura che procedeva sembrasse che le reminiscenze lo traessero più oltre da quanto si era prefisso alla non curanza ed allegria sottentrava quel fiero e variato movimento di voce e di gesto caratteristico degli italiani allorché sono commossi nacqui a terracina bel luogo non è vero mio padre era un monaco istruito e di buon casato mia madre che il cielo labbia in gloria la bella figliola dell'oste vedete bene che non vi era luogo ad un matrimonio nato che fui il monaco dichiarò gravemente che la mia comparsa era miracolosa fin dalla culla venne destinato all'altare e si dichiarò che la mia testa era adattissima per un cappuccio divenuto grandicello il monaco si occupò della mia educazione e imparai il latino e a salmodiare con molta facilità del resto il santuomo non si diede gran pensiero della mia educazione morale benché gli avesse fatto voto di povertà non lasciava mai vuote le scarselle di mia madre e fra queste le mie si stabilì ben presto una clandestina comunicazione dietro ciò all'età di 14 anni portando il cappello da un lato le pistole alla cintola presi l'andatura di un elegante cavaliere appunto a quell'età morì la povera mia madre e il monaco contemporaneamente avendo scritta una storia delle bolle pontifice in 40 volumi ed essendo di buona famiglia ottenne un cappello cardinalizio da quel tempo egli non vuole più saperne del vostro umile servitore mi collocò presso un onesto notaio a napoli e mi fornì un peculio di 200 scudi colai io studiai la legge abbastanza per convincermi che non sarei riuscito a sufficienza furfante per esercitar con lucro la professione quindi invece di sfogliare pergamene feci all'amore con la figliuola del notaio questi scoprì l'innocente nostro passatempo e mi scacciò di casa era una disgrazia ma aninetta che mi voleva bene presi a cuore che io non giacessi in strada quei lazzarone la briconcella mi pare ancora di vederla piedi scalzi e col dito sulle labbra aprire la porta nelle notti d'estate e introdurmi furtivamente in cucina dove siano ringraziati santi un fiasco di vino e un piatto di vivande aspettavano l'amante affamato però dopo un certo tempo ninetta si raffreddò è la tendenza del sesso signore suo padre le trovò un eccellente partito con un vecchio negoziante di quadri e la lo sposò e chiuse l'uscio sul muso al povero amante non perciò io mi scoraggiai non davvero vi sono donne in abbondanza quando siamo giovani per cui senza avere un ducato in tasca un tozzo di pane da masticare andai a cercare fortuna a bordo di un bastimento mercantile spagnolo io ero preparato ad una dura esistenza ma fortunatamente fummo assaliti da un pirata mezza la ciurma venne uccisa il restante messo in ferri io ero tra gli ultimi vedete signore che la fortuna sorrideva al figlio del monaco il capitano dei pirati si incapricciò di me prendi servizio fra noi mi disse con gran piacere risposi io e diventai pirata o l'allegra vita quanto non benedì il vecchio notaio per avermi scacciato da casa sua che tripudiare combattere amoreggiare altercare talvolta sbarcavamo divertendoci come principi dall'altra riposavamo per molti giorni in calma sopra i più bei mari che l'uomo abbia mai navigati allora se si alzava il vento ed appariva una vela sul lontano orizzonte chi lieto al pari di noi passai tre anni in questa dilettevole professione poscia divenuto ambizioso macchinai contro il capitano avendo il suo posto una notte facemmo il colpo la nave stava immobile in mare nessuna terra si scopriva dall'albero maestro le onde erano limpide come uno specchio e la luna in tutta la pienezza della sua luce ci alzamo in circa una trentina e sfondammo l'uscio della cabina del capitano io ero alla testa il bravo vecchio non si era lasciato sorprendere e stava in piedi con una pistola in ciascuna mano e l'unico suo occhio era guercio incuteva più terrore delle pistole alt gridai la vita ti sarà risparmiata prendi questo ti segli e scaricò una pistola ma i santi ebbero cura del loro allievo la palla mi sfiorò la guancia e uccise dietro di me il contromastro mi gettai sul capitano e la seconda pistola sparò nella lotta senza colpire egli era alto sei piedi senza contare le scarpe noi rotolammo ambedue per terra santa maria senza aver tempo di sguainare un coltello intanto la ciurma fu in piedi chi è favore del capitano chi per me si battevano in cento modi e di tempo in tempo un tonfo pesante nel mare procurava un buon pasto ai pesci al fine il vecchio capitano prese il di sopra e snudò il suo coltello ma non riuscì a trafiggermi il cuore perché mi feci scudo col braccio sinistro la lama vi si immerse fino al manico e ne spiccò un getto di sangue come l'acqua dalle nari di una balena io lo afferrai pel collo capovolgendolo come un agnello nell'istante medesimo il fratello del contromastro un grosso olandese lo trapassò con la sua picca vecchio dissi io mentre il capitano mi fissava col suo spaventevole occhio io non ho rancore con voi ma sapete pure che bisogna ingegnarsi di aprirsi una strada nel mondo il capitano strinse i denti e spirò montai sul ponte quale spettacolo venti robusti marinai giacevano morti stecchiti e la luna riverberava sulle pozze di sangue tranquillamente come se fossero d'acqua la vittoria era nostra signore e il vascello mi apparteneva io navigai allegramente per sei mesi assalimmo una nave francese da un pezzo non eravamo così fortunati poiché quasi senza perdita ci impadronimmo di essa e del carico i miei camerati volevano uccidere a colpi di pistola il capitano ma ciò era contrario alle mie leggi quindi gli sbarrammo la bocca perché gli urlava come uno spiritato e lo lasciamo insieme alla sua ciurma sul nostro vascello assai danneggiato inchiodammo la nostra negra bandiera a bordo della nave francese ed emmo lieti alla vela con una brezza favorevole ma la fortuna ci abbandonò col nostro caro vascello sopraggiunse una burrasca si ruppe l'assito molti di noi si salvarono nello schifo portando l'oro ma privi di acqua per due giorni e due notti soffrì morribilmente al fine prendemmo terra vicino ad un porto di mare francese la nostra misera condizione mosse a pietà e siccome avevamo denaro non si sospettò di noi che soltanto i poveri destano sospetti appena ci fummo riavuti dai sofferti disagi ci mettemmo a fare allegra vita e il vostro umile servitore fu stimato al pari di un capitano che avesse sempre passeggiato sopra il ponte ma allora per fatalità io mi innamorai della figlia di un mercante di seterie ahimè io adoravo la bella chiara a segno tale che mi prese orrore della mia vita passata pentito risolvetti sposarla e stabilirmi come un uomo onesto la onda e radunai i compagni partecipai loro la mia risoluzione e rassegnato il comando li persuasi a partire erano buoni diavoli si combinarono con un olandese contro il quale seppi da poi che si erano ammutinati e nulla più di sul loro conto io avevo una buona somma di denaro mediante la stessa ottenne l'assenso del mercante che mi accettò come socio di negozio nessuno sospettava ciò che io ero stato e io passavo per figlio di un orefice napoletano ero felicissimo signore e se avessi sposato chiara sarei divenuto un onesto merci aiuolo misuratore di seterie il bravo feo una pausa e si scorgeva che era commosso assai più che non indicassero le sue parole su via continuò non bisogna ricordarsi troppo penosamente il passato che ci rattrista era stabilito il giorno dei miei sponsali la sera precedente chiara sua madre una sorellina ed io passeggiavamo sul porto guardando le onde io loro raccontavo antiche storie di sirene e serpenti marittimi quando un francese rubicondo in faccia con un gran naso vi si piantò dinanzi e mettendo gli occhiali sulla sua proboscite gridò sacre milton air questi è il maledetto pirata che predò la niobe non scherzate risposi con dolcezza oh oh esclamò il francese non mi inganno accorrete e in così dire mi afferrò per collare io le respinsi come potete supporre gettandole in un fosso ma non giovò il capitano francese aveva dietro un luogo tenente il quale era fornito al pari di lui di eccellente memoria la gente si affollò sopra giunsero altri marinai le testimonianze mi erano sfavorevoli fui messo in prigione e dopo poche settimane mandato in galera mi fu condonata la vita perché il vecchio espose garbatamente che io avevo indotto la mia ciurma non ucciderlo voi potete immaginarvi che il remo e la catena non mi andavano punto a genio io e due altri fuggimmo essi si gettarono a far l'assassino sulle strade né dubito che finissero sulla forca io invece non vogli commettere più delitti per guadagnarmi il pane avendo fisse in cuore chiara coi suoi dolci occhi quindi limitandomi a togliere l'abito ad un mendicante cui lasciai in compenso la mia schiavina di galeotto mi diressi alla città dove l'abitava era una bella sera d'inverno quando entrai nel suo borgo senza timore d'essere riconosciuto tanto mi erano cresciuti i capelli e la barba vergine misericordiosa incontrai un convoglio mortuario non posso dirvi altro fuorché ella era morta forse d'amore forse anche di vergogna immaginereste come passai quella notte tolsi una leva da una tettoia o vestavano gli arnesi di un muratore e solo mi posi a smuovere le zolle della sepoltura aprì la cassa e rividi la mia fidanzata ancora intatta pallida come in vita avrei giurato che era viva era una benedizione rivederla una volta ancora ma l'aurora doverla richiudere nella cassa fu terribile o signore io non avevo mai conosciuto da prima quanto preziosa sia una vita umana tornai a vagabondare ma da che ebbi perduta chiara svanirono i miei scrupoli e tornai in guerra con la società al fine mi imbarcai per livorno e di là mossi a roma piantandomi sull'ingresso del palazzo del cardinale e gli uscì nel suo cocchio dorato oh padre dissi mi conoscete voi chi siete vostro figlio risposi sottovoce il cardinale retrocesse e guardandomi attentamente meditò un istante tutti gli uomini sono miei figli disse con pacatezza eccoti dell'oro a chi mendica una volta aspetta un'elemosina la seconda gli viene aperto il carcere vattene né molestarmi da vantaggio che il cielo ti benedica in così dire salì nel cocchio diretto al vaticano la borsa che mi aveva data era ben fornita ed io contento mi avviai a terracina appena giunto oltre le paludi pontine scorsi due uomini a cavallo venirmi incontro voi mi sembrate povero amico disse l'uno fermandosi eppure siete robusto gli uomini poveri e robusti sono servizievoli e in uno pericolosi signor cavaliere ben risposto seguiteci ubidì e divenni bandito feci carriera e siccome io avevo maniere gentili e pigliavo le borse senza tagliarle gole ma qui stai buon nome potei andarmene di tempo in tempo a napoli a mangiare i maccheroni senza ombra di pericolo da due anni mi stabilì in queste parti comprandovi qualche terreno vengo chiamato affittaiuolo ne rubo più che per divertimento e per tenere esercitata la mano credo di avere appagata la vostra curiosità siamo a pochi passi dal castello ed ora domandò glindon molto interessato dal racconto della sua guida ditemi in qual modo faceste conoscenza col mio ospite e come egli si acquistò il vostro favore dei vostri amici mastro paolo volgendo gravemente i suoi neri occhi all'interrogante rispose voi di certo signore ne dovete sapere più di me sul vecchio cavaliere che ha un nome così strano tutto quello che io so è che l'altra notte io mi trovavo a intoledo a napoli quando un gentiluomo di gran compostezza mi toccò il braccio dicendomi mastro paolo ho bisogno di fare la vostra conoscenza favorite di venir con me nella taverna laggiù a bere un fiasco di lacrima cristi volentieri risposi ed entrammo seduti che fumo il cavaliere mi disse il conte di mi offerse in affitto il suo vecchio castello vicino a b conoscete il luogo lo conosco benissimo da cento anni nessuno lo ha abitato per cui è mezzo diroccato suppongo che l'affitto non sarà caro mastro paolo continuò egli io sono un filosofo e non mi curo del lusso ho bisogno di un pacifico ritiro per certi esperimenti scientifici ed il castello mi conviene purché voi mi accettiate per vicino ponendomi sotto la vostra speciale protezione sono ricco ma nulla porterò con me che valga la pena ad essere rubato intendo però di pagare una somma al conte e una a voi in questo modo fumo subito d'accordo e siccome lo strano cavaliere raddoppiò la somma da me domandata egli gode il favore di tutti i suoi vicini noi difenderemo il vecchio castello contro un esercito ora o signore che fui tanto schietto con voi siatelo voi con me chi è questo strano cavaliere un filosofo come vi disse egli stesso che cerca la pietra filosofale è una specie di mago il quale ha paura dei preti precisamente l'avete indovinato e voi siete suo pupillo lo sono ve ne auguro bene disse il bandito con serietà facendosi devotamente il segno di croce io non sono migliore degli altri ma un'anima è un'anima non faccio caso di qualche piccolo furto onesto o di colpire un uomo nella testa qualora sia necessario ma a far un patto col diavolo ah guardatevene giovane cavaliere guardatevene non abbiate timore rispose glindon ridendo il mio maestro è troppo saggio e buono per simili cose ma eccoci arrivati che maestosa rovina che magnifica prospettiva glindon fessò sta contemplando con occhio da pittore la scena che gli si svolgeva dinanzi durante il racconto del bandito era insensibilmente salito ad una considerevole altezza e si trovava sul ciglione di una roccia tappezzata di muschio e d'arbusti fra quell'altura e l'altra ove si ergeva il castello vi era un angusto ma profondo burrone coperto d'un lussureggiante fogliame così che l'occhio non poteva internarsi oltre la superficie dell'abisso la cui profondità si poteva congetturare dal cupo e monotono fragore delle acque che vi scorrevano al fondo e che ne uscivano più lontano in fangoso rivolo traversante la deserta valle a sinistra l'orizzonte si stendeva interminato e la grande trasparenza dell'atmosfera lasciava distinguere una linea di paese del quale alcun antico conquistatore aveva forse sognato fare un regno il sentiero percorso da glindon era solitario ma da quell'altura la vista era animata da castelli campanili e villaggi in lontananza napoli riluceva sotto gli ultimi raggi del sole e la rosa tinta dell'orizzonte si perdeva nell'azzurro della sua celebre baia più lungi ancora fra mezzo ad uno scuro fogliame sorgevano i diroccati pilastri dell'antichissima posidonia l'afra la nebbia sorgeva il vesuvio mentre dall'opposto lato nelle svariate pianure vie più abbellite dalla lontananza scorrevano molti ruscelli in riva i quali ad intervallo di secoli l'etrusco il sibarita il romano il saraceno il normanno aveva piantato la sua tenda tutte le visioni del passato le tempestose vicende dell'italia meridionale si affacciarono allo spirito dell'artista mentre contemplava quella scena allora volgendosi indietro mirò le grigie muraglie del castello nel quale conoscerebbe quei segreti che gli darebbero sul futuro un impero più possente che la sua memoria non avesse sul passato era una di quelle fortezze baronali edificate sul cominciare del medioevo priva di quel grandioso proprio delle chiese gotiche di tale epoca ma rozza vasta e minacciosa quantunque rovina un ponte di legno gettato sul burrone dava il passo a due cavalieri di fronte e scricchiolò sotto le zampe del destriero di glindon una strada altre volte larga e selciata ma attualmente ingombra di lunga erbe selvatiche metteva all'esterno cortile del castello le porte erano aperte e mezzo al fabbricato da quel lato era caduto i ruderi erano nascosti da edera secolare però entrando nel cortile interno glindon fu lieto di scorgere un'apparenza di minor decadimento alcuni rosai selvatici abbellivano le fosche mura e nel centro una fontana in cui le acque ricadevano con piacevole mormorio dalle fauci d'un gigantesco tritone ivi mesnurli venne incontro con un sorriso benvenuto il mio amico e pupillo colui che va in cerca del vero può trovare in questa solitudine un'immortale accademia capitolo secondo a bari invece di giudicare pitagora il quale insegnava tali cose come un negromante o d'un mago lo venerava qual essere divino iamblico vita di pitagora i domestici che mesnur aveva riuniti nella sua strana abitazione erano quali convenivano ad un filosofo che di poco ha bisogna un vecchio armeno che glindon riconobbe per averlo veduto in napoli ai servigi del mistico una robusta contadina del villaggio raccomandata da mastro paolo e due giovani dalla lunga capigliatura e dal fiero sguardo creature del medesimo facevano il servizio del castello le stanze abitate da mesnur erano comode ben difese dalle intemperie con un avanzo dell'antico splendore negli arazzi scoloriti che ricoprivano le pareti e nelle tavole marmore e di fino lavoro la stanza dal letto di glindon dava su una specie di belvedere o terrazza dominante una bella ed estesa veduta dal lato opposto una lunga galleria e 10 o 12 gradini la separavano dalla stanza particolare del mistico in tutto il castello regnava un'aria cupa ma non disagradevole per la quiete opportuna agli studi cui egli era ora destinato per vari giorni majnur ricusò di conferire con glindon su ciò che gli stava a cuore tutto disse egli è apparecchiato al di fuori ma non già interiormente perché l'anima vostra deve avvezzarsi al luogo e armonizzare con la circostante natura essendo essa la sorgente di qualsiasi ispirazione poscia mesnur si volse a più graditi soggetti e facendosi accompagnare dal giovane inglese nelle sue passeggiate attraverso le adiacenti solitudini approvava sorridendo l'entusiasmo che la loro severa bellezza in lui suscitava allora profondeva al suo pupillo tesori di cognizioni che sembravano sconfinate e inesauribili gli dava la più curiosa e minuta spiegazione del carattere credenze e abitudini delle varie razze d'uomini che successivamente dominarono in quelle contrade è vero che simili descrizioni non si trovano nei libri né hanno appoggio in autorità scientifiche ma mesnur le rendeva affascinanti narrando con la persuasione di uno che ne era stato testimonio oculare talvolta favellava sui durevoli e profondi misteri della natura con un'eloquenza la quale dava ai medesimi un colorito più poetico che scientifico a poco a poco il giovane artista si trovò sublimato dai colloqui col maestro l'ardente febbre dei suoi desideri si era calmata e il suo spirito si acquetava in una tranquilla contemplazione egli si sentì migliore e nel silenzio dei sensi gli pareva udire la voce dell'anima sua era questo lo stato in cui evidentemente mesnur aveva voluto ridurre il neofita e in ciò seguiva la via tenuta dai saggi in qualunque iniziazione elementare poiché l'uomo il quale mira a far scoperte deve prima di tutto ridursi ad una specie di astratto idealismo per rafforzare le sue facoltà contemplative e immaginative glindon rimarcò che mesnur nelle sue escursioni si arrestava sovente dove il fogliame era più denso per raccogliere erbe o fiori e si ricordò di aver veduto qualche volta zanoni fare altrettanto possono chiese egli un giorno a mesnur questi ultimi prodotti della natura che fioriscono e cadono nel breve periodo di un giorno servire alla scienza dei grandi segreti c'è forse in loro un farmaco per l'anima e per il corpo da procurarci non solo la sanità ma un'immortalità spirituale se uno straniero rispose mesnur visitando una tribù nomade prima che la medesima conosca alcuna proprietà delle erbe dicessi ai selvaggi come le erbe che giornalmente calpestano sono fornite di grandi virtù che una restituirebbe la salute al fratello già moribondo l'altra renderebbe idiota il più saggio di loro la terza getterebbe a terra morto il loro più gagliardo campione che lacrime sorrisi vigore malattia follia e ragione veglia e sonno vita e morte sono raccolte in quelle spregiate foglie se uno straniero ripeto dicesse tutto ciò ai selvaggi non lo crederebbero mago bugiardo orbene gli uomini sono ancora all'oscuro di metà delle vertù del mondo vegetale come il selvaggio nel caso supposto le ignora totalmente abbiamo in noi delle facoltà con le quali certe erbe hanno affinità e potere il ringiovanimento degli antichi non è del tutto favoloso il carattere apparente di mesnur differiva assai da quello di zanoni mentre affascinava meno glindon lo impressionava di più i colloqui di zanoni palesavano un interessamento profondo per l'umanità tutta un senso quasi entusiasta per l'arte ed il bello ciò che si vociferava delle sue abitudini nobilitava il mistero della sua vita con atti di carità e beneficenza in tutto ciò vi era alcunché di geniale ed umano che addolciva il timore da lui ispirato eccitando sospetti su certi segreti che egli si arrogava mesnur invece pareva fatto indifferente a tutto il mondo odierno non commetteva il male ma era del pari apatico nell'operare il bene nessuna azione di lui suppliva ad un bisogno nessuna parola compassionava una miseria sembrava che in esso il cuore si fosse trasfuso nell'intelletto si muoveva pensava e viveva con una metodica e calma astrazione anziché come uno che insieme alla forma corporea conserva i sentimenti e le simpatie della propria specie una volta glindon marcando il tono di suprema indifferenza con cui favellava dei cambiamenti del globo dei quali affermava essere stato testimonio si arrischiò a notare la distinzione da lui osservata è vero rispose freddamente mesnur la mia è un'esistenza contemplativa quella di zanoni di godimento quando colgo un'erba penso ai suoi usi egli invece si fermerà ad ammirarne le bellezze e voi reputate la vostra esistenza superiore a quella di lui no la sua è quella della gioventù la mia quella della vecchiaia noi coltivamo facoltà diverse e ciascuno ha poteri qui l'altro non può aspirare coloro che seguono zanoni vivono meglio coloro che suoniscono a me conoscono di più infatti udì replicò glindon che i suoi compagni a napoli si facevano migliori dopo aver conservato con lui eppure quegli uomini dissipati e corrotti non erano strani compagni per un saggio il terribile potere sulla volontà che gli spiegò nella morte del principe di e in quella del conte ughelli non sembrava una dote propria di un tranquillo seguace della virtù è vero disse mesnur con un sorriso agghiacciato codesto all'errore comuni ai filosofi che vogliono immischiarsi nella vita attiva dell'umana specie voi non potete rendere servigio ad uno senza danneggiare altri né proteggere i buoni senza guerreggiare quei malvagi e se bramate riformare gli errori è forza vi abbassiate a vivere quei traviati e conoscerne le colpe così pensava paracelso uomo grande benché spesso calugnato io non cado in simile follia vivo soltanto nella conoscenza non già con la specie umana un'altra volta glindon interrogò il mistico sulla natura di quella confraternita che zanoni aveva menzionato credo di non ingannarmi congetturando che voi o zanone apparteniate ai fratelli rosa croce e voi immaginate rispose mesh nur che non esistessero mistiche solenni riunioni di uomini tendenti al medesimo scopo per vie diverse prima che gli arabi di damasco nel 1378 insegnassero ad un girovago allevanno i segreti sui quali si fonda l'istituzione dei rosa croce convengo però che questi formavano una setta discendente dalle grandi e primitive scuole erano più saggi degli alchimisti ma i loro maestri lo furono assai più e di quest'ordine primitivo quanti membri esistono ancora zanoni e dio come due soli e voi avete il potere di insegnare il segreto che sfida la morte il vostro antenato glindon raggiunse questo segreto ma egli morì piuttosto che sopravvivere all'unico essere che amava noi non abbiamo o mio pupillo alcuna arte con la quale ci sia dato porre la morte fuori del nostro desiderio o della volontà del cielo queste mura possono crollare schiacciarmi noi giungiamo soltanto alla scoperta dell'umano organismo a conoscere perché alcune parti del medesimo si ossifichino e il sangue rallenti il suo corso per cui applichiamo continui specifici ad impedire gli effetti del tempo tutto ciò non è magico ma arte medica rettamente applicata nel nostro ordine tendiamo primo a conoscere quello che nobilita l'intelletto secondo quello che preserva il corpo ma la semplice arte che con estratti di sughi e semplici rafforza il vigore animale arresta il progresso del decadimento è il più nobile segreto che ora io non voglio spiegarvi col quale il calorico principio primordiale dell'esistenza come pure lo definisce eraclito può rendersi rinnovatore perpetuo di essa tutto ciò io dico non basterebbe a salvarci noi giungiamo altresì a disarmare a eludere la rabbia degli uomini a rivolgere le spade di nostri nemici le une contro le altre a scivolare non incorporei ma invisibili agli occhi sui quali abbiamo il potere di gettare nebbia ed oscurità questa facoltà alcuni sapienti le attribuivano alla virtù dell'agata a vari la riponeva nella sua freccia io vi mostrerò un'erba giù nella valle che vi fornirà un incantesimo più infallibile dell'agata e della freccia in una parola sappiate che i più umili e piccoli prodotti della natura sono appunto quelli che forniscono le più sublimi proprietà ma disse glindon se possedete questi sublimi segreti perché tanta ritenutezza nel propagarla il charlatanismo differisce dalla vera scienza in ciò che questa comunica al mondo il processo con cui raggiunse i suoi fini mentre il primo vanta effetti meravigliosi rifiutando di spiegarne le cause ben detto o logico scolastico rispose mashnur ma rifletti meglio supponi che noi comunicassimo quanto sappiamo a tutto il genere umano indistintamente ai buoni e ai malvagi saremmo conciò benefattori o flagelli dell'umanità immagina il tiranno il sensuale l'uomo d'indole perverse e corrotta possessori dei nostri tremendi poteri non sarebbero essi altrettanti demoni sulla terra e fosse pure l'eguale privilegio dato i buoni in quale stato sarebbe ridotta la società scoppierebbe una lotta titanica i buoni sempre sulla difensiva e i cattivi sempre all'assalto ora nella condizione attuale del mondo il male come più attivo del bene prevalerebbe è per codesti motivi che noi siamo obbligati solennemente a comunicare i nostri segreti a coloro soltanto che non ne abuseranno e che se ne giovino per purificare le passioni e sublimare i loro desideri la natura ci assiste in simile scelta perché colloca tremendi custodi e insormontabili barriere fra il vizio ambizioso e la scienza celeste di codesto tenore erano i numerosi colloqui di mashnur col suo pupillo colloqui che mentre sembravano rivolte all'intelletto infiammavano via più la fantasia di lui era il disconoscere tutti i poteri che la natura ben investigata non giunge a creare che dava un'aria di probabilità a quelli che mashnur affermava potersi da essa ottenere scorsero giorni e settimane e lo spirito di glindon avvezzandosi a quella esistenza segregata e contemplativa scordò le vanità e le chimere del mondo esteriore una sera passeggiò a lungo sugli spalti contemplando le stelle a misura che ad una ad una spuntavano al cadere della notte già mai aveva cotanto sensibilmente sentito l'influenza del cielo e della terra sull'uomo e quanto le suste della nostra intelligenza siano mosse ed attirate dal solenne influsso della natura come un malato sul quale operano a gradi gli agenti del mesmerismo sente crescersi forza al cuore da quel vasto e universale magnetismo che è la vita della creazione e congiunge gli atomi al tutto glindon sentiva una strana e ineffabile coscienza di potere di qualche cosa di grande entro questa creta mortale simile alla fievole reminiscenza ad una santa esistenza anteriore un impulso cui egli non poteva resistere lo spinse in cerca del mistico per chiedergli in quell'ora l'iniziazione nei mondi collocati al di là del nostro si sentiva preparato a ricevere il soffio divino entrò nel castello traversando l'oscura galleria conducente alle stanze di mejnur capitolo terzo l'uomo e l'occhio delle cose euripide va altresì un certo potere statico e sublimante il quale quando venga a tempo debito eccitato da vivo desiderio e da fortissima immaginazione può condurre lo spirito oltre il visibile anche ad oggetti assenti e lontanissimi von elmond l'appartamento di mejnur consisteva in due camere comunicanti una con l'altra ed una terza in cui dormiva tutte situate in una torre quadrata che dominava un negro burrone pieno di cespugli la prima stanza dove glindo ne entrò era vuota andò oltre con passi leggeri aprendo la porta della seconda egli rimase immobile sul limitare soverchiato da un'acuta fragranza che ne usciva una specie di nebbia addensava l'aria anziché renderla oscura poiché il vapore invece d'essere nero somigliava ad una nuvola biancastra movente silenta con gravi ondulazioni le quali si succedevano nello spazio come flutto a flutto un brivido mortale colpì il cuore del giovane che sentì agghiacciarsi il sangue rimase inchiodato sul limitare e volgendo involontariamente gli occhi a quel vapore e incerto se fosse un gioco della propria fantasia li parve scorgere come uno spettro di gigantesche forme muoversi attraverso la nebbia ma non era invece la nebbia stessa che formava fantasticamente quei vapori entro i quali si muovevano apparizioni impalpabili e senza corpo si narra che un gran pittore dell'antichità dipingendo le ombre rappresentò i mostri che si ravvolgono nel fiume della morte con tale stupendo artificio che il fiume medesimo appariva all'occhio come uno spettro e le figure sangui che erano in esso ravvolgevansi per quella morta agora fin tanto che l'occhio a forza di mirarle non più le discerneva dall'elemento soprannaturale in cui sembrava sprofondassero somiglianti erano le forme ondulanti in mezzo alla nebbia ma prima che clinton potesse respirare in quell'atmosfera poiché la vita pareva in lui sospesa o tramutata in una specie d'orribile estasi si sentì afferrare per la mano e trascinare nella vicina stanza udì chiuder dietro l'uscio il sangue ripigliò il suo corso nelle vene e scorse al fianco mejnur fu preso da violente convulsioni in tutte le membra e cade esanime a terra allorché recuperò i sensi era all'aria aperta in un rozzo balcone di pietra sporgente da quella stanza le stelle splendevano sopra l'oscura voragine irradiando il pacato viso del mistico il quale si teneva a lui vicino con le braccia incrociate giovane disse mejnur giudica da quant'ora provasti come sia pericoloso cercare il sapere prima ad essere preparato a riceverlo un istante ancora nell'aria di quella stanza e tu eri cadavere e di qual natura è adunque il sapere che voi mortali al par di me potete cercare in quella ghiacciata atmosfera il respirare la quale era mortale per me mejnur continuò glindon e l'intenso desiderio aguzzato dal corso pericolo vie più lo struggeva io sono preparato almeno ai primi passi vengo a voi come anticamente il pupillo agli erofante e vi domando l'iniziazione mejnur pose la mano sul cuore del giovane batteva regolare e ardito lo guardò con un'aria che nelle sue rigide e impassibili fattezze somigliava all'ammirazione e mormorò tra sé certamente con tanto coraggio rinvegne al fine un vero neofita quindi soggiunse ad alta voce sia pure come brami la prima iniziazione dell'uomo è l'estasi nei sogni a principio ogni umana cognizione nei sogni si apre sopra l'incommensurabile spazio il primo sacro ponte che mette in comunicazione spirito con spirito il nostro mondo col mondo superiore affissa intensamente quella stella glindon ubidì e mejnur si ritirò nella stanza ad onde emerse lento un vapore alquanto più biancastro ed odore menforte di quel che poc'anzi aveva prodotto un effetto si funesto sul giovane questo invece avvolgendosi d'intorno a lui poscia di leguandosi aspire per l'aria esalava una fragranza rinfrescante salutare glindon teneva fissi gli occhi alla stella che grado a grado pareva trarre il suo sguardo una specie di languore si diffuse nelle sue membra ma senza comunicarsi allo spirito e nel tempo stesso sentì una volatile ed efficace senza bagnargli le tempie ed un lieve fremito scuoterlo e diffondersi per le vene il languore crebbe egli non rimuoveva gli occhi dalla stella la cui luminosa circonferenza pareva si espandesse il lucicore si rese gradatamente più dolce e trasparente e sempre allargandosi occupò un grandissimo spazio al fine in mezzo ad un'atmosfera lucida come argento glindon sentì qualche cosa che ardeva nel suo cerebro come si spezzasse una forte catena e nel punto stesso provò un senso di celeste libertà di inesplicabile delizia di liberazione dal corpo di una leggerezza qual da ugello sicché gli pareva di trasvolare egli pure nello spazio e chi bramate ora di vedere fra i mortali mormorò la voce di mechnur viola e zanoni rispose glindon in cuor suo ma sentì di non aver aperto le labbra d'improvviso a questa mentale risposta cominciarono a svolgersi con rapido succedersi ombrosi paesaggi attraverso quello spazio in cui null'altro era discernibile che un traslucido chiarore alberi montagne città mari trapassavano come scene di fantasmagoria da ultimo si fecero stazionarie e degli vite lungo il dolce declivio di una spiaggia marittima una grotta circondata da mirteti ed aranci sopra un'altura in lontananza splendevano le biancheggianti reliquie di un antico edificio e la luna nel suo pacifico chiarore irraggiando tutta la scena inondava di luce due figure entro la grotta a piede la quale venivano a battere i flutti azzurrini il cui monotono rumore gli pareva udire le riconobbe zanoni era seduto sopra un frammento di pietra viola reclinata al suo fianco lo contemplava con l'espressione della piena felicità propria dell'amore perfetto volete ora udirli parlare sussurrò meshnur e di nuovo glindon senza aprir bocca rispose internamente sì le loro voci gli giunsero allora all'orecchio ma in toni che gli sembravano strani tant'erano sommessi come se venissero dal lontanissimo quali voci udite nelle visioni d'alcun venerabile uomo da una distante sfera e come mai diceva viola puoi compiacerti nel darretta ad una ignorante perché il cuore non è mai ignorante perché i misteri del sentimento sono pieni di meraviglie come quelli dell'intelletto se tu non puoi comprendere il linguaggio dei miei pensieri talvolta io trovo dolci enigmi nelle tue emozioni a non dir così replicava viola lasciandogli teneramente con un braccio il collo e la sua faccia appariva più bella per il rossore in mezzo a quella luce celeste gli enigmi non sono che il linguaggio comune d'amore e l'amore può spiegarli finché io non ti conobbi finché non vissi con te finché non appresi a spiare il tuo passo nell'assenza e vederti in ogni dove anche lontano io non sognavo quanto sia forte e intima la connessione fra la natura e l'anima nostra ed ora continuò sono certa di ciò che da prima io credevo che i sentimenti quali da principio mi traevano verso di te non fossero d'amore adesso conosco confrontando il presente col passato che il sentimento da me allora provato proveniva tutto dall'intelletto ora non sopporterei udirti dire viola si felice con un altro né io potrei dirlo a viola non stancarti mai d'assicurarmi che sei felice felice sì mentre tu pur lo sei ma talvolta appari così tristo o zanoni perché l'umana vita è tanto breve perché noi dobbiamo da ultimo separarci perché la luna risplende ancora allorché l'usignolo tace dal suo gorgheggio un altro poco e i tuoi occhi si appanneranno sparirà la tua bellezza e queste chiome che ora godo in anellare saranno canute e tu crudele rispose viola con emozione io non vedrò mai in te i segni degli anni ma non invecchieremo insieme avvezzando l'occhio nostro ad un cambiamento cui non parteciperà il cuore zanoni sospirò e volgendo il capo pareva consultarsi l'attenzione di glindo raddoppiò fosse pur così mormorò zanoni poi guardando fisso viola aggiunse con un mezzo sorriso non hai curiosità di conoscere più a fondo l'amante che un tempo credevi un agente dello spirito maligno nessuna quanto bramo sapere dell'uomo amato lo conosco tu mami dissi che la mia esistenza è diversa dalla comune non vorresti dividerla con me io già la divido ma se fosse possibile essere giovani e belli per sempre finché l'universo arda a noi d'intorno qual rogo funebre tali saremo noi allorché lasceremo questo mondo zanoni rimase muto alcuni istanti indi soggiunse puoi ricordare quei brillanti aerei sogni che un tempo scendevano a visitarti allorquando fantasticavi essere predestinata ad una sorte diversa dalla comune ai figli della terra zanoni il mio destino l'ho compiuto e non hai terrore del futuro del futuro io lo scordo passato presente avvenire stanno nel tuo sorriso a zanoni non scherzare con le folli credulità della mia giovinezza sono divenuta migliore e più umile dopo che la tua presenza fugò le nebbie dell'atmosfera il futuro quando abbia motivo di temerlo alzerò gli occhi al cielo rammentando colui che regge il nostro destino e mentre viola sollevava gli occhi un'oscura nube si diffuse sulla scena coprendo gli alberi d'arancio l'azzurro mare le sabbie ultime a scomparire all'estatico sguardo di glindon furono le immagini di viola e di zanoni la faccia di lei serena e raggiante quella di lui cupa e meditabonda e più dell'usato avente una rigida espressione di banconica bellezza e di profonda quiete sorgete disse mechnur la vostra iniziazione è cominciata taluni di quei che pretendono alla scienza solenne vi avrebbero essi pure mostrato persone lontane vantando nel loro gergo ciarlatanesco il segreto elettricismo e il fluido magnetico delle cui vere proprietà conoscono soltanto i germi e gli elementi io vi darò i libri di codesti gloriosi zimbelli e troverete come nei secoli d'ignoranza molti abbiano inciampato sul limitare della vera scienza fantasticando d'aver penetrato nel santuario di essa ermete alberto e paracelso io vi ho conosciuti eravate nobili intelletti ma pure destinati a cadere nell'errore non avendo l'anima abbastanza piena di fede e di coraggio per raggiungere lo scopo cui tendevate anche il modesto paracelso nutriva un orgoglio superiore a tutte le nostre cognizioni e gli pensava di poter creare una razza d'uomini col mezzo della chimica arrogandosi il potere divino il soffio vitale avrebbe fatto uomini per confessare da ultimo che erano fantocci l'arte mia consiste nel rendere l'uomo superiore alla sua specie ma voi siete impaziente di queste digressioni scusate tutti i cotesti gran sognatori come voi bramate di essere furono miei intimi amici ed ora sono fraci di cadaveri al pari degli oratori che io ascoltai sulla pnix in atene fiammeggiando come comete con le loro parole nell'assemblea del popolo e spegnendo ogni ardore in battaglia simili a o demostene mio codardo eroe come erano rapide le tue calcagne a cheronea di nuovo impaziente fanciullo io potrei narrarvi tali verità del passato che vi renderebbero un luminare delle scuole ma voi anelate soltanto a penetrare le ombre del futuro il vostro desiderio sarà appagato prima però fa duopo che lo spirito venga esercitato ritiratevi nella vostra stanza e dormite osservate un austero digiuno non leggete libri meditate immaginate sognate e inselvatichitevi se lo volete il pensiero emergerà all'ultimo dal suo caos prima della mezzanotte venite nuovamente in cerca di me capitolo quarto è che noi i quali ci sforziamo d'elevarci a un punto così sublime dobbiamo studiare prima di tutto di lasciare dietro gli effetti carnali la fragilità dei sensi le passioni proprie della materia in secondo luogo imparare con quali mezzi sia possibile salire nelle regioni dell'intelletto puro unirsi con le potenze superiori senza delle quali non guadagneremo mai la conoscenza delle cose segrete nella magia che scopre le vere meraviglie tritemio delle cose segrete e degli spiriti segreti pochi minuti avanti la mezzanotte glindon rientrò nelle stanze del mistico aveva rigorosamente osservato il digiuno imposto e nell'intenso fantasticare nell'estasi in cui lo aveva immerso l'esaltata immaginazione non solo era insensibile ai bisogni fisici ma si sentiva superiore ai medesimi meshnur sedette vicino al discepolo e così favelò l'uomo è arrogante in proporzione della sua ignoranza e tende per natura all'egoismo l'uomo nella sua infanzia del sapere pensa che tutta la creazione sia fatta per lui per molti secoli egli vide negli innumerevoli mondi che risplendono nello spazio come le bolle fosforiche ed un oceano senza confini null'altro che lumi e torce domestiche che la provvidenza si compiacque di là collocare al solo oggetto di rendere la notte più gradevole l'astronomia corresse da poi quest'illusione dell'umana vanità ed oggi il mortale confessa con ripugnanza che gli astri sono altrettanti mondi più grandi e gloriosi di quello da lui abitato che la terra su cui striscia è un punto appena visibile nell'immensità del creato ma il dio profonde la vita sì nel piccolo che nel grande il viaggiatore guarda un albero e immagina che i suoi rami siano fatti per dargli ricovero nei calori estivi il tronco per riscaldarlo nel verno e il creatore in ciascuna foglia di quei rami collocò un mondo in cui vivono innumerevoli esseri ogni goccia d'acqua giù nel canale è un orbe più popolato che non sia d'uomini un regno quindi in tutte le parti di questo immenso universo la scienza discopre una novella vita ed essa un principio invadente e perfino le cose che sembrano morire e putrefarsi generano nuovi esseri e si trasmutano per rinovellare le forme della materia ragionando adunque per evidente analogia se non una foglia non una goccia d'acqua sono non meno di quella stella un mondo popolato di viventi se l'uomo medesimo è un mondo per altri esseri che a milioni e miriadi vivono nel suo sangue ed abitano nelle sue membra ugualmente come egli abita la terra il senso comune se i vostri scolastici ne avessero basterebbe per insegnar loro che il circonfluente infinito da noi chiamato spazio l'impalpabile senza limiti che separa la terra dalla luna e dagli astri è animato anch'esso da una vita relativa e a lui appropriata e non è un visibile assurdo supporre che l'essere si trova sopra ogni foglia e manca nelle immensità dello spazio la legge del gran sistema vieta che si sperda un solo atomo che vi sia luogo dove non respiri qualche essere animato perfino i sepolcri sono ricettacolo di produzione ed animazione è vero quanto asserisco or bene come potreste supporre che lo spazio il quale è lo stesso infinito sia soltanto una solitudine senza vita e di minore utilità nella gran macchina dell'universo del carcame d'un cane d'una foglia o d'una goccia d'acqua tutti popolati ma se il microscopio scopre all'occhio le creature in esse viventi l'uomo non inventò ancora alcun tubo meccanico per scoprire gli enti più nobili e privilegiati i quali scorrono nell'aria non soggetta al limiti eppure vi ha una tremenda affinità fra questi enti e l'uomo e da ciò appunto ebbero origine anticamente racconti e leggende non vere del tutto ma neppur del tutto false e la credenza nelle apparizioni e negli spettri che se erano più comuni alle primigenie semplici tribù nella primordiale età del mondo che non agli uomini ottusi dell'epoca attuale è perché i sensi erano allora più fini nella stessa guisa che il selvaggio può scorgere o annasare a grandissima distanza le orme d'un nemico orme invisibili ai sensi grossolani dell'uomo incivilito così pure la barriera fra lui e le creature del mondo aereo è meno densa ed oscura mi intendi con tutta l'anima rispose glindon ma per oltrepassare questa barriera l'anima con cui ora mi ascolti deve prima di tutto essere affinata da un intenso entusiasmo purificata da tutti i desideri mondani non senza ragione i cosiddetti maghi in ogni tempo e paese insistettero sulla castità e l'astemio fantasticare quali mezzi per giungere all'ispirazione allorché il neofita è in tal guisa predisposto la scienza può essere adoperata per aiutarlo la stessa vista può rendersi più acuta i nervi più sensibili lo spirito più scrutatore e l'aria lo spazio con agenti segreti della chimica sublime più chiari e palpabili tutto questo non è magico come ritengono i creduli la magia o la scienza che viola la natura non esiste come vi dissi poc'anzi bensì va una scienza la quale può indagare la natura ora vivono nello spazio milioni di esseri non spirituali a rigor di termini perché tutti hanno come gli animalucci invisibili ad occhio nudo certe forme di materia quantunque così delicata aerea e sottile che potrebbe paragonarsi ad un esile involucro che racchiude lo spirito da ciò i graziosi fantasmi detti dei rosa croce silfi e gnomi però a dir vero codeste razze e tribù abitanti nello spazio differiscono tra loro negli attributi e nei poteri assai più che il calmucco dal greco nelle forme corporee voi vedete quanti animaletti vi sono in una goccia d'acqua e come alcuni di essi sono mostri grandi e terribili in confronto degli altri parimenti accade degli abitatori dell'atmosfera taluni dotati di sorprendente saggezza altri di malignità orrenda alcuni ostili come le furie e l'uomo altri graziosi e messaggeri fra la terra e il cielo ora colui che vuol mettersi in comunicazione con questi esseri di sì varia natura somiglia al viaggiatore che tenta penetrare in regioni sconosciute e si espone a strani pericoli a terrori non preveduti ottenuta che si sia questa comunicazione io non posso garantirvi dei rischi che si vanno ad affrontare per viaggio io non posso dirigervi per sentieri ingombri dovete affrontarli solo ma se vi è tanto cara l'esistenza se bramate soltanto di vivere non importa quale scopo corroborando i nervi e le vene con l'elisir vivificante degli alchimisti perché dunque cercare i pericoli delle tribù intermedie per la ragione che il vero elisir il quale trasfonde una più gloriosa vita nelle membra aguzza i sensi a tal punto che codeste larve dell'aria diventano a lui apparenti e ascoltabili la onde qualora non si abitui gradatamente a soffrire la vista dei fantasmi e domarne la malignità una tale esistenza privilegiata sarebbe il più fatale dono che un uomo possa acquistare perciò quantunque l'elisir sia composto d'erbe semplicissime pure soltanto l'individuo che passò attraverso ardua prove è disposto a sentirne l'efficacia taluni invasi da un terrore intollerabile per gli sguardi in loro fissati al primo ispirare l'elisir sperimentarono essere questo meno efficace a salvarli che non l'agonia della violentata natura a distruggerli ai non disposti l'elisir è veleno mortalissimo fra gli abitatori del limitare vena uno il quale supera in malignità tutta la loro tribù uno ai cui occhi paralizzarono i più coraggiosi e il cui potere si aumenta sullo spirito in proporzione del timore vi mancherà il coraggio no le vostre parole anzi l'infiammano seguitemi adunque sottoponetevi alle fatiche iniziatrici così dicendo me snorlo condusse nella stanza interna e cominciò a spiegargli certe operazioni chimiche le quali benché semplici per se stesse glindon vide subito essere capaci di straordinari effetti in tempi remoti disse me snor sorridendo i nostri confratelli erano soventi obbligati a ricorrere alle illusioni per proteggere le realtà ed essendo destri meccanici o esperti chimici ottennero fama di negromanti mirate quanto sia facile cosa il costruire lo spettro del leone che scopriva il celebre leonardo da vinci e glindon vide con sorpresa e diletto i semplici mezzi con cui si può dar corpo alle più strane fantasie i magici paesaggi di cui godeva giambattista porta l'apparente cangiar delle stagioni con cui alberto magno rese stupefatto il conte d'olanda perfino quelle terribili illusioni dello spettro e dell'immagine con cui i negromanti di eraclea risvegliarono la coscienza del vincitore di platea me snor mostrò al suo pupillo come il contadino incanta i fanciulletti la sera del natale con la sua lanterna magica e la fantasmagoria ed ora ridi per sempre della magia questi giocarelli e frivolezze della scienza erano guardati dagli uomini con aborrimento e puniti di morte dai re e dagli inquisitori ma è il tramutamento dei metalli degli alchimisti la natura medesima è un laboratorio e gli elementi tutti sono soggetti a perpetuo cangiarsi facile il far loro più facile pronto far la perla il rubino il diamante o sì purtroppo i savi ravvisarono la magia anche in ciò mentre non ravvisarono invece magia alcuna nella scoperta che con la semplicissima mistura di cose d'uso giornaliere si forma un demonio il quale ucciderebbe a migliaia i loro simili col soffio di un fuoco divoratore scoprite ciò che distrugge la vita e sarete uomo grande scoprite ciò che la prolungherebbe e sarete un impostore scoprite alcuna macchina la quale arricchisca vi è più il ricco e impoverisca il povero gli uomini vi alzeranno una statua scoprite invece qualche mistero che faccia sparire le disparità fisiche ed essi atterreranno le proprie case per lapidarvi a pupillo mio tale è il mondo che zanoni ha sempre caro ma voi ed io lo abbandoneremo a se stesso ora che vedeste alcuni pochi effetti della scienza cominciate ad impararne la grammatica in così dire mesnur pose innanzi al pupillo certi lavori in cui spese il restante della notte capitolo quinto il gentil calidoro avea percorso lungo viaggio e faticoso assai allorché un giorno non pastorello vide carolar fra cespulli e al fianco suo leggiadra una donzella spencer la regina delle fate per molti e molti giorni il pupillo di mesnur rimase assorto in lavori la cui riuscita dipendeva dalla più vigilante attenzione e da calcoli sublimi e minuti stupendi risultati compensarono le sue fatiche e stimolarono il diluizelo negli studi si limitavano alle scoperte chimiche nelle quali mi sia lecito il dire che le più grandi meraviglie dell'organismo della vita fisica vengono tratte in luce dagli esperimenti sull'azione vivificante del calorico glindon fu sorpreso tra le altre cose scoprendo che menjur dava grande importanza ai più astrusi misteri che i pitagorici attribuivano alla scienza occulta dei numeri una nuova luce li brillò agli occhi e cominciò a intravedere che il potere medesimo di predire o meglio di calcolare gli effetti poteva qui c'è una lacuna nel manoscritto rimarcò che l'ultimo breve processo col quale in ciascun esperimento si effettuava la meraviglia menjur lo riservava a sé ricusando a comunicarne il segreto fatta qualche rimostranza ottenne una risposta severa e per nulla soddisfacente credete voi disse menjur che ad un semplice pupillo le cui doti non sono ancora perfezionate io voglia dar poteri che possono mettere sossopra il mondo sociale gli ultimi segreti si appalesano solo a quelli della cui virtù il maestro è convinto pazienza il lavoro è per se stesso un gran purificatore dello spirito e a misura che questo divenga atto a percepirli i segreti si schiariranno grado a grado da sé menjur da ultimo si dichiarò soddisfatto dai progressi del suo pupillo sta per suonare l'ora disse gli che voi varcherete la grande barriera dell'aria che gradatamente potrete affrontare il terribile custode del limitare continuate i lavori reprimete l'impazienza per i risultati finché potete scandagliare le cause io vi lascio per un mese e se trascorso questo periodo al mio ritorno avrete compiuti i lavori affidativi e preparato lo spirito ad iniziarsi mediante la contemplazione e l'austero meditare vi faccio promessa che l'iniziazione avrà principio un solo ricordo vi do abbiatelo per un assoluto comando non mettete piede in questa stanza si trovavano nella camera dove si erano fatti principali esperimenti e dove glindon la notte che si credette solo per poco non rimase vittima della sua intrusione non mettete piede in questa stanza fino al mio ritorno e semmai per bisogno di qualche strumento necessario ai vostri studi doveste arrischiare di entrare qui guardatevi da accendere la nafta in questi vasi ed aprire gli altri che stanno negli scaffali io vi lascio la chiave per sperimentare la vostra astinenza e il dominio che avete sopra voi stesso questa tentazione o giovane forma parte dell'iniziazione così dicendo mesnur gli pose in mano la chiave e sul tramonto abbandonò il castello per molti giorni glindon continuò immerso in studi che fiaccarono eccessivamente le di lui facoltà mentale anche i parziali risultati dipendevano talmente dalle astrazioni dello spirito e dalla minutezza dei suoi calcoli che non aveva campo di occupare in altro il pensiero codesta perpetua tensione di mente era senza dubbio lo scopo che si era proposto mesnur nell'imporgli lavori i quali a rigore parevano estranei alla riuscita cui tendeva così lo studio delle matematiche elementari per esempio serve non tanto a sciogliere problemi di poca utilità quanto ad avvezzare l'intelletto alla comprensione dall'analisi delle verità generali non era ancora trascorsa la metà del mese che il pupillo ebbe finiti i lavori assegnati dal mistico allora lo spirito riavendosi dalla concentrazione dal meccanismo dell'applicarsi tornò a spaziare in irrequiete fantasie e cupe congetture l'indole sua scrutatrice superba aizzata dal divieto ricevuto lo spingeva a guardare con avida curiosità la chiave della stanza proibita cominciò a sdegnarsi di una prova di costanza che gli sembrava frivola e puerile quali racconti da balia andava ridestando per spaventarlo come mai le nude pareti di una stanza in cui egli aveva tante volte atteso con sicurezza i suoi lavori potrebbero minacciare reali pericoli in ogni caso non dovevano essere che illusori come quelli che il mistico gli insegnò a sprezzare l'ombra di un leone un fantasma chimico glinton perdette in parte la sua riverenza per meshnur al riflettere come con simili mezzi egli volesse imporre al pupillo da lui istruito pur non di meno resiste alle spinte della curiosità e dell'orgoglio e per non cedervi fece lunghi passeggi sulle colline e nelle valli circondanti il castello provandosi di soggiogare l'irrequieto spirito con la fatica corporale un giorno salendo da un profondo burrone si trovò d'improvviso in una di quelle scene italiane di feste campestri e giulive che sembra facciano rivivere i tempi classici era una festa religiosa e agricola solennità annuale per i contadini delle vicinanze gli uniti fuori del villaggio tornavano da una processione alla vicina cappella raccolti in gruppi i vecchi bevevano e la gioventù danzava tutti allegri e felici il quadro di quella schietta gioia dell'ignoranza non curante contrastava sì fortemente con gli intensi studi di glindon e l'acuto desiderio della saggezza che tormentava da sì lungo tempo la sua vita e gli ardeva in cuore che egli ne rimase tocco mentre stava solo contemplando i contadini sentì di nuovo che ipur era giovane e la memoria di quanto era disposto a sacrificare lo punse come uno straziante rimorso le snelle forme delle donne nel loro pittoresco vestito le loro grida di gioia risuonanti per l'aria in un limpido giorno d'autunno gli ridestarono al cuore o per meglio dire ai sensi l'immagine dorata degli anni giovanili allorquando vivere era per lui godere si avvicinò e si trovò in mezzo ad un gruppo di contadini mastro paolo battendogli familiarmente la spalla gridò con allegria benvenuto eccellenza siamo lieti di vedervi fra noi glindon stava per rispondere quando i suoi occhi rimasero fissi sopra una giovane appoggiata al braccio di paolo e di tale sorprendente bellezza che scontrando i di lei sguardi tornò il colore alle pallide guance e il cuore palpitò gli occhi della giovane brillavano di petulante gioia e la bocca semi aperta lasciava vedere due fila di denti bianchi come perle impaziente dell'indugio frapposto dal suo compagno batteva col piede la misura della musica canterellando paolo rise al vedere l'impressione da lei fatta sul giovane straniero non volete ballare eccellenza lasciate da parte la vostra grandezza e state allegro con noi poveri diavoli guardate come la nostra bella fillide cerca un ballerino via abbiate compassione di lei fillide fei il broncio e lasciando il braccio di paolo si voltò non senza vibrare un'occhiata di invito e insieme di sfida glindon quasi involontariamente si avanzò e le rivolse la parola sì e gli parlò alla giovane che abbassando gli occhi sorrise paolo lasciatili soli corse via con la curanza ad un buon tempone fillide rispose guardando con provocante invito il neofita questi crollò la testa ed ella ridendo accennò un vispo montanaro che si avvicinava perché glindon sentì il pungolo della gelosia perché ad un secondo invito non crollò più la testa e i porse la mano fillide rossì accettandola con schiva civetteria e si lanciò in mezzo ai danzatori ah non val meglio che distillare erbe e lambiccarsi il cervello coi numeri pitagorici come fillide salta leggera come il braccio di glindon ne stringe la stretta taglia tara rara tara rara diabolica musica che fa correre il sangue nelle vene come argento vivo dove trovare un paio d'occhi come quei di fillide ed ora gettano fiamme su voi e la rosea bocca che risponde astento alle vostre galanterie quasi le parole fossero un perditempo e i baci il suo linguaggio o pupillo di mesnur fossi tu rosa croce platonico mago non so che altro io arrossisco di te per avero è per agrippa per ermete per borri che avvenne mai delle contemplazioni per giungere a questo hai rinunziato a viola credo che tu non abbia la più lieve ricordanza delle lisire della cabala bada tu stringi la mano stretta nella tua che fai tara rara tara rara storna gli occhi dei rilevati fianchi dal rubicondo tara rara tara rara e si danzano poi si arrestano sotto un fronzuto albero lontani dalla schiamazzante folla ne ascoltano no il rumore se qualcuno li guardasse vedrebbe una coppia muovere a lento passo favellando d'amore tramontasse il sole dietro il monte passasse vicino un fragoroso cocchio nulla vedrebbero sentirebbero tanto sono occupati l'uno dell'altro o eccellenza signore disse paolo come vi piace la vostra ballerina tornate fra noi vagabondi si danza più gioiosamente dopo aver bevuto tramonte il sole e spunta la luna tara rara tara rara si ripigliano le danze o piuttosto un movimento gaio impetuoso come brillano fra le ombre quelle snelle forme qual confusione si balla la tarantella mastro paolo sgambetta bravamente diavolo che furia pare che la tarantella li abbia tutti morsicati ballare o morire è il furore dei corribanti delle menadi o altro vino il sabato delle streghe di benevento è uno scherzo a paragone di questo tripudio la luna passa di nube in nube o brillando o scomparendo oscurità quando la giovane arrossisce luce quando sorride fillide voi siete un'incantatrice buonanotte eccellenza voi mi rivedrete ah giovinotto disse un vecchio decrepito appoggiandosi al bastone godete la vostra gioventù io pure un tempo ebbi la mia fillide ed era più bella di questa ahimè se potessimo rimanere sempre giovani sempre giovani glindon trassalì volgendo gli occhi dal roseo volto della sua compagna a quei cisposi dell'ottuagenario alla giallastra pelle alle membra tremanti di lui ah ripigliò avvicinandosi con malizioso sogghigno anch'io fui giovane una volta datemi un baiocco per un bicchiere d'acquavite tararara tararara la gioventù danza avvolgiti nei tuoi cenci e bamboleggia o vecchiaia capitolo sesto la bella vergine intanto seguitava in memore del voto calidoro e di quel che gli impose orti in severo la potente regina delle fate spencer nel breve indistinto intervallo fra la notte e l'aurora glindon rientrò nella sua stanza gli astrusi calcoli giacevano sul tavolino e cadendogli sott'occhio gli ispirarono un senso di noia e disgusto ahimè se potessimo rimanere sempre giovani orrido spettro del vecchio decrepito quale apparizione può sorgere nella mistica camera più ributtante di te sì se potessimo rimanere sempre giovani ma non già pensava il neofita per delineare questi scarabocchi e mischiare erbe e droghe no no ma per godere amare e tripudiare chi deve essere compagno al giovane fuorché il piacere e il dono di una eterna giovinezza non potrebbe acquistarlo in questo momento che importa il divieto di mesnur non è uguale alla sua poca generosa riservatezza nei più minuti segreti della chimica e dei numeri della sua cabala forzarmi a compiere tutte le fatiche per negarmi la conoscenza dei risultati che ne sono il premio senza dubbio al suo ritorno egli mi mostrerà che il gran segreto può raggiungersi ma senza palesarlo non è questo come se volesse rendere schiava la mia gioventù alla sua vecchiezza col ridurmi affatto dipendente da lui l'incatenarmi come un servo giornaliero con un incitamento continuo alla curiosità e col frutto che mi pone vicino alle labbra queste ed altre riflessioni lo turbarono e l'irritarono riscaldato dal vino e dalla gozzoviglia cui aveva preso parte non riuscì ad addormentarsi l'immagine della ributtante vecchiaia che lo sformerebbe un giorno se non riusciva a combatterla aizzarono vie più la smania di acquistare la gioventù non peritura che gli attribuiva Zanoni e il divieto di Mejnur ad altro non giovò che ad ispirarli di fidenza la luce del giorno penetrando attraverso le griglie sgombrò i terrori e le superstizioni proprie delle ore notturne la mistica camera non presentò alla sua immaginazione alcunché di diverso dalle altre del castello quale maligna apparizione poteva offenderlo sotto quella benefica luce del sole disgraziatamente il carattere di Glyndon era tale che nel mentre il raziocinio lo spingeva al dubbio e questo lo rendeva irrisoluto nella sua condotta morale egli era fisicamente ardito sino alla temerità né una simile contraddizione straordinaria che scetticismo e presunzione vanno spesso uniti quando un uomo di simil tempra decide di fare una cosa il timore personale non lo trattiene già mai e qualunque sofisma basta equilibrare la paura la onda egli senza quasi analizzare il processo mentale con cui si invigorivano i suoi nervi e si muovevano le membra traversò il corridoio e giunto all'appartamento di Mejnur aprì la vietata porta tutto era come al solito fuorché sulla tavola nel centro della stanza stava un grosso libro aperto si avvicinò guardando nei caratteri erano scritti in una cifra allo studio della quale aveva fatto parte dei suoi lavori e con lieve difficoltà egli suppose di aver decifrate le prime sentenze concepite nei seguenti termini tracannare la vita interiore è vedere la vita esterna è vivere sfidando il tempo vivere nel tutto colui che scopre l'elisir scopre ciò che sta nello spazio perché lo spirito che vivifica il corpo rafforza i sensi avvia attrazione nel principio elementare della luce nelle lampade il fuoco è per rosa croce il puro principio elementare accendi le lampade mentre tu apri i vasi contenenti l'elisir e la luce attirerà gli esseri che hanno vita in questa luce guardati dalla paura la paura è il più mortale nemico del sapere la cifra si mutava diventando inintelligibile ma non aveva egli letto abbastanza non era sufficiente quella sentenza guardati dalla paura sembrava che mejnur avesse con deliberato intenzione lasciata aperta la pagina per fare esperimento del suo coraggio mentre fingeva di mettere a prova la sua obbedienza non l'ardire ma la paura era dunque il peggior nemico del sapere glindon si avvicinò agli scaffali dove erano i vasi di cristallo e con mano ferma levò il turacciolo d'uno e subito una deliziosa fragranza si diffuse per la stanza e l'aria brillò come se fosse sparsa di polvere di diamante un senso di diletto sovrumano d'un'esistenza che pareva tutta spirituale gli corse in tutte le parti del corpo mentre udì risuonare per la stanza una musica appena intelligibile ma squisitamente armoniosa nel punto stesso sentì chiamarsi a nome dal corridoio e battere all'uscio siete qui o signore disse la voce sonora di mastro paolo glindon chiuse tosto il vaso e lo rimise sullo scaffale e ordinando che lo aspettasse nelle sue stanze indugiò fin tanto che lo ebbe udito allontanarsi poi a malincuore gli tenne dietro mentre chiudeva la porta udì i morenti accordi di quell'aerea musica e col passo leggero e la gioia in cuore seguì paolo risoluto a visitare di nuovo la stanza in un'ora in cui nessuno avrebbe interrotto il suo esperimento barcando la soglia paolo retrocesse per meraviglia esclamando eccellenza appena vi riconosco ma corgo che il divertirsi abbellisce molto i giovani ieri l'altro eravate pallido e stravolto ma i begli occhi di fillide hanno fatto più che la pietra filosofale dei nigromanti i santi mi perdonino di nominarla glindon a tali parole si guardò in un vecchio specchio di venezia e rimase sballordito non meno di lui del cambiamento del viso in tutta la persona gli sembrava ad essere ingrandito la testa non più curva per meditare era ritta gli occhi brillavano e le gote animate dai colori della salute ed un piacere interno che traboccava da tutti i pori se la mera fragranza dell'elisir era così potente a ragione gli alchimisti attribuivano vita e gioventù a chi la bevesse dovete scusarmi eccellenza se vi disturbai disse paolo cavando una lettera di tasca ma il nostro padrone mi scrive di dirvi che gli arriva domattina con l'ordine di consegnarvi subito questo biglietto che mi include chi portò la lettera un uomo a cavallo che non si fermò per alcuna risposta glindon lesse io ritorno una settimana prima dell'epoca fissata aspettatemi domattina entrerete nell'ordine come bramate ricordatevi però che per ciò fare vedduo può spiritualizzare per quanto è possibile il vostro essere i sensi devono venire mortificati e domati sicché non vi sia il minimo soffio di passione voi potete riuscire maestri della cabala e della chimica e potete essere anche padrone della carne e del sangue dell'amore vanità ambizione ed odio mi confido di ritrovarvi tale digiunate e meditate finché io ritorno glindon spiegazzò la lettera fra le mani e con disdegnoso sorriso come ancora stenti e astinenza gioventù senza amore e piacere ah schernito meshnur il pupillo acquisterà i vostri segreti senza che le aiutate e fillide disse paolo passai vicino la sua capanna venendo qui e la rossi e sospirò mentre io scherzavo sul conto vostro eccellenza bene vi ringrazio d'una si bella conoscenza voi dovete menare una vita allegra ah eccellenza mentre siamo giovani nulla è così piacevole come le avventure eccetto l'amore il vino ed il riso hai ragione addio mastro paolo ne parleremo insieme più a lungo fra pochi giorni per tutta la mattina glindon fu quasi soverchiato dalla nuova sensazione di felicità che lo invadeva saggirò pei boschi gustando un diletto già provato nei primi tempi della sua vita d'artista ma ancora più sottile e vivace contemplando i vari colori del fogliame autunnale certamente la natura pareva di schiudersi ai suoi occhi e dei meglio comprendeva il mistero delle simpatie ed attrazioni spiegato gli più volte da mesh nur già stava per partecipare alla legge di quei muti figli delle foreste conoscendo il rinnovamento della vita e come la vicendarsi delle stagioni al gelido verno faccia succedere di nuovo i fiori e la gioia di primavera l'esistenza ordinaria dell'uomo è paragonabile ad un'annata del mondo vegetale alla sua primavera l'estate l'autunno l'inverno ma non li ha che una sola volta al contrario le gigantesche querce sorgenti intorno a lui vivono con un avvicendarsi di gioventù e di verdura e il verde di un albero secolare risplende al sole di maggio come quello dell'umile erboscello che gli si avviticchia sarà pur mia la vostra primavera ma non il vostro inverno esclamò il neofita rapito in quei simpatici vaneggiamenti uscì dai boschi e si trovò in mezzo a campi coltivati e vigneti dove non era stato nei giorni addietro ivi sull'orlo di una verdeggiante prateria che ricordava quelle d'inghilterra sorgeva una modesta abitazione specie di grande capanna l'uscio era aperto ed egli vide una ragazza che filava alzò gli occhi mise un lieve grido e correndogli al fianco riconobbe l'occhi nera fillide zitto di sella ponendosi un dito sulle labbra non parlare ad alta voce mia madre dorme là dentro ed io sapevo che sareste venuto a trovarmi gentile davvero glindon non senza imbarazzo accettò il complimento immeritato e rispose dunque pensaste a me leggiadra fillide si replicò arrossendo ma con quella franca ingenuità caratteristica delle donne italiane specialmente delle infime classi nelle contrade meridionali o sì vi ho pensato un poco paolo mi disse che verreste a trovarmi e vostro parente mastro paolo no un buon amico soltanto di noi tutti mio fratello è uno della sua banda uno della sua banda un masnadiero noi non chiamiamo ladro o montanaro o signore vi chiedo scusa ma non tremate qualche volta per la vita del fratello la legge la legge non si arrischia mai di penetrare in questi burroni tremare per lui no mio padre e mio avvo furono d'egualtempra ed io desidero sovente d'essere un uomo per queste labbra io sono incantato che tale desiderio non si possa realizzare oi bo signore e mi amate voi davvero con tutto il cuore ed io voi disse la fanciulla con un candore che sembrava innocente permettendo a glindon di stringerle la mano ma soggiunse voi ci lascerete fra breve ed io si interruppe e le si riempirono gli occhi di lacrime è forza confessare che vera in ciò qualche cosa di pericoloso certo fillide non aveva la serafica amabilità di viola ma era d'una bellezza che colpiva i sensi forse glindon non amò già mai realmente viola forse i sentimenti che aveva a lui ispirati non erano abbastanza vivi per meritare il nome d'amore comunque sia e fissando gli occhi neri della montanara sentiva di non avere amato fino ad allora e non lascereste le vostre montagne le sussurrò facendosi sempre più vicino me il domandate rispose ritraendosi e guardandolo arditamente in viso conoscete quali siamo noi figlie delle montagne voi altri cavalieri delle città pieni di brio non riflettete sempre a ciò che dite l'amore è per voi un passatempo per noi è la vita lasciare queste montagne va bene ma io non potrei lasciare anche la mia indole portatela con voi è dolcissima sì dolce fin tanto che siete sincero fiera se diventate spergiuro devo io dirvi quali sono le abitatrici di questa montagna figlie d'uomini che voi chiamate ladri noi aspiriamo a divenire compagne dei nostri amanti o mariti noi amiamo ardentemente e lo confessiamo ardite immobili al vostro fianco nel pericolo vi serviamo quali schiave nei giorni tranquilli noi non cambiamo ma guai se cambiate voi potete sgridarci batterci come cani e non sentirete una lagnanza traditeci e diventiamo meno pietose d'una tigre fedeli il cuor nostro vi ricompensa traditori le nostre mani ci vendicano ora mi amate voi durante questo discorso la fisionomia della montanara rafforzò eloquentemente le sue parole passando dal dolce al fiero all'ultima domanda se glindon l'amava chinò umilmente la testa e gli stesse dinanzi tremando per la risposta l'energia selvaggia e il coraggio in cui nulla vi era di femminile cattivò via più glindon che rispose con enfasi prontamente sì i fillide oh sì veramente clarence glindon ogni uomo di vivace sentimento risponderebbe sì a simile inchiesta fatta da rose e labbra guardatevi bene che diavolo mesh nur vi fece lasciare un pupillo di 24 anni in balia di questo selvatico gatto di montagna predicare digiuno astinenza e sublime abnegazione alla foga dei sensi molto bene o signore per voi che sei il cielo quanti secoli avete ma un giovane o dovevate sottrarlo agli sguardi di fillide ovvero convien dire che conoscete assai male la cabala i due amanti seduti vicino si giurarono fede ad un tratto in mezzo ai dolci colloqui la madre fer rumore in casa e fillide ripigliò la conocchia ponendo di nuovo un dito sulle labbra va più magia in fillide che in mesh nur disse glindon fra sé tornando allegro al castello pure temo di poter amare una donna tanto proclive alla vendetta colui però il quale è il vero segreto può sfidare anche la vendetta ad una donna e stornare qualunque pericolo vergogna tu già mediti la possibilità di un tradimento o bene diceva zanoni versare acqua limpida in un pozzo fangoso non è altro che smuoverne la mota capitolo settimo vedi chi sta custodia della soglia e chi la difende e neide libro sesto è notte profonda tutto riposa nel vecchio castello nessun respiro sotto le melanconiche stelle ora è tempo mesh nur con la sua austera saggezza mesh nur il nemico dell'amore i cui occhi ti leggeranno in cuore ti ricuseranno i promessi segreti perché il raggiante viso di fillide turba l'ombra senza vitalità che i chiama riposo mesh nur arriva domani profitta della notte bando al timore o adesso o mai più su giovane coraggioso malgrado tutti gli errori con mano non tremante apri un'altra volta la formidabile porta glindon posò la lampada sulla tavola accosto al libro che si trovava tuttora aperto egli ne svolse le pagine ma non poté capire le cifre finché giunse al seguente passo allora quando adunque il pupillo ha in tal guise iniziato e preparato apra lo scaffale accenda le lampade e si bagni le tempie con l'elisir si guardi però di ardire tracannare il volatile fortissimo spirito gustarlo prima che ripetute aspirazioni abbiano avvezzato gradi a gradi il corpo a codesto liquido che produce l'estasi è un conoscere la morte non già la vita glindon non poté leggere più oltre le istruzioni poiché la cifra cambiava di nuovo allora guardò con risolutezza intorno alla camera il placidissimo lume della luna penetrò aperto che ebbe il balcone e parve sostare sul pavimento e lungo le pareti come una soprannaturale melanconica potenza egli dispose le mistiche lampade nove di numero intorno al centro della stanza e le accese ad una ad una una fiamma argentina colorita in azzurro uscì da ciascuna illuminando la stanza con un placido ma barbagliante splendore il quale attenuandosi scemò a misura che una piccola nube grigia simile a nebbia si diffondeva all'intorno egli provò al cuore un freddo brivido che lo oppresse come il gelo di morte sentendo il pericolo che gli sovrastava si trascinò non senza difficoltà già che le sue membra erano divenute rigide quanto il marmo allo scaffale dove erano i vasi di cristallo e ne aspirò l'essenza umettandosi con liquido le tempie la stessa sensazione di vigoria di gioventù di gioia e l'aerea leggerezza da lui provata la mattina sottentrò istantaneamente alla terribile oppressione che poc'anzi aveva invaso tutto il suo essere rimase con le braccia incrociate al petto ritto e impavido aspettando quanto fosse per accadere il vapore si era addensato e somigliava ad una nuvola di neve le lampade scintillavano come stelle attraverso la medesima e dei vide distintamente apparizioni che sembrava avessero nei contorni una specie di forme umane girare lievemente con regolari evoluzioni per entro la nuvola apparivano senza sangue coi corpi diafani e si espandevano come le spire dei serpenti mentre movevano in maestoso ordine egli udì un lieve suono quasi di voce tra loro si lieve ma armonioso che pareva il canto di una inesplicabile tranquilla gioia nessuna di quelle apparizioni si volse verso lui l'intenso desiderio d'accostarsi d'essere uno di loro di fare uno di quei movimenti che gli sembravano inebrianti gli fecero stendere le braccia e tentava di gridare ma un solo inarticolato sibilo gli uscì dalle labbra il roteare la musica continuarono come se egli non fosse presente si aggiravano lievemente dintorno finché nello stesso ordine maestoso un dopo l'altro librandosi sopra la finestra si smarrirono nel raggio della luna allora mentre il suo occhio li seguiva lo scaffale diventò oscuro per un corpo a tutta prima indiscernibile ma che non di meno cambiò misteriosamente il gustato di letto in orrore ineffabile gradatamente quell'oggetto si rese visibile allo sguardo era somigliante ad una testa umana ricoperta ad un velo nero attraverso il quale fiammeggiavano con livido e diabolico fuoco occhi che agghiacciavano fin nel midollo delle ossa nessun tratto di quella faccia era visibile eccetto quegli occhi intollerabili ed il terrore che sembrava superasse quanto l'umana natura può sopportare crebbe a mille doppi allor quando il fantasma penetrò lentamente nella stanza la nube si ritrasse a misura che egli si inoltrava impallidì la fiamma delle lampade e quasi si spegneva per il soffio di lui le sue forme erano al pari della faccia coperte d'un velo ma i contorni apparivano femminili non si muoveva come gli spiriti che imitano i viventi ma pareva strisciare come un rettile schifoso da ultimo sostò accovacciato presso la tavola su cui stava il mistico volume e di nuovo fisso gli occhi attraverso il membranoso velo sull'arrogante evocatore le più ardite grottesche fantasie dei monaci e dei pittori settentrionali non avrebbero potuto dare a quella diabolica fisionomia l'espressione di nefanda malizia che traspariva dai soli occhi era lo ripeto un corpo opaco ravvolto come larva in un velo ma l'infocato sguardo così penetrante e livido aveva in sé qualche cosa di umano nell'odio e nel sarcasmo qualche cosa comprovante che quell'orribile fantasma non era del tutto uno spirito ma partecipava tanto della materia ad arrenderlo un nemico vi è più spaventevole agli uomini glindon stringendosi con gli sforzi dell'agonia alla parete irte le chiome le occhiaie spalancate non poteva stornar gli occhi da quell'apparizione che gli parlò l'anima sua anziché l'orecchio udì le seguenti parole tu entrasti nella regione incommensurabile io sono il custode del limitare che vuoi da me silenzioso mi temi non sono io il tuo amato non è per me che rinunziasti ai diletti della tua razza a me appartiene la saggezza di innumerevoli età baciami mio innamorato mortale il fantasma strisciò vie più vicino a lui gli giunse al fianco e glindon sentì l'alito sfiorargli la guancia mandando un acuto strido cadde esanime a terra né altro più seppe finché ad ora tardissima dell'indomani aprendo gli occhi si trovò nel suo letto il sole penetrava attraverso le griglie e il bandito paolo seduto al capezzale puliva la sua carabina canterellando un'aria calabrese d'amore capitolo ottavo voi che vi passete di nobilissima sapienza sempre vaganti giocatori per lucidissimo etere ove narrasi che un giorno le nove muse piantassero la bionda armonia euripide medea zanoni aveva fissato la sua dimora in una di quelle isole la cui storia bellisce tuttora di melanconico interesse la fama degli ateniesi e la loro immortale letteratura isole ove la ridente natura offre bellissime scene e un clima beato tanto all'uomo libero che allo schiavo all'ionio al veneto al gallo turco e all'irrequieto bretone e dove la brezza effonde le fragranze degli aranci per molte miglia sull'azzurro e trasparente mare veduta dall'alto d'una delle verdeggianti colline quell'isola scelta da zanoni appariva un delizioso giardino le torri e le cupole della sua capitale brillavano fra mezzo i boschetti d'aranci e cedri vigneti e ulivi rivestivano le valli e il dorso dei poggi ville e capanne erano adorne dall'ussureggiante fogliame verde cupo della vite e di grappoli porporini la copia delle bellezze naturali pareva quasi giustificare la graziosa superstizione con cui gli antichi greci purtroppo innamorati della terra abbassavano i propri nomi a livello dell'uomo anziché innalzare questi ad un olimpo meno seducente e voluttuoso del loro i pescatori intrecciavano ancora le antiche danze sulla sabbia ancora le fanciulle assise sotto l'albero che ombreggia la loro capanna adornano con spille d'argento le corvine chiome e quella medesima natura che sorrideva al sapiente di samo alla democratica corcira alla graziosa mileto sorride oggi di come nell'antichità per gli abitatori del nord la filosofia e la libertà sono elementi necessari all'umana felicità ma nelle contrade dove venere sorge dalle onde per regnare mentre le stagioni carolando la salutano dalla spiaggia basta la natura a render felici gli uomini era l'isola trascelta da zanoni una delle più belle di quel ridente mare l'abitazione di lui alquanto discosta dalla città e vicina ad una baia apparteneva prima ad un veneziano e quantunque piccola più elegante che non sono d'ordinario le altre degli isolani il suo vascello era ancorato in vista e i servi indiani facevano il servizio della casa con la loro muta gravità come a napoli bellissimo il luogo e affatto solitario il garrulo mondo degli uomini inciviliti pareva non esistesse per il misterioso sapere di zanoni e per l'innocente ignoranza di viola un cielo ridente ed una contrada pittoresca bastano per il saggio e per l'idiota quando si amano nulla come disse altrove nelle visibili occupazioni di zanoni tradiva in lui un coltivatore delle scienze occulte avendo egli le abitudini di un uomo che medita o rammente il passato si compiaceva di vagare solo specialmente sul far del giorno o la notte quando splendeva la luna nei giorni d'ogni mese in cui sorge o risplende piena e si allontanava molte miglia attraverso le ubertose campagne dell'isola raccogliendo erbe e fiori che poneva in servo con gelosa cura talvolta viola nel cuor della notte si svegliava per un presentimento che lo sposo non fosse al suo fianco e stendendo le braccia trovava che il presentimento non l'aveva illusa perciò fin sulle prime si era accorta come zanoni fosse riservato nei suoi modi e ne concepì un sospettoso timore ma non ardì interrogarlo egli non passeggiava sempre solo facendosi spesso accompagnare dalla moglie nelle sue escursioni allorquando il mare si stendeva loro dinanzi come un gran lago e i nudi scogli dell'opposta cefalonia contrastavano con la ridente spiaggia dell'isola che si abitavano egli e viola spendevano le giornate passeggiando lungo la riva o visitando le circostanti isole sembrava che ogni angolo del greco suolo il bel paese della mitologia fosse a lui notissimo e ragionando del passato e delle poetiche tradizioni insegnava a viola ad amare la razza che trasmise al mondo la poesia e la saggezza a misura che ella conosceva meglio zanoni cresceva il fascino che fin dal primo vederlo l'aveva vinta e l'amor suo per essa era così tenero e vigilante senza mai smentirsi che gli sembrava riconoscente per la felicità che gustava nel prestarle ogni affettuosa cura anziché vano dal vederla felice i modi abituali con quanti lo avvicinavano erano pacati e gentili quasi fino all'apatia mai un'aspra parola gli usciva dal labbro mai uno sguardo irato dagli occhi i due sposi corsero un pericolo non infrequente in quei paesi semiselvaggi alcuni pirati i quali infestavano le adiacenti coste seppero l'arrivo degli stranieri e i marinai al servizio di zanoni cianciarono delle sue ricchezze una notte viola che già si era coricata si risvegliò per un gran rumore al basso zanoni non si trovava al suo fianco ed ella allarmata si mise ad ascoltare un gemito le ferì l'orecchio e balzò in piedi correndo alla porta ma tutto era tranquillo intese il passo di uno che si avvicinava e zanoni entrò calmo al solito ne sembrò accorgersi dei suoi timori il mattino furono trovati tre uomini morti sulla soglia della porta principale che avevano forzata erano conosciuti nelle vicinanze per i più terribili e sanguinari scorridori della costa macchiati di mille assassini e i quali non erano mai andati a vuoto gli attentati cui li spingevano l'avidità della rapina sulla spiaggia del mare si vedevano le orme di molti altri tal che sembrava che i complici degli uccisi fossero fuggiti per la morte dei loro capi il provveditore veneziano e le autorità dell'isola vennero ad esaminare l'accaduto il modo con cui erano periti quei ribaldi rimase un mistero impenetrabile zanoni non si era mosso dalle stanze ove d'ordinario attendeva i suoi studi chimici e nessuno dei suoi servi si era risvegliato non traccia di umana violenza sui cadaveri gli aggressori erano spirati senza lasciar segno di resistenza da quel momento la casa di zanoni e tutte le vicinanze divennero sacri i circostanti villaggi lieti di essere liberati da un flagello riguardarono lo straniero come uno che la panagia la vergine teneva sotto la sua speciale protezione gli immaginosi greci proclivi a tutte le impressioni esteriori e colpiti dalla straordinaria e maestosa bellezza dell'uomo che conosceva il loro linguaggio come uno del paese la cui voce spesso addolciva i loro umili dolori la cui mano non era mai chiusa ai loro bisogni ne conservarono la memoria con riconoscenti tradizioni lungo tempo dopo che ebbe abbandonata quella spiaggia e additavano l'ombrifero platano sotto il quale l'avevano veduto sovente sedersi pensieroso e solo nei calori del meriggio ma zanoni era più cupo allo sguardo dell'ombra del platano vi sono in quell'isola sorgenti di bitume che ricorda erodoto spesso la notte al chiarore della luna egli emergeva dai cespugli di mirto e di citiso che fioriscono sui colli d'intorno la palude ove sono le sorgenti della materia infiammabile tutte le cui virtù medicinali applicabili ai nervi della vita organica non vennero finora esplorate dalla scienza moderna e più sovente zanoni passava le ore in una caverna situata all'estrema parte della spiaggia e in cui le stalattiti parevano disposte dalla mano dell'uomo e la cui formazione i superstiziosi abitanti attribuivano secondo antiche leggende a molti e quasi incessanti terremoti cui l'isola è straordinariamente soggetta tutte queste ricerche e questi giri erano annessi e subordinati ad uno scopo che zanoni anelava sempre più di raggiungere ogni giorno che passava nella dolce compagnia di viola la scena veduta da glindon nella sua estasi era esattamente vera poco tempo dopo quella notte viola s'accorse non senza trepitazione che un influsso non sapeva di qual natura tendeva a signoreggiare la sua felice esistenza belle e indistinte visioni somiglianti a quelle intravedute nella prima fanciullezza ma più durevoli e impressive visitavano giorno e notte viola quando zanoni era lontano ma alla sua presenza sbiadivano e sembravano men belle dello sposo questi la interrogava con premura minutamente intorno a tali visioni ma non si mostrava pago e talvolta perplesso per le risposte non parlarmi disse egli un giorno disconnesse immagini delle evoluzioni di forme stellate che danzano in coro delle deliziose melodie le quali ti sembrano la musica e il linguaggio delle remote sfere piuttosto non intravedesti una forma più discernibile più bella né udisti una voce proferire o che sembrava proferisse la tua lingua sussurrandoti mirabili segreti di una scienza solenne no rispondeva viola tutto è confuso nei miei sogni sì di giorno che di notte e quando mi scuoto al rumor dei tuoi passi la mia memoria non ritiene che un vago sentimento di felicità come diverso come freddo appetto dell'estasi di bearmi nel tuo sorriso ed ascoltare la tua voce allorché dice io ti amo come mai queste visioni ti sembrano men belle mentre una volta erano così seducenti per te come mai allora eccitavano la tua fantasia e tinebriavano il cuore tu desideravi una regione incantata ed ora ti appaghi della vita comune non te il dissi altre volte è dunque una vita comune l'amare e il vivere con colui che si ama la mia regione incantata l'acquistai non parlarmi d'altra così favellando li sorprendeva la notte lungo la solitaria spiaggia e zanoni adescato dai suoi sublimi progetti contemplando quel tenero viso obbliava che nell'armonioso infinito che si stendeva dintorno verano altri mondi oltre il cuore umano capitolo nono l'anima in sé un principio superiore a tutta la natura per mezzo del quale noi siamo capaci di sorpassare l'ordine e i sistemi del mondo allora quando l'anima innalzata a nature migliori di esse viene interamente segregata dalle nature subalterne le scambia con un'altra esistenza ed abbandonando l'ordine di cose con cui era unita si solleva e si mischia con un ordine superiore giamblico adonai adonai appari appari in una solitaria grotta da donde uscivano un tempo gli oracoli d'una divinità pagana emerse dalle ombre di fantastici scogli una luminosa e gigantesca colonna che scintillava e mutava forma somigliante allucente e nebbioso sprazzo che in una notte stellata pare sollevi una fontana veduta da lungi il chiarore riverberando sulle stalattiti le rocce e gli archi della grotta gettava un tremulo e pallido splendore sulle fattezze di zanoni figlio dell'eterna luce disse l'invocatore tu alla cui conoscenza io giunsi al fine nell'ampie pianure della caldea di grado in grado di razza in razza tu dal quale bevetti tanto meraviglioso sapere che la sola eternità potrebbe esaurire tu che congenito con me stesso fin dove il permettono le nostre diverse nature fosti per secoli mio familiare ed amico rispondi e consigliami dalla colonna emerse una forma indicibilmente gloriosa era il viso quale duomo nella prima gioventù ma solenne per la coscienza dell'eternità e la calma della saggezza una luce simile al raggio di stella scorreva nelle trasparenti sue vene anche le membre erano composte di luce e questa ondulava in continue scintille nelle onde delle rutilanti chiome con le braccia concerti al seno si fermò alcuni passi lontano da zanoni e a bassa voce suavemente mormorò i miei consigli ti erano dolci una volta quando di notte in notte l'anima tua seguiva il remeggio dei miei vanni traverso i non turbati splendori dell'infinito ora ti sei di nuovo avvinto alla terra con fortissime catene e l'attrazione alla crete più potente delle simpatie che facevano discendere a te l'abitatore del raggio lucente e dell'aria quando l'ultima volta l'anima tua si rivolse a me i sensi già conturbavano l'intelletto e oscuravano la tua visione un'altra volta io discendo a te ma il poter di chiamarmi al tuo fianco va smarrendo dal tuo spirito come il raggio del sole sparisce dall'onda allorché i venti gettano una nube fra il cielo e l'oceano ahimè adonai rispose il veggente con tristezza io conosco troppo bene le condizioni dell'essere che la tua presenza era solita rallegrare conosco che la nostra saggezza deriva soltanto dall'indifferenza alle cose del mondo che il sapere padroneggia lo specchio dell'anima non può riflettere terra e cielo ad un tempo ed una delle immagini svanisce dalla superficie quando l'altra vi si imprime profonda ma non è già per ridurmi a quella sublime astrazione in cui l'intelletto libero e sgombro dai lacci del corpo si innalza di regione in regione alle sfere che io nuovamente con l'agonia e lo sforzo di un indebolito potere ti ho chiamato il mio soccorso io amo e per l'amore comincio a vivere nella dolce umanità di un altro se sono ancora saggio in tutto ciò che rende innocuo il pericolo a me o a coloro che io posso guardare dalla tranquilla vetta ad una scienza patistica sono cieco come l'infimo degli uomini sui destini della creatura che fa battere il mio cuore di passioni le quali moffuscano la facoltà visiva che importa rispose adonai l'amor tuo non può essere che uno scherno un motto come puoi amare alla guisa degli uomini che sovrasta la morte e la tomba un breve tempo che è come un giorno a fronte della tua vita di incalcolabile durata e la donna che adori si sfascerà in polvere gli abitatori di questo basso mondo tenendosi la mano scendono uniti nel sepolcro e dalla putredine sempre uniti salgono a novella esistenza per te secoli per lei ore e non di meno meschino con tutta la potenza che acquistasti verrà un tempo in cui vi riunirete traverso qua i gradi equa i cieli di esseri spiritualizzati avrà passato l'anima di lei quando tu solitario ozioso ti innalzerai dai vapori terrestri alle porte della luce figlio dell'astro scintillante pensi tu che questo pensiero non sia sempre con me non vedi che io ti invocai per comunicarti il mio disegno non leggi il mio desiderio il mio sogno di sublimare la condizione di quella che amo fino alla mia tu adonai che attingi negli oceani dell'eterno splendore la gioia celestiale la quale forma la tua esistenza tu non puoi congetturare come io superstite a tante generazioni di mortali privo degli oggetti della tremenda e sublime ambizione che in origine sollevò i miei desideri sopra la creta tu non puoi congetturare quel che io sento al vedermi costretto a rimanere solo in questo basso mondo ho cercato amici nella mia casta ma in vano al fine trovai una compagna l'augello e la belva hanno la loro e con la padronanza che io esercito sovra le maligne tribù cotanto tremende posso bandire le loro larve dal sentiero che la condurrà in alto finché l'atmosfera dell'eternità fortifichi il suo corpo sicché beva l'elisir che sfida la morte tu hai cominciata l'iniziazione fallisti lo so hai scongiurate mentre la dormiva le più belle visioni ha invocati i più amabili figli dell'aria perché mormorassero i loro consenti all'estatica e l'anima di lei non li ascoltò e riabbassandosi alla terra sfuggì alla loro influenza e perché ho accecato perché l'anima sua è tutta amore e non va alcuna passione intermedia con cui abbiano affinità e si associano gli enti che tu vorresti renderle cari questi hanno bensì forza attrattiva sui desideri e l'insaziabilità dell'intelletto ma come possono averla sopra una passione tutta terrestre o sulla speranza che si volge direttamente al cielo ma non potrebbe esservi un mezzo un legame in cui le anime nostre i nostri cuori si congiungano e il mio acquisti per tal modo influenza sul suo non domandarlo non mi intenderesti te ne scongiuro parla allora quando due anime sono disgiunte non conosci tu un terzo essere in cui ambe due si incontrano e vivono e che forma il vincolo tra le medesime io ti comprendo adonai esclamò zanoni con un lampo di gioia più che umana tale che non aveva mai per l'innanzi rischiarato il suo volto e se il mio destino ora soscura i miei sguardi mi dà la felice ventura del più umile mortale se potrò avere un figlio da stringere al seno e dir mio ed è dunque per essere da ultimo un uomo che aspirasti ad essere superiore a tutti ma un figlio una seconda viola mormorò zanoni appena dando retta allo spirito della luce un'anima scesa appena dal cielo che io possa dirigere dal primo istante che tocca la terra le cui ali possa educare a seguire le mie traverso le glorie della creazione un'anima per la quale la stessa madre possa sollevarsi oltre il regno della morte guardati rifletti non sai tu che il più tremendo dei tuoi nemici sta nella realtà i desideri ti portano sempre più vicino all'umanità ah l'umanità è pur dolce esclamò zanoni e mentre egli parlava la gloriosa faccia di adonai si irradiò d'un sorriso capitolo decimo le cose eterne all'eterno le mortali si addicono al mortale le divine addio le periture all'uomo caduco aureliano prudenziano contro simmaco estratti delle lettere di zanoni a mesnur lettera prima tu non mi informasti dei progressi del tuo pupillo ed io temo che le tue più attente cure cadrebbero a vuoto anche con nature più sublime eppure che non sia quella del neofita da te ammesso entro le tue porte e ciò perché le circostanze diedero allo spirito delle generazioni attuali un'altra tendenza che non avevano gli ardenti e meditabondi figli del mondo ancora giovane perfino il terzo stato dell'esistenza che il saggio indiano riconosce ha diritto a essere fra il sonno e la veglia e che imperfettamente indica col vocabolo estasi è sconosciuto ai figli del mondo settentrionale e i pochi che a stento lo ammettono considerano la sua calma feconda di idee come il maia ed illusione dello spirito invece di coltivare quel suolo leggero da cui la natura bene investigata fa crescere così bei fiori e così ricchi frutti gli uomini d'oggi dì si affaticano per stornarne i loro sguardi e stimano una malattia che il medico deve curare con farmaci ogni sforzo dell'intelletto per elevarsi dall'angusto mondo dei viventi alla dimora dello spirito infinito né sanno che la poesia la musica l'arte e quanto appartiene all'idea del bello trasse l'immortale sua origine da questo stato della loro esistenza per quanto sia imperfetto stato del quale né il sonno né la veglia offrono un archetipo o una rassomiglianza allora quando noi o menjnur in epoca remotissima eravamo neofiti ed aspiranti appartenevamo ad una classe cui il mondo reale era chiuso i padri nostri non avevano altro scopo nella vita fuor del sapere e noi dalla culla eravamo destinati ed educati alla saggezza come ad un sacerdozio demo principio alle ricerche dove la moderna congettura serra le fiacche sue ali ed erano per noi elementi comuni della scienza quelle nozioni che i savido gd sprezzano come folli chimere o disperano conoscere come impenetrabili misteri fino alle basi fondamentali le semplici teorie dell'elettricità e del magnetismo rimangono scuri e confusi nelle dispute delle cieche loro scuole eppure anche in nostra gioventù pochi giunsero al primo circolo della confraternita e dopo aver goduto a fatica i privilegi sublimi di cui andavano in cerca abbandonarono volontariamente la luce del sole cadendo senza sforzo nel sepolcro qua i pellegrini smarriti in un deserto senza orme sopraffatti dal silenzio della loro solitudine ed atterriti dal non intravedere alcuna meta tu in cui nulla parso vravvivere forché il desiderio di conoscere tu che indifferente li guidi alla felicità o al dolore ti offri a tutti coloro che vogliono battere il sentiero della scienza misteriosa quasi fossi un libro insensibili ai precetti che insegna tu accrescesti il nostro numero ma i tuoi discepoli non palesasti che parziali segreti perché la vanità e la passione tolsero loro di scoprire il restante ed ora senz'altro interesse che di fare un esperimento scientifico senza amore e compassione esponi quest'anima vergine ai rischi di una così tremenda iniziazione immagini che uno zelo scrutatore un coraggio risoluto e impavido bastino a vincere una prova in cui il più austero intelletto e la più pura virtù soccombettero sì di frequente e sei d'avviso che il germe dell'arte giacente nello spirito del pittore possa quasi racchiudesse in sé l'embrione del potere della bellezza espandersi nel gran fiore dell'aurea scienza è questa una nuova esperienza che fai si umano col tuo neofita e se l'indole di lui non bene ti corrisponde nei primi passi ridonalo al mondo reale mentre egli è ancora in tempo di godere la breve vita dei sensi che affine nel sepolcro mentre t'ammonisco in siffatta guisa o mechnur sorriderai tu delle mie fallaci speranze io che ricusai sempre di iniziare altri nei nostri misteri incomincio a comprendere che la gran legge la quale unisce l'uomo alla propria specie anche se egli fa ogni sforzo per collocarsi in una diversa condizione di esistere formò della ghiacciata tua scienza un vincolo fra te e gli altri uomini comprendo perché cercavi i pupilli perché vedendo i membri del potente nostro ordine abbandonare un dopo l'altro volontariamente la vita tu aspiri a rinnovare gli scomparsi e riparare alle perdite perché fra mezzo dei tuoi calcoli in continuo moto come le ruote della stessa natura tu rifuggivi dal pensiero di essere solo altrettanto accade a me dopo una si lunga esistenza cerco un pupillo un uguale perché io pure rabbrividisco di essere solo ciò che tu mi avvertisti essere probabile è accaduto l'amore tira a sé ogni cosa o che io devo scendere alla natura della mia diletta ovvero ella sublimarsi alla mia nel modo che tutto quanto appartiene all'arte vera ebbe attrazione per noi la cui esistenza consiste nell'ideale donde scende l'arte medesima così da questa bella creatura imparai al fine il segreto che a lei ma vinse fino dal primo suo sguardo alunna della musica questa trasfondendosi nel suo essere divenne poesia e non fu già la scena coi suoi prestigi illusori che le inebriarono fu la regione creata dalla sua fantasia che la scena pareva realizzare viola espresse quella poesia con la sua voce ma adonta dei suoi sforzi quella regione fantastica non le arrideva bastantemente sicché si ripiegò in sé medesima coloriva le idee inebriava l'anima suscitava mille emozioni nella veglia e nei sogni al fine sovraggiunse l'amore e come un fiume in mare spinse le sue onde irresistibili rendendosi muto l'eterno specchio dei cieli e non è forse per mezzo della poesia che la può essere guidata alla conoscenza del gran poema dell'universo sovente io ascoltai i suoi non curanti discorsi e scoprivo oracoli nella loro ingenua bellezza come trovo straordinarie virtù in umili fiorellini io rimiro il di lei intelletto svilupparsi sotto i miei occhi e novelli pensieri germogliarvi sempre o mesh nur quanti della nostra casta hanno spiegate le leggi dell'universo sciolti gli enigmi della natura esteriore e tratta dalle tenebre la luce eppure non è egli più gran filosofo di tutti costoro il poeta il quale non l'altro studia che il cuore umano scienze d'ateismo sono incomportabili perché conoscere la natura è conoscere che deve esistere dio ma è forse necessaria la scienza per esaminare il sistema armonico della creazione pensa che allora quando io contemplo un'anima pura perché ignorante bambina ravviso in essa l'ente supremo più chiaramente che in tutti i pianeti i quali girano al suo cenno entro lo spazio giustamente è una legge dell'ordine nostro di non comunicarne i segreti che all'uomo puro e la parte più tremenda dell'iniziazione consiste nelle tentazioni che la nostra possanza suscita nel colpevole se fosse possibile ad un essere malevolo di ottenere le nostre facoltà quali disordini non introdurrebbe nell'universo per buonaventura ciò è impossibile poiché la malevolenza toglie il potere ora è nella purezza di viola chi ho la fiducia che tu in vano riponesti nel coraggio nell'ingegno dei tuoi pupilli sia mi testimonio mechnur che fin dei giorni remoti in cui penetrai l'arcano del nostro sapere non ne adoperai i misteri ad alcun uso riprovevole benché la durata della nostra esistenza ci privi di patria e di famiglia benché la legge che ripone tutte le scienze tutte le arti nel sollevarsi dalle vane passioni e dalla turbolenta ambizione dell'esistenza attuale ci vieti dall'influenzare i destini delle nazioni alle quali il cielo assegna ciechi strumenti regolatori in ogni terra ovvio vagai mi sono adoperato a confortare la miseria e rendere buoni gli uomini traviati e il mio potere riuscì funesto soltanto al colpevole e non di meno con tutta la nostra dottrina ad ogni passo siamo ridotti ad essere null'altro che strumenti dell'onnipotente il quale ci accorda una possanza straordinaria che gli dirige come la nostra sapienza si riduce a zero comparativamente a quella che diede le proprie virtù ad ogni erba e popolò il più esiguo globulo di enti ad esso omogeneo mentre a noi è talvolta conceduto di influire sull'altrui felicità quali tenebre ci circondano sul nostro futuro destino non possiamo essere profeti di noi medesimi con che tremo la speranza io nutro il pensiero che riuscirò a conservare nell'isolamento in cui vivo la luce ed un vivente sorriso lettera seconda reputandomi non abbastanza puro per iniziare un cuore sippuro invocai a visitarla nell'estasi i più belli e teneri abitatori dello spazio che hanno prestato l'idea di glendover e del silfo alla poesia arte la quale ha una intuizione istintiva della creazione e non di meno quei spiriti erano men puri dei suoi pensieri men teneri dell'amor suo talché non riuscivano a sublimarla sopra gli umani affetti del proprio cuore in cui ella trovava il suo paradiso orora la contemplai dormiente e udì mormorare il nome mio ahimè ciò che si dolce altrui mi riesce amaro perché io penso come presto può venire il momento in cui codesto dormire sarà senza sogni allorché il cuore che ripete il nome mio sarà freddo e mute le labbra che lo pronunziano qual duplice ombra è mai l'amore se noi lo scrutiamo soltanto nei suoi vincoli materiali nelle istantanee gioie nella turbolenta sua febbre nell'aspra reazione come ci pare strano che questa passione sia il supremo motore del mondo che abbia imposto eroici sacrifici ed esercitata grandissima influenza sulla società in tutte le epoche che ad essa siano stati devoti più grandi ingegni che senza amore civiltà musica poesia non esisterebbero e l'umana vita non sarebbe superiore a quella dei bruti ma se poi ci facciamo a considerarlo nella sua parte spirituale nelle sue abnegazioni nell'intimo onesso con tutto ciò che lo spirito ha di più delicato e sottile nel suo potere sopra ogni sordidezza della vita nel suo dominio sopra gli idoli vilmente adorati e l'abilità di creare un palazzo d'una capanna un osi nel deserto l'estate fra i ghiacci del nord che col suo soffio riscalda e fa fiorire allora siamo meravigliati come si pochi uomini ne studino la celeste natura ciò che il sensuale chiama sue gioie sono le infime l'amor vero è non tanto una passione quanto un simbolo o mechnur verrà il tempo in cui potrò parlarti di viola come d'un essere che fu lettera terza sai tu che da alcun tempo i vo chiedendo a me stesso sarebbe mai colpevole il sapere che ci ha separati dai nostri simili è vero che più ci innalziamo e più ci sembrano odiosi i vizi degli striscianti sulla terra che hanno sì breve vita e più ci penetra il sentimento della bontà dell'onnipotente e ci convince che la nostra umana felicità emana direttamente da lui ma d'altronde quante virtù giacciono morte in coloro i quali vivono nel mondo perituro e non di meno ricusano morire non è egli codesto sublime egoismo codesto stato d'astrazione divaneggiamento la nostra maestosa esistenza semi statica semidipendente una espressione di quella nobiltà che congiunge le nostre gioie le speranze i timori con gli altri il vivere senza timore di nemici non abbattuto da infermità sicuro fra le traversie libero da guai corporei è tale spettacolo che allucina il nostro orgoglio eppure non ti ispira maggior ammirazione colui che muore per l'altrui salvezza da che io l'amo meshnur mi sembra codardì a sottrarmi al sepolcro che divora i cuori dei nostri diletti sono di ciò convinto la terra acquista pregio agli occhi miei tu avevi ragione sapiente eterno sereno spassionato sì va a un dono migliore dell'eterna giovinezza coi suoi affetti e desideri finché noi o meshnur non saremo puri spiriti la tranquillità della solitaria nostra vita deve fondarsi sull'indifferenza lettera quarta ricevetti la tua risposta che è dunque così il tuo pupillo ti mancò ah infelice ma qui seguivano commenti sulle fasi della vita di glindon già noti al lettore o che troverà più avanti zanoni raccomandava caldamente a meshnur di vigilare sul destino del suo allievo ma io nutro lo stesso desiderio con tutto il cuore la mia pupilla o quanto i terrori che accompagnano l'iniziazione mi rimuovono dal tentarla con viola invocherò un'altra volta il figlio della luce sì adonai dal lungo tempo sordo alla mia chiamata discese al fine a me in visione e la sua gloriosa presenza mi lasciò travedere un raggio di speranza o non è impossibile viola non è impossibile che noi siamo uniti anima con anima lettera quinta molti mesi dopo la precedente svegliati meshnur dalla tua apatia rallegrati una nuova anima sta per venire al mondo una nuova anima che mi dirà padre o se noi ai quali sono note tutte le occupazioni e le risorse dell'umana vita se noi potessimo trasalire con squisita emozione all'idea di riprodurre la nostra gioventù nei nostri figli se a loro nascere torniamo allo stato di santa innocenza che è il primo dell'umana esistenza se sentiamo che l'uomo adempie quasi alle funzioni di un angelo quando si fa ad allevare per il cielo un bambino fin dalla culla o allora con quali estasi non saluteremmo un erede di tutti i doni che raddoppiano la nostra privilegiata esistenza o com'è dolce il potere di invigilare custodire e distillare le cognizioni di stornare il male e ricondurre una vita per entro un ampio e profondo fiume al paradiso da cui discese sulle rive di codesto fiume si incontreranno le anime nostre madre amorosa il figlio terrà luogo della simpatia che manca tra noi qual fantasma ti potrà spaventare se l'iniziazione si intraprende presso la culla del figlio capitolo undicesimo così la strada proseguivano essi finché scoppiò l'orribile bufera ma in van di ritornar fecero prova ricalcando il sentiero in priebattuto era scomparso e per ignote valli perigli aron smarriti all'avventura spense la regina delle fate sì o viola tu sei cambiata da quando sul limitare della tua casuccia a napoli lasciavi errare la fantasia nella regione delle ombre o quando in vano cercavi dar corpo alla bellezza ideale sulla scena ove l'illusione contraffà durante un'ora cielo e terra finché il sentimento della realtà destandosi non vede che orpello e pinte tele il tuo spirito viola sacqueta nella propria felicità che i suoi divagamenti trovarono uno scopo spesso in un istante noi proviamo il senso dell'eternità perché quando siamo profondamente felici sentiamo che è impossibile morire ogni qual volta l'anima sente se stessa sente una vita duratura in perpetuo l'iniziazione è differita i tuoi giorni alle tue notti non hanno altre visioni fuori di quella con cui un cuore pago abbellisce un'incolpata fantasia glendover e silvo perdonate se io dubito essere tale visione più incantatrici delle vostre zanoni e viola siedono sul margine contemplando il sole tramontare in mare da quanto tempo abitano essi nell'isola che importa mai se da mesi o da anni forse io o dessi possiamo tener conto di quel tempo felice come in sogno momentaneo sembra che trascorrano lunghe età così noi misureremo la felicità o la sciagura con la lunghezza d'un sogno o col numero delle emozioni che suscita il sole va lentamente degradando l'atmosfera è secca ed oppressiva le navi rimangono immobili sul mare in bonaccia sulla spiaggia non s'agita una foglia sugli alberi viola si stringe più vicino a zanoni un presentimento indefinibile le fa battere più celere il cuore e lo guarda in volto con tale un'espressione ansiosa astratta inquieta che egli ne è colpito questo silenzio m'atterrisce mormorò viola zanoni parve non l'intendesse parlava con sé medesimo girando incessantemente gli occhi d'intorno ella non sapeva il perché ma quegli sguardi che sembravano traforare lo spazio e le parole sussurrate in strano linguaggio risvegliarono in lei le antiche paure ed era divenuta più timorosa da quando s'accorse di divenir madre strana crisi nell'esistenza di una donna e nell'amor suo esseri non ancora venuti alla luce già dividono nel suo cuore gli affetti che prima lo signoreggiavano interamente guardami zanoni disse stringendogli la mano egli si volse tu sei pallida viola la tua mano trema è vero provo un'angustia come se qualche nemico mi saggerasse d'intorno nell'istinto ti inganna un nemico è infatti vicino lo scorgo traverso la pesante atmosfera sento nel silenzio lo spettro distruttore la pestilenza vedi tu come le foglie formicolano di insetti aguzza soltanto gli occhi e li vedrai seguire il soffio contagioso mentre zanoni così parlava un uccelletto cade ai piedi di viola tremò un istante e giacque morto oh mia diletta esclamò appassionatamente è la morte non paventi tu di morire lasciarti ah sì e se io potessi insegnarti come si possa sfidare la morte se potessi arrestare il corso del tempo per la tua giovinezza se potessi si interruppe ad un tratto vedendo il terrore dipinto negli occhi di viola palli delle guance e le labbra non parlare in tal guisa non guardarmi così gridò tu mi atterrisci a non parlare in tal guisa o tremerò non già per me per tuo figlio e rifiuteresti per lui un sì glorioso privilegio zanoni ebbene il sole tramontò ai nostri occhi ma per sorgere a quelli d'altri genti lo scomparire da questo mondo è vivere nell'altro o amico o sposo proseguì con crescente energia dimmi che volesti scherzare prenderti gioco della mia follia la pestilenza è meno terribile delle tue parole la fronte di zanoni si fece cupa guardò silenzioso viola un istante poi rispose quasi severo che hai conosciuto in me per non credermi o perdono perdono nulla gridò viola gettandosi fra le sue braccia e prorompendo in lacrime non crederò alle tue stesse parole se queste pare che t'offendano zanoni le terze cobaci le lacrime senza rispondere o proseguì con incantevole e fanciullesco sorriso se vuoi darmi un amuleto contro la pestilenza io lo prenderò e in così dire pose la mano sopra un piccolo amuleto antico che zanoni portava al collo sai quante volte mi rese gelosa sul passato per certo è qualche pegno d'amore o zanoni ma no tu non amasti la donatrice al pari di me possi io prenderlo bambina rispose zanoni con tenerezza colei che mi pose al collo quest'amuleto lo credeva tale infatti essendo superstiziosa al pari di te ma per me è ben più d'un magico talismano è reliquia ad una dolce età svanita che nessuno di quanti mamano potrebbe figurarsi pronunziò tali detti in tono di sì melanconico rimprovero che trafisse il cuore di viola ma tosto assunse modi tanto solenni che risvegliarono nuovamente i di lei terrori e questo amuleto forse un giorno viola lo trasporterò dal mio sul tuo petto sì allorquando tu mi intenderai meglio allorquando le leggi della nostra esistenza saranno identiche salzarono avviandosi lentamente verso la loro abitazione ma il terrore di viola continuava malgrado i suoi sforzi per domarlo italiana e religiosa era piena di superstizioni si ritirò nella sua camera pregò dinanzi a una reliquia di san gennaio che un prete amico della sua famiglia le aveva donata da fanciullina e che l'accompagnò in tutte le sue peregrinazioni non mai aveva creduto che se ne sarebbe privata ma ora se poteva giovare a difesa contro la pestilenza non voleva serbarla per sé la mattina veniente al risvegliarsi zanoni trovò la reliquia del santo appesa al suo collo presso il mistico amuleto a tu ora non hai più nulla a temere disse viola fra le lacrime i sorrisi e quando vorrai ripetermi i discorsi di ieri sera il santo te lo vieterà or via zanoni può esservi comunanza di pensiero e di spirito se non fra uguali scoppiò il contagio e fu dopo abbandonare l'abitazione dell'isola potente visionario tu non hai potere di salvare coloro che ami addio tetto noziale dolce asilo scevro di cure addio o amanti potrete trovare i climi più miti cielo più sereno acque più calme e azzurre ma questi giorni torneranno più chi può garantire che il cuore non cambi insieme alla scena dove prima abitammo con l'oggetto dell'amor nostro vanno reminiscenze che i soli luoghi risvegliano il passato che in essi sopravvive sembra perpetuarsi nell'avvenire se un pensiero meno gentile meno fedele sorge in noi la vista ad un albero sotto il quale pronunziamo già un voto ottergemmo coi baci una lacrima ci trasporta alle ore della primiera divina illusione ma in una casa ove nulla ricorda le nozze dove non va associazione di idee non oggetto che risvegli sante emozioni ove gli angeli non ne siano custodi o ivi il cuore si cambierà col motar della scena è verità nota quanti sperimentarono la triste storia dell'amore spirate venti propizi si gonfino le vele e si salpi dall'isola ove la morte viene a strappare lo scettro all'amore le spiagge s'allontanano nuove le coste sottentrano alle verdeggianti colline e dai boschetti d'arancio dell'isola noziale in lontananza splendono il raggio di luna le colonne superstiti d'un tempio che gli atenesi dedicarono alla sapienza e colui che era sopravvissuto al tempio dalla barca che scivolava sull'onde spinta da una fresca brezza mormorava fra sé forse la saggezza dell'età mi fruttò ore più felici di quelle comuni al pastore al mandriano per i quali il mondo è circoscritto al loro villaggio e l'unico desiderio i baci e i sorrisi domestici la luna irradiava del pari i rudiri del tempio d'una estinta credenza e la capanna del vivente agricoltore la vetta del monte antichissimo e la fragile erbetta che spunta alle sue falde e sembra rispondere con disdegnosa calma a lui che vide edificare il tempio e che nell'imperscrutabile sua esistenza vide forse la montagna scossa dalla propria base libro quinto effetti dell'elisir dal paventato sorge un terrore alzare il velo no non ti giova la vita è solo sol nell'errore e nel sapere morte si trova schiller cassandra capitolo primo due anime sentìo dentro il mio petto perché contempli estatico lo spazio goethe faust ramenterà il lettore che lasciamo mastro paolo al fianco di glindon e che questi svegliandosi dal profondo sonno la ricordanza della scorsa notte si affacciò orribile alla sua mente si che mandando un grido si coprì il volto con le mani buongiorno eccellenza disse paolo giulivo corpo di bacco avete dormito profondamente il suono della voce di quell'uomo si pieno di allegria e di salute sgombrò il fantasma che ancora stava fisso nella memoria di glindon egli si mise a sedere sul letto dicendo e dove mi trovaste perché siete voi qui dove v'ho trovato ripete paolo sorpreso nel vostro letto in fede mia perché sono io qui perché il mi ordinò di star pronto i vostri comandi allorché vi sareste risvegliato meshnur è dunque arrivato arrivato è partito signore e lascio questa lettera per voi datela ed aspettate finché mi sia vestito per servirvi preparai un'eccellente colazione che dovete aver fame io sono un cuoco mediocremente buono un allievo dei monaci deve essere tale credo che il mio cantare non vi disturberà ho sempre cantato nel preparare un'insalata armonizza gli ingredienti di essa così dicendo paolo gettò la sua carabina d'armacollo e balzò fuori della stanza chiudendo l'uscio dietro a sé glindon già stava assorto nella lettura quando t'accolsi la prima volta mio pupillo promisi a zanoni che ove fossi convinto dei primi tentativi che tu potresti accrescere non il numero del nostro ordine ma soltanto la lista delle vittime che aspirarono in vano al medesimo promisi che non t'avrei abbandonato al tuo miserabile destino ma t'avrei restituito al mondo adempio la mia promessa la tua iniziazione fu la più agevole che mai toccasse a un neofita io richiesi soltanto l'astinenza dalla sensualità ed un breve sperimento della tua fede e pazienza torna indietro al tuo mondo tu non hai indole per aspirare al nostro fu io che preparai paolo per riceverti al tuo risvegliarsi io che istigai il mendicante decrepito a cercarti l'elemosina io che lasciai aperto il libro che tu non potevi leggere senza violare il mio ordine orbene tu hai veduto ciò che ti aspettava sul limitare della conoscenza affrontasti il primo nemico che minaccia colui i cui sensi sono ancora malfermi come meravigliarti chi ti chiuda per sempre le porte del sapere non comprendi al fine che è necessaria un'anima temperata e purificata la quale si attenti non con esteriori malie ma per insita energia e sublimità avvarcare la soglia e vincere il custode tremendo di essa miserabile tutta quanta la mia scienza nulla giova al frenetico al sensuale a lui che vuole scoprire i nostri segreti ma per bruttarli con gli antichi tempi soccombettero nei loro tentativi di penetrare i misteri che devono purificare l'uomo non depravarlo narrano le leggende che le furie li ridussero in brani sì le furie dei loro sensuali desideri dei loro criminosi disegni ciò che tu agognasti essi l'agognarono del pari ma se anche avesti le ali di un serafino non ti sarebbe dato sollevarti dei vincoli della tua condizione mortale la tua brama di conoscere non è che petulante presunzione la tua sete di felicità non altro che morbosa ansia di inebriarti con le acque torbide dei corporali diletti lo stesso amore che hai in cuore e che di solito eleva anche gli uomini mediocri non è che una passione calcolatrice di tradimenti fra i primi lampi del piacere tu uno dei nostri tu un confratello dell'augusto ordine tu un aspirante agli astri che scintillano nella semaia della pianura caldea l'aquila non può innalzare fino al sole che l'aquilotto io t'abbandono al tuo fievole crepuscolo ma guai per te disubbidiente profano tu fiutasti l'elisir attirasti in tua presenza un nemico che non perdona i rimorsi tu stesso devi esorcizzare l'evocato fantasma riedi nel tuo mondo ma non senza castigo e senza grandi sforzi potrai recuperare la calma e la gioia della scorsa tua vita per tuo conforto io ti avverto che colui il quale infuse nelle sue membra anche una minima dose della volatile vitale energia delle sostanze aeree come tu facesti risvegliò in sé facoltà che non possono più riassupirsi facoltà che possono ancora mediante paziente umiltà fede sincera e coraggio non proprio di un corpo robusto qual è il tuo ma d'uno spirito virtuoso e risoluto possono ancora condurlo se non alla cognizione di verità trascendentali almeno ad alta meta nella vita il cuor tuo fra le gioie volgari aspirerà ad alcunché di più santo la tua ambizione fra vili spinte ad alcunché di non materiale ma non credere che tali impulsi bastino alla tua gloria possono altresì spingerti alla vergogna e dal delitto ecco desta soltanto un'imperfetta e appena nascente energia la quale non ti lascerà mai in riposo secondo la quale tu crederai emanare la medesima dal tuo buon genio o dal cattivo ma guai a te insetto ravvolto nella rete in cui impigliasti l'ali tu non solo ispirasti l'elisir ma scongiurasti lo spettro fra tutte le tribù dello spazio non va nemico più maligno di lui per l'uomo e tu hai sollevato il velo che lo nascondeva al tuo sguardo a me non è concesso restituirti la felice incoscienza della tua visione sappi almeno che noi tutti i più saggi e potenti i quali oltrepassammo con sobria fede il limitare del mondo superiore dovemmo per prima tremenda prova vincere padroneggiare lo spaventevole custode del medesimo sappi che tu puoi liberarti da quei lividi occhi sappi che mentre t'affisano non han potere di nuocerti purché tu resista ai pensieri con cui ti tenterà e vinca l'orrore che suscitano temilo più quando non ti sta innanzi ed ora figlio dei vermi noi ci separiamo tutto quanto io posso dire per incoraggiarti e servirti di guida te lo palesai in queste righe il funesto destino che incontrasti e dal quale credo che potrai ancora sottrarti riacquistando la pace dell'animo non lo devi imputare a me bensì a te solo tipo della scienza cui servo io non risparmio lezioni al puro aspirante ma sono un enigma inesplicabile al comune indagatore siccome l'unico possesso non distruggibile cabbia l'uomo è la propria memoria così non è dato all'arte mia di materializzare i pensieri incorporei che sorsero nella tua mente tu stesso devi indurre in polvere questo castello e spianare la montagna il maestro non ha potere di dire più non esisti ad un pensiero che i suoi insegnamenti hanno suscitato tu puoi dar nuove forme a codesto pensiero tu puoi sublimarlo ma non potrai annientarlo poiché ha stanza unicamente nella memoria non ha sostanza fuorché l'idea ogni pensiero ha un'anima in vano dunque io tu vorremmo cancellare il passato e far sì che recuperi la gaia incoscienza della gioventù devi sopportare l'influsso delle lisirche assorbisti devi lottare con lo spettro che hai evocato glindon lasciò cadere di mano la lettera una specie di stupore sottentrò alle varie emozioni che si erano succedute durante la lettura stupore somigliante a quello che ti è indietro nel cuore umano alla distruzione di un ardente desiderio di una speranza a lungo nutrita d'amore ed avarizia o d'ambizione il mondo per il quale egli aveva tanto sacrificato e lavorato gli era chiuso per sempre e per colpa sua per sua follia e presunzione ma glindon non era d'indole di condannare lungamente se medesimo la sua indignazione proruppe contro mejnur il quale confessava d'averlo tentato e che ora l'abbandonava in presenza dello spettro i rimproveri del mistico l'irritarono anziché umiliarlo qual delitto aveva egli commesso per meritarsi un linguaggio così aspro e disdegnoso era dunque tanta viltà il compiacersi nel sorriso e negli sguardi di fillide non aveva lo stesso zanoni confessato l'amor suo per viola glindon non si curava riflettere se vi fosse una distinzione tra un amore e l'altro dov'era la colpa nel cedere ad una tentazione che esiste soltanto per l'uomo valoroso non stava forse scritto sul mistico volume lasciato aperto da mejnur guardati dal timore non vi era stata ogni più forte provocazione che agir possa sull'umano intelletto nel divieto d'entrare nella stanza nel possesso della chiave che citava tale curiosità nel volume che pareva indicare il modo di appagarla mentre tali pensieri si succedevano rapidamente cominciò ad analizzare l'intera condotta di mejnur o come un perfido disegno per fargli partecipare la sua miserabile condizione o come il reggiro di un impostore il quale si accorge di non poter effettuare le sue grandi promesse rileggendo i misteriosi avvertimenti della lettera gli parevano assumere il linguaggio di mera parabola o allegoria il gergo dei platonici e dei pitagorici a poco a poco incominciò a credere che lo spettro da lui veduto l'orribile spettro altro non fosse che un'illusione la quale mejnur con la sua scienza l'aveva abilitato a suscitare il sole ravvivatore che penetrava da ogni parte nella camera giovava a sgombrare i terrori della passata notte l'orgoglio e il risentimento rafforzavano l'usuale suo coraggio e quando dopo essersi in fretta vestito raggiunse paolo aveva le guance colorite e il passo altiero dunque disse gli il padrone come lo chiamate vingiunse ad aspettarmi e salutarmi alla festa del villaggio sì inviandomi il messaggio da un vecchio mendicante allora ne fui sorpreso credendolo lontano da qui ma a questi gran filosofi si fan gioco di 5 o 600 miglia perché non mi diceste quanto avevate udito da mejnur perché il vecchio me lo proibì lo vedeste più durante il ballo no eccellenza permettete che io vi serva disse paolo impiendo il piatto e colmando il bicchiere di glindon vi scongiuro signore ora che il padrone è partito non già soggiunse paolo volgendo un'occhiata timida e sospettosa intorno alla camera che io voglia dire alcuna cosa men che rispettosa di lui vi scongiuro ad avere pietà di voi medesimo e interrogare il vostro cuore a che sia destinata la vostra gioventù non già seppellirvi vivo tra queste vecchie rovine e mettere a pericolo corpo ed anima con studi che io son certo nessun santo approverebbe e sono favorevoli santi alle vostre occupazioni maestro paolo perché rispose il bandito alquanto confuso un gentiluomo con piena la borsa di danaro non ha bisogno di vuotare le altrui tasche la cosa è diversa per noi poveri diavoli in fin dei conti io offro sempre una parte del mio bottino alla vergine e divido caritatevolmente il restante col povero ma bevete mangiate state allegro fatevi assolvere dei peccatacci e non fate troppe cose in una volta eccovi il mio consiglio alla vostra salute eccellenza il digiunare fuorché nei giorni d'obbligo non fa che suscitare fantasmi fantasmi sì il diavolo tenta sempre uno stomaco digiuno odiare rubare assassinare sono desideri naturali dell'uomo affamato col ventre pieno noi siamo in pace con tutto il mondo ciò è positivo vi piace la pernice cospetto quando io ho passato due o tre giorni nelle montagne con solo un tozzo di pane nero ed una cipolla da allevare del sole al tramonto divento feroce quanto un lupo e va di peggio allora vedo i diavoletti danzarmi intorno o sì il digiuno è pieno di spettri come un campo di battaglia glindon crede trovare una profonda filosofia nel ragionamento di paolo e certo più egli mangiava e beveva più svaniva dalla sua mente la ricordanza della passata notte e di mesh nur la finestra era aperta spirava la brezza splendeva il sole tutta la natura era ridente mastro paolo giubilante favellava di avventure di viaggi di donne con tal sapore che era contagioso glindon lo ascoltava con maggior compiacenza quando con bocca ridente vantava gli occhi i denti i fianchi e le forme della bellissima fillide costui infatti sembrava una personificazione della vita animale e sarebbe stato per fausto tentatore più pericoloso di mefistofele non vi era sarcasmo sul labbro di lui mentre parlava di piacere con voce animata per glindon che aveva la vanità di imparare tale ignorante indifferenza di temperamento era più corruttrice e dei gelati scherni d'uomo istruito ma quando paolo si congedò con promessa di tornare il diveniente lo spirito dell'inglese tornò a gravi e tristi pensieri sembrava che l'elisir avesse prodotti gli effetti che mesh nur gli attribuiva a misura che glindon passeggiava su e giù nel solitario corridoio e si arrestava guardando l'ampia e magnifica scena che si stendeva al di sotto i pensieri sublimi e ambiziosi le lucenti visioni di gloria passarono rapidamente dinanzi l'anima sua mesh nur mi nega la scienza sua bene disse il pittore alteramente egli non mi tolse l'arte mia e che clarence glindon tornerai tu al punto dove incominciò la tua carriera aveva dunque ragione zanoni passeggiando egli si trovò nella camera del mistico non un vasello non un erba il solenne volume era scomparso l'elisir non olezzava più ma sempre l'atmosfera di quella stanza spirava qualche cosa di magico il desiderio di creare ardeva più intenso nel suo cuore anelava una vita superiore alla sensuale la vita accordata ad ogni genio che spira nelle opere immortali e conserva una fama imperitura dove sono gli arnesi dell'arte tua zitto e quando mai un vero artista mancò di tela eccoti ancora nella tua stanza la bianca muraglia ti serva di canovaccio un pezzo di carbone di pennello e bastano almeno per tracciare le prime linee della composizione che senza di ciò sarebbe svanita dalla mente la mattina dopo l'idea che aveva animata la fantasia dell'artista era fuor di dubbio nobile e augusta proveniva dalla cerimonia in uso presso gli egiziani come ricorda di odoro il giudizio del defunto istituito dai viventi quando il cadavere bene imbalsamato veniva collocato sul margine del lago a cherusio prima di deporlo nella barca per trasportarlo al luogo del suo ultimo riposo era lecito ai giudici trascelti di ascoltare le accuse sulla vita del defunto e se queste venivano provate di privare il cadavere dei riti funebri senza che egli il sapesse era la descrizione di questa costumanza fattali da mechnur il quale l'aveva illustrata con rari aneddoti non reperibili nei libri che ora gli suggeriva l'idea della composizione e le dava forza in realtà glindon immaginò un possente colpevole monarca contro il quale nemmeno un rimprovero si era innalzato in vita ma appena morto sorsero ad accusarlo lo schiavo delle sue catene la vittima mutilata nel carcere lividi e squalliti al pari del morto invocando con raggrinzate labbra la giustizia che sopravvive alla tomba è strano il tuo fervore o artista che sorga all'improvviso tale concetto dalla nebbia e dall'oscurità che la scienza occulta sparse sia a lungo sulla tua fantasia è strano che la reazione del notturno terrore dai disinganni del giorno ti riconduca alla divina tua arte o come speditamente corre la mano sull'ampia muraglia come malgrado ai raggi materiali traspare l'abilità non del pupillo ma dell'artista animato dall'elisir glorioso come presti alle tue immagini la vita immortale a te negata un potere estraneo ti guida al certo la mano nel tracciare il simbolico dipinto sulla muraglia nello sfondo sorge per il defunto un gran mausoleo che costò la vita migliaia d'uomini per innalzarlo dinanzi stan seduti in semicerchio i giudici il lago volge le torbide nere sue onde e sulla riva sta il re defunto e imbalsamato come mummia perché ti farà brividire l'aggrottato sopracciglio del morto ben dipinto artista creasti spaventose fattezze cadaveriche l'umanità non è potente anche al di là della tomba il tuo concepimento glindon ed una sublime verità e promette rinomanza al tuo genio codesta magia va al meglio che il mistico volume i vaselli trascorsero rapide le ore al cadere della notte accendesti la lampada continuando a dipingere misericordia divina che mai rende gelata l'atmosfera perché la fiammella sta per spegnersi perché si rizzano i tuoi capelli là là alla finestra il fantasma indefinibile tiguata con diabolico sogghigno con astio rabbioso nei velenosi sguardi non era illusione glindon ristè senza fiato senza moto finché incapace di sopportare più a lungo quel fisso e infuocato sguardo si ricopersi la faccia con ambo le mani poi con un brivido in tutte le membra ed uno strido lo abbassò e si trovò più presso il fantasma il quale stava sul pavimento vicino al dipinto e oh le figure pareva sporgessero fuori dalla muraglia e quei cadaverici accusatori del morto creati dal suo pennello lo guardavano dileggiando il giovane artista con un violento sforzo che ridusse il suo corpo all'agonia riuscì a padroneggiare il suo terrore si fe incontro al fantasma e affrontando negli sguardi e interrogandolo con ferma voce chiese che volesse e ne sfidò la potenza allora come fischio del vento in un ossario sudì una voce quello che disse e rivelò è proibito al labbro mortale di ripeterlo alla mano di scriverlo null'altro fuorché la sottile vitalità che tuttavia rafforzava le sue membra cui l'assorbimento dell'elisir aveva dato vigore ed energia superiore a quella dei più intrepidi null'altro sarebbe bastato per farlo sopravvivere a quell'ora tremenda meglio vegliare entro le catacombe e vedere i sepolti sorgere dai loro sarcofagi vedere gli spettri nelle orribili loro orge tra il putridume che affrontare quella faccia quando era alzato il velo e udire l'assibilante sua voce l'indomani glindon fuggì dal ruinoso castello con che ambiziose speranze ne aveva varcato il limitare con quali reminiscenze che lo facevano di continuo rabbrividire ne usciva pur rivolgendosi a guardare quelle torri corrose dai secoli capitolo secondo fausto ed ora dove andiamo mefistofele ove t'aggrada vedremo il piccol mondo e poscia il grande ghete tira la scranna presso il camino attizia il fuoco e ravviva la lampada o casa ordinata e confortevole sei pur bello positivismo qualche tempo dopo le vicende narrate nell'ultimo capitolo ci ritroviamo non più nell'isola deliziosa o nel crollante castello ma in una stanza lunga 26 piedi larga 22 con un buon tappeto soffici cuscini solide poltrone ed otto cattivi quadri appesi ai muri tommaso mervel scudiero mercante in londra tu sei un cane degno di invidia tornato dal giro sul continente mero episodio nella sua vita mervel con tutta facilità si pose al proprio banco che sempre gli era rimasto in cuore la morte del padre gli diede una posizione secondaria ma rispettabile in una casa di commercio e la sua ambizione si limitava a divenire il principale di essa si era mogliato non solo per interesse essendo piuttosto mondano che avaro non aveva alcuna romantica idea dell'amore e non di meno era uomo abbastanza sensibile per conoscere che la moglie deve essere una compagna non un oggetto di mera speculazione non si curava della bellezza e dell'ingegno ma gli piaceva salute e buon indole ed una certa dose di talento pratico scelse quindi la moglie dietro i suggerimenti della ragione non del cuore e la scelta fu buona la signora mervel era un'eccellente giovane attiva economica ed affettuosa aveva una volontà propria senza essere però caparbia grandi conoscenze dei diritti matrimoniali ed acume su quanto serve a rendere confortevole la vita ella non avrebbe già mai tradito il marito quando anche il trovasse colpevole di un capriccio per altra donna ma in compenso nutriva una gran persuasione dei propri diritti avorrendo ogni leggerezza e civetteria difetti che spesso distruggono la felicità domestica ma in cui cade senza vedersi una donna frivola perciò stimando inopportuno amar troppo il marito riservava il di più degli affetti per tutti i suoi parenti e amici onde non chiudersi la via a seconde nozze in caso di vedovanza faceva buona cucina avendo mezzi a sufficienza e le sue maniere erano composte ma risolute però se mervel non era puntuale all'ora del pranzo non gli risparmiava qualche rimbrotto insisteva perché cambiasse le scarpe al ritorno al fine di non sciupare i tappeti nuovi e costosi non era coppa né appassionata che il cielo la benedica ma qualora si irritava amministrava un dignitoso rimprovero alludeva alle proprie virtù allo zio ammiraglio o alle 30.000 lire portate in dote quanto a mervel uomo di umore gioviale confessava i propri torti sottoscrivendo ai pregi della moglie e la pace era subito conclusa benché vi siano in ogni famiglia piccoli dispiaceri i coniugi mervel ne avevano pochissimi e la vestiva bene senza andar pazza dietro la moda giammai usciva di camera coi ricci incartocciati né in rocchetto da mattina la peggiore delle abitudini per far perdere le illusioni al marito ogni dia alle 8 e mezza la signora mervel era abbigliata per l'intera giornata vale a dire fino allora da cambiare vesti per il pranzo il corsetto ben allacciato la cuffia bianchissima e la gonna sì l'inverno che l'estate di seta forte e bella a quell'epoca le signore usavano corte cinture così la mervel portava una catena d'oro con appeso l'orologio non già uno di quelli fragili che fanno bella figura ma va male bensì una ripetizione d'oro che marcava i minuti secondi un fermaglio a mosaico e un ritratto in miniatura di suo zio l'ammiraglio in un braccialetto la sera poi i due boccole una collana braccialetti da metisti e topazzi abito di seta color d'oro e un turbante in testa in tale abbigliamento si era fatta ritrarre aveva il naso aquilino denti bianchi bei capelli e sopracciglia pingue alquanto le guance grassotte largo il piede larghe le mani con lunghe sì ben tenute che non vi era un atomo di polvere dalla sua fanciullezza in poi sembrava più attempata che non fosse realmente ma ciò proveniva forse da una certa aria di dignità e dal suo naso aquilino non leggeva mai poesie fuori di goldsmith e cooper i romanzi non la divertivano benché non avesse alcun pregiudizio contressi amava una commedia e un balletto con una cena dopo lo spettacolo ma non poteva soffrire l'opera in musica e i concerti al cominciare dell'inverno sceglieva alcuni libri di lettura e alcuni lavori femminili da intraprendere sì gli uniche gli altri le servivano d'occupazione fino a primavera allora lasciava in disparte i libri suo studio favorito era la storia che imparava sui compendi di goldsmith l'autore suo prediletto in letteratura era johnson donna più rispettabile della marvel non si poteva ritrovare fuorché in un epitaffio era una notte d'autunno e i due coniugi tornati poc'anzi da una gita a weymouth stavano nella stanza dal lavoro sedendo ai due lati della tavola sì va sicuro cara mia che glyndon malgrado tutte le sue stramberie era un'amabile camerata per certo l'avreste amato tutte le donne l'avevano caro mio caro tommaso scusate l'osservazione ma questa frase tutte le donne vi chiedo perdono avete ragione volevo dire che era il favorito del bel sesso capisco dun carattere frivolo frivolo no per verità soltanto un po bizzarro ed anche presuntuoso e testereccio per carattere ma di maniere tranquille e savie direi quasi fin troppo appunto come piace a voi ma per tornare al nostro discorso io sono inquieto per le nuove che abbia oggi sul conto suo pare che abbia condotta una vita molto strana e irregolare viaggiando di paese in paese e sprecando gran somma di danaro a proposito di danaro disse la mervel temo che vi sia bisogno di cambiare il macellaio è certamente d'accordo col nostro cuoco peccato il suo manzo è tanto squisito i servi in londra sono peggiori dei carbonari ma il povero glyndon come stavo dicendo sintese un colpo alla porta di strada dio mi benedica gridò la mervel sono le dieci passate chi può mai essere forse vostro zio l'ammiraglio rispose il marito con una tinta di malumore egli ci favorisce per consueto a quest'ora spero amor mio che nessuno dei miei parenti sia malvenuto in casa l'ammiraglio è uomo piacevolissimo e le sue ricchezze sono a nostra disposizione non va alcuno che rispetti più di lui replicò con enfasi il marito il servo aprì l'uscio annunziando il signor glyndon il signor glyndon quale combinazione esclamò la mervel ma prima che finisse la frase egli era entrato i due amici si abbracciarono con l'effusione dell'antica intrinsichezza avvivata da lunga assenza posha mervel lo presentò in tutte le regole alla moglie la quale con dignitoso sorriso e gettando uno sguardo furtivo ai suoi stivali per paura del tappeto disse all'amico del marito che era il benvenuto in inghilterra glyndon apparve molto alterato da quando mervel lo aveva lasciato in napoli benché fossero trascorsi due soli anni la rose a sua carnagione si era abbronzata profonde rughe scavate dalle cure dai pensieri o dagli stravizi erano sottentrate alle tondeggianti fattezze di una gaia gioventù ai modi una volta gentili ed eleganti sottentrata una certa irrequietudine di maniere di tono che palesava l'abitudine di una società non curante il tranquillo decoro convenzionale una specie di selvaggia nobiltà prima non esistente caratterizzava la sua fisionomia rendendo dignitoso il gesto e il linguaggio per sé libero voi dunque siete accasato mervel neme dopo chiedere se vi trovate felice salute rettitudine buon indole ed una sì bella compagna conducono alla felicità prendereste una tazza di tè chiese la mervel gentilmente grazie no propongo uno stimolo più geniale al mio vecchio amico vino mervel vino ovvero un bicchiere di vecchio punch inglese vostra moglie ci avrà per scusate se passiamo la notte bevendo la signora ritirò la sua scranna senza alzar gli occhi ma glindo non lasciò all'amico il tempo di rispondere eccomi finalmente in inghilterra continuò guardando intorno alla stanza con un lieve sogginio certo questa sobria atmosfera deve avere un'influenza certo qui troverò il riposo foste malato glindo malato sì avete una bella casa non vi sarebbe una stanza di più per un solitario viaggiatore mervel adocchiò la moglie che non alzò gli occhi dal tappeto modesto e quieto di modi pensava ella nel settimo cielo dello stupore dell'indignazione mia cara chiese il marito con dolcezza e in tono interrogativo mio caro replicò la moglie come se non avesse capito possiamo noi a prestare una camera o sara per il mio vecchio amico il vecchio amico si era sdraiato su una poltrona e contemplava il fuoco posando i piedi sopra gli alari come dimentico della sua richiesta la signora si morse le labbra riflette un istante poscia replicò è certamente mervel gli amici vostri hanno diritto di star qui come in casa loro così dicendo accese un lume e uscì maestosamente quando rientrò in sala i due amici erano scomparsi ritirandosi nello studio suonarono le dodici l'una le due tre volte la mervel mandò nello studio per sapere la prima volta se occorreva qualche cosa la seconda volta se il signor glindo dormiva sopra un materasso ovvero un piumaccio al fine per chiedere se doveva aprire la valigia di lui in risposta alle tre domande suddì la voce del forastiero che rintronava dalla cucina al primo piano un'altra coppa più forte se vi piace recatela subito da ultimo mervel comparve nella camera nuziale non pentito non per giustificarsi ma con gli occhi scintillanti le guance infiammate barcollante e gli cantava il signor tomaso mervel proprio cantava è ciò possibile signore il vecchio re cola fu un'alma giuliva mervel signore lasciatemi sola fu un'alma giuliva davvero lo fu qual esempio i servitori chiedeva la pipa la tazza chiedeva se non tenete le mani a caso signore io chiamerò chiamate e chiamate per tre suonatori capitolo terzo quando la solitudine tu lasci per il gran mondo i sensi tuoi sottundono non più è il sentir profondo e il con lusinghe perfide vuole adescarti allora ghete faust la mattina seguente a colazione la mervel era accigliata come donna offesa da grave ingiuria il marito raffigurava l'immagine del colpevole in preda al rimorso appena disse qualche parola lagnandosi delle micranie pregando che togliessero di sulla tavola le uova clarence glindon al contrario inconscio non curante impenitente era d'umore allegrissimo e chiacchierava per tre povero mervel egli ha perduta l'abitudine della buona compagnia un'altra notte o due e tornerà qual era altre volte signore disse la mervel lanciando una sentenza premeditata con una dignità più che johnsoniana signore permettete che vi faccia riflettere essere ora mervel uomo ammogliato futuro padre di famiglia e attuale padrone di casa precisamente i titoli per i quali lo invidio o anch'io gran voglia di ammogliarmi la felicità è contagiosa v'occupate ancora di dipingere chiese languidamente mervel per volgere il discorso sopra l'ospite suo o no seguì il vostro consiglio non più arte non più ideale solo vuoi in traccia di quanto è positivo e comune se dovessi ancora dipingere va sicuro che comprereste i miei quadri orsù sbrigatevi a finire la colazione ho bisogno di consultarmi con voi sono venuto in inghilterra per dar sesto ai miei affari la mia ambizione è di far denaro a ciò mi possono giovare vostri consigli e l'esperienza vostra ah siete disingannato della pietra filosofale dovete sapere sara che quando io lasciai glyndon egli si stava occupando di magia ed alchimia siete bizzarro stamane mervel rispose la moglie è vero sull'onor mio non ve l'ho già detto glyndon balzò in piedi esclamando perché risvegliare tali memorie di follia e presunzione non vi dissi che sono tornato in patria per darmi assaggi e occupazioni sì che avvi di più saggio di più nobile di più omogeneo alla nostra natura di quella che voi chiamate vita pratica se noi siamo dotati di facoltà qual uso migliore che di renderle proficue comperare il sapere come gli altri beni comperarlo al minor prezzo possibile per venderlo al più alto non avete ancora terminata la colazione i due amici uscirono a passeggiare per le strade e mervel rabbrividiva per l'ironia con cui glyndon lo complimentava sulla di lui rispettabile posizione le intraprese commerciali il felice matrimonio e gli otto quadri che freggiavano le pareti della sala un tempo il sobrio mervel imponeva l'amico lo pungeva con sarcasmi e faceva vergognare delle sue stranezze ora le parti erano scambiate essendovi nell'alterato carattere di glyndon una fierezza che riduceva al silenzio lui uomo quieto e casalingo sembrava si prendesse maligno piacere di persuadergli come la pacata vita mondana fosse spregevole e vile ah esclamò glyndon quanto non avevate ragione di predicarmi un rispettabile matrimonio di avere una solida posizione di vivere in rispettoso timore del mondo ed una moglie acquistandosi l'invidia del povero o la buona opinione del ricco voi metteste in pratica mervel tutti i vostri consigli deliziosa esistenza la stanza del mercante la lettiera a cortinaggio vi passeremo noi un'altra notte mervel imbarazzato e offeso volse il discorso agli affari di glyndon e fu meravigliato della pratica del mondo che l'artista pareva aver acquistato di improvviso e più ancora meravigliato dell'acume dell'energia con cui parlava delle speculazioni più in voga alla borsa davvero glyndon era bramoso da arricchire di rendersi rispettabile almeno cavare il 10 per cento del suo denaro dopo aver passati alcuni giorni col mercatante durante i quali si sforzò di disorganizzare tutto il meccanismo familiare di cambiare la notte in giorno l'armonia in alterchi di rendere la povera signora mervel distratta e convincere il marito che era un pulcino bagnato il malaugurato ospite li abbandonò all'improvviso come era giunto pigliò una casa propria e cercò la società di gente ragguardevole dedicandosi alle speculazioni di borsa pareva fosse divenuto uomo d'affari le sue speculazioni erano ardite e colossali i calcoli rapidi e profondi e gli sbalordì mervel con la sua energia e la bagliò coi guadagni allora cominciò a invidiarlo malcontento dei suoi lucri scarsi e regolari quando glyndon vendeva o comprava fondi pubblici le ricchezze gli giungevano addosso come le onde del mare il denaro che con anni di lavoro avrebbe potuto guadagnare con la pittura lo ammassò in pochi mesi con una serie di fortunate speculazioni ad un tratto non di meno abbandonò la borsa adescato da nuovi oggetti d'ambizione se udiva un tamburo per le strade fantasticava la gloria del soldato se usciva in luce un nuovo poema la rinomanza dell'autore incominciò opere letterarie che promettevano una gran riuscita poi annoiato le gettò in disparte un bel giorno abbandonò la società decorosa e formalista da lui frequentata associandosi con giovani turbolenti e si immerse in tutti gli stravizi di una grande metropoli in cui l'oro governa il lavoro e il piacere in qualsiasi carriera glyndon spiegava una gran forza d'animo ed un potere inesplicabile in tutte le società aspirava al comando in ogni intrapresa a primeggiare qualunque fosse la passione momentanea la reazione era violentissima sul di lui spirito talvolta egli cadeva in tetri vaneggiamenti la sua febbrile inquietudine era quella di un uomo che vuol sfuggire alle reminiscenze il suo riposo lo stato di chi è sovrappreso nuovamente da reminiscenze che lo divorano come una preda oramai merve il poco nulla sapeva di esso evitandosi l'un l'altro glyndon non aveva confidenti né amici capitolo quarto ti sento a me vicino solingo e moto horror veggo del mondo incognito lo spettro abitatore oland glyndon fu tolto a quell'alternativa di quiete agitazione da sua sorella che parva esercitare una salutare influenza sovresso orfana dimorava in campagna presso una zia negli anni prima della giovinezza egli aveva amata la sorella minore d'età con tutta la tenerezza reduce in inghilterra pareva aver scordato che esistesse ma ella essendo morta la zia gli scrisse un'affettuosa e melanconica lettera in cui diceva non avere più casa né più parenti fuori del fratello glyndon pianse leggendo e aspettò con impazienza l'arrivo di adele questa fanciulla di 18 anni copriva sotto un esteriore calmo e gentile molto di quel romanzesco entusiasmo che all'età stessa aveva spiegato il fratello se non che in lei l'entusiasmo era più puro e ristretto in giusti limiti parte per la dolcezza dell'indole femminile parte per una severa educazione metodica adele differiva da glyndon specialmente per una timidezza di carattere eccessiva all'età sua ma che pure nascondeva usa padroneggiarsi nel modo stesso che nascondeva il suo romanzesco entusiasmo non era bella di forme esili di salute debole e talmente sensibile di nervi che ogni impressione morale reagiva simpaticamente sul fisico ma siccome già mai si lagnava e la serena sua fisionomia pareva denotare un temperamento equanime che il volgare avrebbe giudicato indifferentismo così non aveva bisogno di sforzi per nascondere le sue interne sofferenze cotanto vi era avvezza quantunque non bella come notai era piacevole un'ingenua affezione una grazia ammaliante nel sorriso l'ansietà di rendersi altrui gradita confortatrice la rendevano amata perché amabile adele era stata molti anni vittima di una parente egoista e capricciosa assistendola nella sua malattia la onde la cordiale accoglienza di glyndon e l'affetto delicato e rispettoso di lui le riusciva altrettanto nuovo che delizioso egli si compiaceva della felicità da esso creata a poco a poco allontanandosi dalla società gustò le gioie domestiche non è quindi straordinario che la giovane adele col cuore vergine ed ogni ardente passione concentrasse l'affetto e la riconoscenza sul fratello che la proteggeva studiandosi il giorno e sognando la notte sul modo di contraccambiarlo orgogliosa dei talenti di glyndon ogni bagatella che gli andasse a genio diventava per lei affare di somma importanza in una parola l'entusiasmo di cui era piena lo concentrò in quell'unico oggetto di una sacra tenerezza ed una pura ambizione a misura però che in lui scemava quel fittizio eccitamento con cui da un pezzo cercava consumare il tempo e distrarre i suoi pensieri divennero più frequenti e più lunghi gli accessi di tetragine temeva di rimanere solo non soffrendo che adele si allontanasse un momento cavalcava con lei e con visibile ripugnanza si ritirava per riposare un'ora vinto da stanchezza non già in forza ad una dolce melanconia vensì di un'angoscia straziante sovente dopo un silenzio di morte tanto glyndon rimaneva immobile e astratto balzando all'improvviso in piedi girava intorno gli occhi spaventati tremava in tutte le membra le labbra pallide il fronte bagnato di freddo sudore adele convinta che alcun segreto cordoglio rovinasse la salute di lui non aveva che un desiderio di consolarlo osservò con lo squisito tatto femminile che glyndon si disgustava quando ella si mostrava afflitta della sua tetragine per cui si abituò a nascondere i propri timori e sentimenti non cercò ottenere la confidenza del fratello che troppo assorto nella sua strana esistenza per studiare l'altrui carattere scambiò un umile generoso amore per energia di spirito qualità che gli piacque essendo appunto l'energia che cercava in chi gli stava vicino è tanto irresistibile il desiderio di confidare i propri sentimenti che l'uomo isolato ripete spesso fra sé il mio cuore si allevierebbe espandendosi comprese altresì che adele giovane e inesperta esaltata l'intenderebbe sopportandolo meglio ad ogni altra persona positiva mervele avrebbe giudicate le sue rivelazioni vaneggiamenti di un frenetico altri illusioni ottiche occhimere di un malato mentre si andava in tal guisa disponendo ad una confessione una sera adele che aveva ereditato al pari del fratello talento per le arti stava dipingendo quando glindon risvegliandosi da meditazioni meno cupe del solito si alzò e passandole amorosamente il braccio intorno alla sua taglia guardò il suo lavoro ad un tratto con un'esclamazione le strappò di mano la tela gridando che fate qual ritratto è codesto caro fratello non vi ricordate l'originale è la copia del ritratto del nostro saggio antenato che la povera madre soleva dire somigliarvi tanto credetti vi andrebbe a genio e lo copiai a memoria maledetta la somiglianza rispose glindon in tono cupo non indovinaste il motivo che mi impediva di tornare alla casa dei miei padri era per timore di rivedere questo ritratto perché ma scusate io vi inquieto no no già mai quando parlate il vostro silenzio soltanto mi atterrisce o se m'aveste giudicata degna della vostra confidenza e accordato il diritto di parlare sul cordoglio che vorrei dividere con voi glindon nulla rispose passeggiando su e giù per la stanza si fermò e guardando con amore la sorella rispose sì tu pure sei una discendente di lui conosci che visse e soffrì non riderai di me non mi negherai fede ascolta dunque che rumore è questo il vento che fischia clarence non l'altro che il vento forgi la tua mano lascia chi ne sente i battiti e non ripetere mai più sillaba di quanto palesero nascondilo a tutti giura che il segreto morrà con noi ultimi rampolli di una stirpe predestinata giammai tradirò la vostra confidenza lo giuro e in così dire adele si strinse al fratello allora questi incominciò il racconto che in iscritto sembrerebbe freddo a gente poco credula ma che era convincente narrato da glindon le cui angosce servivano di prova molte circostanze egli tacque molte ne raddolci involontariamente pure disse abbastanza per rendere intelligibile la sua storia alla tremante ascoltatrice sul far del giorno fuggì da quel maledetto castello non avendo più che una sola speranza ad andare in traccia di mejnur e costringerlo a discacciare il fantasma che mi turbava l'anima con tale intento girai l'italia di città in città facendo le più attive indagini nei pubblici uffizi e ricorrendo perfino alle autorità che avevano mostrato poc'anzi tanto zelo nell'arresto di cagliostro impostore assai meno pericoloso ma in vano nessuna traccia di lui mi riuscì di scoprire io non ero solo adele a questo punto fe pausa imbarazzato poiché è inutile l'avvertire che gli tacque di fillide la quale l'aveva accompagnato nei suoi viaggi non ero più solo ma il mio compagno non era tale cui potessi confidarmi fedele sì amorevole ma ineducato senza attitudine a capirmi mosso dall'istinto anziché dalla ragionevolezza un compagno insomma col quale il cuore si apriva nei momenti tranquilli ma incapace di consigliarmi e dirigermi pure in sua compagnia il fantasma non mi tormentava lascia che io meglio spieghi il tremendo effetto della sua presenza nelle orge nelle triviali abitudini della vita nelle risse nella torpida letargia animale che noi dividiamo coi bruti gli occhi del fantasma erano invisibili e non sentivo il suo alito ma allorquando l'anima mia si elevava l'immaginazione si volgeva nobile meta e la coscienza si ribellava contro la spregevole vita che io conducevo allora o adele il fantasma mi appariva al fianco al chiarore della luna e sedeva il mio capezzale visibile fra le tenebre se nelle gallerie dei capi d'arte i sogni della mia giovinezza ridestavano la prima vocazione se io facevo proponimenti di saggezza se l'esempio dei grandi uomini se il colloquio coi savi risvegliavano il mio addormentato intelletto il fantasma si affacciava come per incantesimo finalmente una sera a genova città dove ero andato in cerca di mesnur all'improvviso e quando meno me l'aspettavo egli mi comparve dinanzi era di carnevale in una di quelle frenetiche scene di tripudio che riproducono gli antichi saturnali in mezzo alle feste del cristianesimo stanco di danzare entrai in una camera dove si trovavano molti guzzovigliatori bevendo e chiassando i loro fantastici travestimenti e le luride maschere lasciavano a quell'orgia appena qualche cosa di umano io mi cacciai fra loro e invaso da quella febbrile esaltazione di mente che gli uomini felici non conoscono divenne il più turbolento di tutti il discorso cadde sulla rivoluzione di francia la quale aveva per me un fascino irresistibile le maschere parlavano del millennio che stava per verificarsi sulla terra non già come filosofi che si rallegrano all'apparire della luce ma quali ribaldi esultanti per l'abolizione d'ogni legge non saprei dire il perché ma il licenzioso linguaggio di essi mi infettò e voglioso di sempre primeggiare in ogni circolo io li superai nel declamare sulla natura della libertà che stava per riunire tutti gli abitanti del globo libertà che invaderebbe non solo la pubblica legislazione ma la vita domestica quale emancipazione di qualsiasi vincolo che gli uomini abbiano imposto a sé medesimi in mezzo a quella tirata una delle maschere mi sussurrò all'orecchio badate alcuno va ascolta e sembra una spia seguì con l'occhio l'indicazione della maschera escorsi un uomo che non prendeva parte al discorso ma che mi guardava fisso era travestito come gli altri pure m'accorsi dal bisbiglio generale che nessuno l'aveva veduto entrare il suo silenzio e l'attenzione allarmarono i gozzoviglianti ma non fecero che vi è più riscaldarmi pieno del mio soggetto e volgendomi all'incognito che sedeva solo in disparte non rimarcai che gli astanti ad uno ad uno erano usciti lasciandoci soli finché facendo una pausa dal mio vehemente declamare esclamai e voi signore quale idea avete di questa grande epoca opinioni senza persecuzione fratellanza senza gelosia amore senza vincoli e vita senza dio aggiunse la maschera mentre io esitavo per trovare nuove immagini il suono d'una voce ben nota mutò l'ordine dei miei pensieri balzando in piedi gridai impostore o demonio al fine ci troviamo sorse al mio avvicinarsi e smascherandosi riconobbi le fattezze di mejnur egli fisso gli occhi su di me con tale maestà che mi rese immobile come inchiodato al terreno sì rispose solennemente ci incontriamo ed è un incontro che io cercai in qual modo avete voi seguite le mie ammunizioni sono queste le scene in cui un aspirante alla sublime scienza pensa sfuggire al fatale nemico le idee che palesaste che distruggerebbero ogni ordine nell'universo esprimono forse le speranze del saggio che tende a innalzarsi all'armonia delle eterne sfere è colpa vostra sì vostra esclamai esorcizzate il fantasma toglietemi quest'incubo che m'opprime l'anima mejnur mi guardò un istante con freddo e cinico sdegno che risvegliò di nuovo in me rabbia e timore indi replicò no pazzo illuso dei vostri sensi no voi dovete fare una compiuta esperienza delle illusioni che l'uomo senza fede prova nella sua titanica salita voi vaneggiate nel millennio lo vedrete sarete uno degli agenti dell'era di luce e di ragione vedete al vostro fianco ora che sto parlando il fantasma che voi fuggite attraversa il vostro sentiero e conserva sopra di voi un potere che sfida perfino il mio negli ultimi giorni di questa rivoluzione che voi invocate fra le rovine dell'ordine che maledite come un'oppressione cercate il compimento del vostro destino e attendete la guarigione in quel mentre un drappello di maschere allegre schiamazzanti si precipitò nella sala e mi divise dal mistico io mi cacciai fra esse per tenerli dietro ma inutilmente l'indomani tutte le mie indagini furono del pari inutili impiegai alcune settimane ricerche senza poter scoprire la minima traccia di mesh nur sazio di falsi piaceri irritato per i rimproveri di cui mi sapevo meritevole rifuggendo per la profezia di lui dalla scena in cui dovevo trovare la mia liberazione mi venne in mente che nella quiete della mia inghilterra fra l'ordine e le sensate intraprese riuscirei a svincolarmi dal terribile e opprimente fantasma abbandonato tutto ciò che per la dietro mi dilettava venni qui trovando in mercenaria ed aride speculazioni lo stesso sollievo che negli stravizi il fantasma era invisibile ma quelle imprese mi vennero annoia sentendo essere io nato per uno scopo più nobile d'un meschino lucro e che la vita può riuscire ugualmente spregevole per il freddo piacere dell'avarizia come per passioni sfrenate un'ambizione più nobile non restava dal pungermi ma proseguì glindon con labbro tremante ed un brivido in tutte le membra ad ogni sforzo che io tentavo per sublimarmi il lurido fantasma mi s'affacciava tremendo innanzi i volumi dei poeti e dei filosofi sorgeva nel silenzio della notte coi suoi occhi infuocati e mi pareva udire l'orribile suo sibilo sussurrarmi tentazioni che giammai paleserò glindon fe pausa e gocce di gelato sudore gli bagnavano la fronte ma io rispose adele domando il terrore abbracciando il fratello ma io d'ora in poi non vivrò che per te questo affetto si puro si santo sgombrerà i tuoi spaventi no no esclamò glindon staccandosi da lei la peggior rivelazione sto per fartela da che tu fosti qui da che io fermamente mi allontanai dai luoghi dove il fantasma non mi assediava io ho cielo pietà pietà eccolo al tuo fianco là in così dire stramazzò privo di sensi capitolo quinto chi può narrare il coraggio del moriente meravigliosa notte le membra pareva fossero già incadaverite uland una febbre accompagnata da delirio tenne glindon per alcuni giorni fuori dei sensi e quando per le cure da dele più che per arte dei medici recuperò la ragione fu colpito del cambiamento delle fattezze di lei sulle prime suppose che la sua salute si fosse alterata per le sostenute veglie in assisterlo ma tosto gli fu chiaro con un'angoscia non scevra da rimorsi che la malattia da dele aveva profonde radici e inutili sarebbero i rimedi l'immaginazione di lei poco meno esaltata della sua venne tremendamente colpita dal fatale racconto e dal delirio di glindon che ripeteva ecco ecco il fantasma vicino a te o sorella in tal modo aveva trasfuso in essa quel terrore che non gli concedeva pace se ne avvide non già dai discorsi ma dal silenzio di adele dagli occhi erranti nello spazio dei brividi che la colpivano da orribili sussulti dal non osare di guardare dietro a sé allora si pentì amaramente della fatta confessione accorgendosi che nulla vera di santo nel loro soffrire in vano tentò ritrattarsi negare quanto fece in italia asserendo essere chimere del suo cervello malato generosa fu codesta negazione perché ben spesso favellando in tal guisa vedeva il fantasma sorgergli a fianco e guatarlo mentre egli ne negava l'esistenza ma ciò che lo fece rabbrividire se era possibile ancor più dell'alterate sue fattezze fu che l'amore della sorella per lui si mutò in orrore impallidiva se le si avvicinava trasaliva ogni volta che le prendeva la mano separati dal mondo strane reminiscenze sorgevano fra di loro egli non poteva più tollerare la presenza di lei che gli amareggiava la vita addusse pretesti di dover partire e strabiliò vedendo che erano accolti con premura il primo raggio di gioia che travide in viso ad adele dopo la notte fatale fu quando mormorò la parola addio glindon peregrinò alcune settimane nei luoghi più selvaggi della scozia ma le scene imponenti della natura sì care all'artista erano mute ai suoi occhi stralonati una lettera lo richiamò in londra angosciato da nuovi timori giunse per trovare la sorella in condizioni di spirito e di corpo le più allarmanti l'errante sguardo di adele l'immobilità delle membra lo spaventarono fu come avesse veduta la testa di medusa e scorse rabbrividendo una creatura umana irrigidirsi come una statua non era frenesia non idiotagine ma astrazione apatia un sonno vegliando solamente la notte all'avvicinarsi dell'ora undecima ora in cui glindon aveva terminato il suo racconto adele diveniva visibilmente inquieta e ansiosa mormoravano le sue labbra si ragrinsevano le mani e girava intorno gli occhi come per implorare soccorso e protezione e allo scoccare del pendolo stramazzava con uno strido priva di sensi a gran fatica dopo reiterate preghiere rispondeva alle affannose domande del fratello infine gli confessò che in quell'ora dovunque si trovasse e qualunque si fosse la sua occupazione vedeva palesemente comparire una vecchia strega la quale dopo aver picchiato tre volte all'uscio entrava in camera e zoppicando alla sua volta con faccia minacciosa e spaventevole rabbia le cacciava le dita agghiacciate sulla fronte in quel momento asseriva che perdeva i sensi risvegliandosi non faceva che aspettare in un'ansia che le gelava il sangue il ritorno della tremenda visitatrice il medico chiamato alcuni giorni prima dell'arrivo di glindon e che gli aveva scritto di tornare senza indugio a londra era un mediocre pratico ignaro della malattia chiese che se ne chiamasse un altro più esperto di lui glindon ricorse al più rinomato di londra raccontandogli le allucinazioni cui andava soggetta sua sorella il professore dopo averlo attentamente ascoltato parve lusingarsi della guarigione recatosi a visitare la malata due ore prima del momento che si appaventava all'insaputa ad ognuno avanzò gli orologi d'un'ora amministrata ad adele una pozione calmante e incoraggiandola con liete speranze proseguì ad occuparne l'attenzione scuotendola dal letargo con vivaci discorsi essendo uomo di spirito e divertente suonò l'ora fatale rallegrati fratello gridò l'infelice stringendolo fra le braccia il tempo è trascorso e come liberata da una malia assunse i suoi modi lieti perdona clarence continuò se ti abbandonai perdona se ti ho temuto io vivrò sì vivrò per schiacciare anch'io il fantasma che ti assedia e gli sorrideva tergendo le lacrime dagli occhi infiammati il medico ripigliava gli scherzi gli aneddoti quando sul più bello di un racconto interessantissimo glindon scorse d'improvviso in volto ad adele lo stesso orribile cambiamento lo stesso sguardo stravolto irrequieto osservato la notte antecedente balzò in piedi correndo le vicino adele trasalì esclamando guarda 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 e la giunge salvami salvami e cadde sui piedi in preda violente convulsione mentre l'orologio ritardato batteva l'ora il medico la sollevò il mio peggiore pronostico si avverò disse gravemente è un'epilessia la notte seguente all'ora medesima adele glindon spirò capitolo sesto la legge il cui regno vi spaventa tiene la sua spada alzata sopra di voi il genere umano ha bisogno di questo esempio cuton o gioia sei ritornato questa è la tua mano queste le tue labbra dimmi che non mi abbandonasti per l'amore d'un'altra ripetilo sì ripetilo sempre ti perdonerò tutto il resto dunque mi piangesti piangerti e tu fosti tanto crudele da lasciarmi del loro eccolo intatto povera figlia della natura come dunque ti sei procacciato ricovero e sussistenza in marsiglia onestamente anima dell'anima mia onestamente ma tu mi trovi ancora bella come altre volte sì fillide più bella che mai e che facevi va qui un pittore e un grand'uomo uno dei loro grand'uomini parigini non so qual titolo gli diano ma comanda tutti in marsiglia e da poteri di vita e di morte egli mi pagò generosamente soltanto per fare il mio ritratto da offrire alla nazione giacché dipinge soltanto per la gloria pensa quale sarà la rinomanza di fillide e gli occhi ardenti della fanciulla d'ardeggiavano per vanità egli mi avrebbe sposata se l'avessi voluto ma io t'aspettavo in grato sudì un colpo all'uscio ed entrò un uomo nicò ah glindon bentornato e che tu sei due volte mio rivale ma giovanni nicò è senza malizia servi il mio paese o cittadino e ti perdonerò di essere preferito dalla bellezza sairà sairà mentre così parlava il fiero inno marsigliese rintronò nelle strade che il popolo in folla percorreva con armi e bandiere chi avrebbe immaginato che quell'entusiasmo marziale fosse non per una guerra ma per il massacro di francesi vi erano due partiti in marsiglia e giordano il tagliateste aveva gran faccende con la ghigliottina glindon appena giunto e ignaro delle fazioni non l'altro capiva fuorché il canto il tripudio le armi e la bandiera col glorioso emblema il popolo francese sorto contro i tiranni la sua fronte corrugata si rischierò e si affacciò alla finestra sotto cui la folla marciava dietro la bandiera scoppiò un applauso tosto che scorsero il patriota nico amico della libertà e dell'agitatore herbert con al fianco uno straniero un altro viva gridò il pittore pel bravo inglese che abbiura i suoi pite e i suoi coburgo per essere cittadino francese e libero mille voci ferirono l'aria e la marsigliese proruppe con crescente energia bene forse in mezzo a questo popolo valoroso e fra si vive speranze svanirà il fantasma e avrà principio la mia guarigione mormorò glindon fra sé e gli parve sentirsi scorrere di nuovo entro le vene il misterioso elisir sarai membro della convenzione compene cluz me ne incarico io gridò nicò battendogli con la mano la spalla ora a parigi o se io potessi veder parigi esclamò filli de giubilante e intanto l'aria e l'intera città risuonavano dei gemiti d'agonizzanti e degli urli dei sicari o dormi nella tua tomba povera adele gioia gioia nell'esultare dell'uman genere devono cessare tutti gli affanni il turbine già di trasporta qui non esiste più individualità e tutto è in comunanza apri le tue porte bella parigi agli stranieri fatti cittadini e voi dolci repubblicani accogliete nelle vostre file il novello campione della libertà della ragione dell'umanità mesh nur ben disse che la virtù il valore i generosi sforzi a beneficio dell'umana razza ricaccerebbero fra le ombre il fantasma la stridula voce di nicò acclamando robespierre ferì l'orecchio di clinton fiaccola colonna pietra angolare dell'edificio della repubblica lo guardava con gli occhi iniettati di sangue fillide gli gettò appassionatamente le braccia al collo e glindon a mensa in letto benché non veduto aveva sempre vicino il fantasma innominato che lo travolgeva in quel mare i cui flutti erano sanguigni e che assumeva forme diaboliche con gli occhi in lui fissi libro sesto la superstizione sottentra alla fede non fa duopo che tu veda apparire marte né che le anime evocate ti si affaccino sempre alla mente proclo oracoli di calcide capitolo primo ivi geni erano dipinti con un canestro pieno di fiori ghirlanda in una mano e nell'altra una verga alessandro ross mistagogia poetica secondo l'ordine degli avvenimenti riferiti in questo racconto la partenza di zanoni e viola dall'isola di grecia in cui avevano vissuto felici due anni ebbe luogo circa l'epoca dell'arrivo di glindon a marsiglia e precisamente fu nell'anno 1791 che viola fuggì da napoli col suo misterioso amatore e glindon andò in traccia di mechnur nel fatale castello ora siamo sul finire del 1793 e il raccotto torna a zanoni scintillavano le stelle in una notte invernale sulle lagune di venezia taceva il rumore al rialto e gli ultimi sfaccendati lasciavano deserta la piazza di san marco soltanto a lontani intervalli si udiva il remeggio delle rapide gondole trasportanti i gozzovigliatori e gli amanti alle loro case però si vedevano i lumi apparire scomparire dietro le finestre di uno dei palazzi di palladio che proiettano la loro ombra sulle acque del canal grande in quelle stanze vegliavano due eumenidi che mai non dormono per l'uomo il timore e l'angoscia ti renderò l'uomo più ricco di venezia se la salvi signore rispondeva il medico il vostro oro non può bilanciare la morte e la volontà del cielo a meno che fra un'ora non avvenga una benefica crisi armatevi di coraggio o misterioso e potente zanoni che taggerasti fra le passioni mondane senza grottare il ciglio sei tu agitato dai marosi d'un cruciante timore tremi e rabbrividisci conosci finalmente la forza e l'importanza della morte fuggendo tremante il pallido medico traverso le marmore sale e le lunghe gallerie pervenne ad una remota stanza del palazzo che nessun piede fuor del suo ardiva profanare via le tue erbe i vasselli emergi fiamma azzurrina dagli incantati elementi perché non discende il figlio dell'astro raggiante perché adonai è sordo alla tua chiamata egli non viene a bearti con luminoso suo aspetto o cabalista son dunque vane l'arti tue sparve il tuo dominio sui regni dello spazio tu rimani pallido e tremante o non così guardavi allor quando esseri gloriosi accorrevano al tuo scongiuro ma giammai essi appaiono a chi trema l'anima non già le erbe la fiamma azzurra o l'alchimia dei cabalisti evoca gli abitatori dell'aria l'amore e la morte hanno rapito all'anima tua scettro e corona al fine la fiamma ondeggiò l'aria divenne rigida come il vento in un cimitero ed apparve un essere non mortale senza forme si ingrandisce in distanza senza rumore ti si avvicina e ti sta d'accanto ravvolto nel suo manto di fosca nebbia traverso la quale t'affissa con livide e maligne pupille misero caldeo giovane coi tuoi innumerevoli anni giovane come allora che freddo al piacere alla bellezza stavi nell'antica torre del fuoco udendo nel silenzio il supremo mistero che sfida la morte la temi ora tu finalmente il tuo sapere non sarebbe che un circolo il quale ti riconduce laddovebbero principio le tue ricerche generazioni sopra generazioni scomparvero da che noi ci incontrammo guarda mi riconosci tu ma io ti affronto senza timore benché migliaia siano periti per i tuoi sguardi benché questi sguardi abbrucino spargendo un mortifero veleno nel cuore degli uomini benché coloro che puoi rendere schiavi al tuo volere li renda maniaci trascinandoli a disperati delitti pure tu non sei mio vincitore ma mio schiavo e come schiavo ti servirò imponi bel caldeo odi il gemito della donna odi l'acuto grido della tua prediletta la morte è in questo palazzo adonai non discende alla tua chiamata che è figlio del raggio e gli compare all'uomo soltanto allora che le passioni e gli appetiti carnali non fan velo alla serenità della mente ma io posso aiutarti ascolta e zanoni udiva distintamente nel proprio cuore quantunque lontano dalla stanza noziale la voce di viola che nel delirio lo invocava ed io non ti posso salvare esclamò il veggente angoscioso l'amore mi rese impotente impotente no rispose la larva perché io posso insegnarti il mezzo di salvarla e porre in tua mano la sua guarigione di entrambi il bambino e la madre sì un tremito convulso agitò le membra di zanoni ed una scossa violenta lo rese simile ad un fanciullo gli umani affetti in quel terribile momento vinsero la sua ripugnanza io acconsento madre e bambino salvali entrambi nell'oscura stanza giaceva viola agonizzante per le doglie del parto sembrava che le sfuggisse la vita sia acuti erano i gridi con cui nella frenesia degli spasimi chiamava il suo diletto zanoni il chirurgo teneva fissi gli occhi alla pendola numerando nelle battute i gridi della sofferente si fanno più deboli disse gli fra dieci minuti avrà cessato di vivere stolto i dieci minuti sono trascorsi e la natura come l'azzurro cielo sovra un diroccato tempio sorride ancora sulle torturate membra di viola il respiro divenne più regolare più calmo cessò il delirio e un caro sogno le si presentò era una visione ovvero la propria anima che vide parvi a viola di trovarsi con zanoni e di riposare sul di lui seno l'infocata sua testa e che guardandola addolcisse i suoi patimenti mentre accarezzandole il fronte calmava la febbre udì mormorare la sua voce musicale il peso che quasi una montagna le premeva le tempie svanì come lieve vapore fra i ghiacci di una notte invernale vide il sole risplendere nel cielo purissimo udì il rumoreggiare del verde fogliame valli ruscelli boschi un magnifico panorama le si svolgeva dinanzi quasi volessero dirle non siamo ancora perduti per te o cultore della scienza getta le tue ricette i tuoi formulari ne fissa più oltre la pendola i dieci minuti già da un pezzo trascorsero e l'anima di colei che tu avevi sentenziato dover entrare nell'eternità soggiorna ancora nel tempo viola si è addormentata la febbre va declinando le convulsioni s'acquetano le rose rifioriscono sulle guance la crisi è passata consorte tua moglie vive amante l'universo non è più solitudine per te ancora un istante o gioia padre abbraccia il tuo neonato capitolo secondo sangue grondante la tremenda e rinni in alto scosse le funeste faci o video il bambino fu posto tra le braccia del padre che in silenzio lo contemplava spargendo lacrime di gioia e il bambino gli sorrideva o con qual dolce pianto noi salutiamo lo straniero che giunge in codesto mondo di sciagure con qual pianto angoscioso lo congediamo allorché ritorna fra gli angeli il giubilo è scevro d'egoismo ma egoista è il dolore la fievole voce della giovine madre e ruppe il silenzio di quella stanza sono qui al tuo fianco mormorò zanoni viola sorrise e stringendogli le mani non aprì bocca era beata viola recuperò la salute con una rapidità che fece strabiliare il medico il neonato gioiva quasi amasse il mondo in cui era disceso zanoni pareva rivivere in lui che formava un nuovo vincolo tra i genitori non si era visto bambino più bello e strano a dirsi non rifugiva la luce ma vi sorrideva come ad oggetto già a lui familiare giammai vagiva per doglie ed anche dormendo sembrava ascoltasse un'interna voce che lo rendeva felice dai suoi sguardi traluceva un'intelligenza precoce e quantunque non favellasse pareva riconoscere i genitori già stendeva le sue manine al padre quando si chinava sovra la culla in cui sbocciava come fiore ben di rado zanoni se ne scostava e fissandolo col suo occhio sereno immedesimava in certo modo l'anima sua con quella del figlio nelle fitte tenebre notturne viola fra il sonno e la veglia udendolo mormorare parole in un linguaggio a lei sconosciuto era colta da spavento e le superstizioni della sua prima gioventù vagamente la turbavano una madre teme sempre financo i beni pel suonato gli antichi mandavano gridi di terrore allorché scorgevano il grande metrio che cercava dare l'immortalità ai loro figli ma zanoni assorto nei sublimi disegni che infiammavano l'amore umano in lui ridestato tutto scordava perfino gli errori a cui l'aveva tratto la sua cieca passione in frattanto lo spettro senza forme quantunque né chiamato né veduto da lui saggirava d'intorno e spesso stava vicino alla colla del bambino guatandolo coi suoi occhi spaventosi capitolo terzo abbraccia con le fosche ali il terreno virgilio lettera di zanoni a mesnur l'umana esistenza o mesnur con tutti i suoi affanni e suoi gaudi ma appartiene ancora una volta di giorno in giorno vor ribadendo le mie catene anziché nella vita me propria vivo nell'altrui ciò mi fece perdere più che mezzo il mio potere esse m'annodano coi forti legami dell'affetto alla terra loro soggiorno il fosco nemico custode del limitare visibile soltanto a chi si astrae dai sensi ma vinse nelle sue reti mi crederai se ti dico d'aver accettato i suoi doni e la sua malvagia assistenza scorreranno molte età prima che i lucenti spiriti obbediscano nuovamente a colui che si inchinò dinanzi a quel fantasma e parte mancante con questa speranza dunque io trionfo sempre o mesnur ed ho ancora un supremo potere sovra la vita del bambino a poco a poco e inaudibilmente l'anima mia favella la sua e la va afformando tu ben sai che l'iniziazione scevra di terrore di pericolo per le anime incontaminate dei fanciulli quindi io lo nutro senza tregua di santa luce ed egli prima ancora di essere conscio del dono otterrà i privilegi che mi sono propri e gradatamente li comunicherà alla madre contento di vedere una sfolgorante giovinezza irradiare per sempre la fronte dei due esseri che assorbono tutti i miei pensieri dovrò io rimpiangere i regni aerei che svaniscono a me dinanzi ma tu la cui visione sempre chiara e serena interna l'occhio negli abissi chiusi al mio sguardo consigliami o ammoniscimi so che i doni del fantasma la cui razza ecco tanto a noi nemica tornano d'ordinario al veggente fatali e perfidi al pari di lui la onde nei primordi delle conoscenze nell'età primitive chiamate magiche gli uomini incontrando gli esseri delle tribù nemiche credevano fossero apparizioni di furie e per un inganno della fantasia immaginavano di avere loro venduta la propria anima come se l'uomo potesse dare per un'eternità l'anima sulla quale appadronanza soltanto finché rimane in vita i demoni sono segregati dall'umana vista nei cupi e impenetrabili loro regni in essi non spira più il soffio divino come nelle umane creature e soltanto il signore può essere giudice di queste e stabilire il loro destino nella vita futura che se l'uomo potesse vendersi al demonio potrebbe mai arrogarsi il diritto di disporre dell'eternità che lo attende ma agli abitatori dell'aria modificazioni della materia e sovente più maligni dell'uomo possono sembrare ad una sfrenata superstizione i rappresentanti dei demoni dal più terribile di essi io accettai un dono il segreto che allontana la morte dei miei cari pure devo credere che mi rimanga potere sufficiente di intimorirlo qualora tenti di pervertire cotesto dono rispondimi mesnur perché nell'oscurità che mi circonda altro non veggo che gli occhi del mio bambino altro non odo che i battiti del mio cuore rispondimi tu la cui saggezza è scevra d'amore mesnur a zanoni roma o caduto io vedo a te dinanzi il male la morte la sventura abbandonasti adonai per il fantasma innominato gli astri celesti per i suoi spaventevoli occhi da ultimo sarai vittima del custode del terribile limitare che nel tuo noviziato rifugiva atterrito dall'imperante tuo sguardo allorché nei primi gradi dell'iniziazione il pupillo che mi consegnasti sulle rive della mutata partenope cadde privo di sensi dinanzi al tenebroso fantasma con obbi che l'animo suo non era ancora formato per il mondo superiore perché il timore altro non è che l'attrazione dell'uomo a questa bassa terra per cui mentre teme non può innalzarsi ma tu non t'accorgi che amare è identico a temere non vedi che la possanza di cui ti vanti sopra il maligno è già sparita egli ti signoreggia e ti ispira temenza poi schernendoti ti tradirà raggiungimi senza perdere un istante forse può esservi ancora sufficiente simpatia tra noi due perché tu possa vedere coi miei occhi e premunirti dai pericoli tenebrosi che circondano te e gli esseri dell'amor tuo vieni libero da tutti i vincoli del tuo affetto per l'umanità perché questa ottenebra la visione lascia indietro timori e speranze desideri e passioni giungi solo l'intelletto deve essere puro e non soggetto ad impressioni esteriori per dominare all'infuori del suo corporeo inviluppo capitolo quarto questo momento è più terribile che voi non pensate la harp il conte di warwich zanoni e viola si trovavano separati per la prima volta dopo le loro nozze egli si era diretto a roma per affari rilevanti dicendo che l'assenza sarebbe di pochi giorni ed era partito così di improvviso da non lasciar tempo alla sorpresa e dal terrore della moglie se non che la prima separazione riesce sempre assai triste perché somiglia ad un troncamento dell'esistenza in cui amore si congiunge ad amore l'anima prova un vuoto e presagisce l'affanno quando l'inevitabile morte opererà la separazione finale però viola aveva un nuovo compagno e si deliziava nel sentimento della maternità che sempre ringiovanisce la donna il suo bambino assorbiva ogni cura pochi giorni d'assenza cruciosa ma non priva di dolcezze perché ogni ora si figurava vederlo svilupparsi notava ogni gesto ogni sorriso le pareva crescesse la sua domestica felicità zanoni era partito più non si udiva il rumore dei remi e la gondola che lo portava era già scomparsa fra i canali di venezia il bambino dormiva nella culla ai piedi di viola ed ella lagrimando pensava ai deliziosi racconti che farebbe al marito sul loro neonato sorridi e piangi giovane madre l'ultima pagina del tuo ridente volume è chiusa per te un dito invisibile l'ha toccata sul ponte di rialzo stavano due veneziani ardenti democratici i quali consideravano la rivoluzione francese come un terremoto che farebbe crollare la loro decrepita e viziosa costituzione riducendo ad eguaglianza in venezia gradi e diritti sì cottalto diceva l'undessi il mio corrispondente di parigi ha promesso di togliere tutti gli ostacoli e scongiurare qualunque pericolo egli combinerà con noi il momento della rivoluzione quando le legioni di francia siano a portata dei nostri cannoni fra quattro giorni a quest'ora medesima si troverà qui aveva appena ciò detto che un uomo ravvolto nel suo mantello uscì da uno dei viottoli a sinistra e fermandosi in faccia i due interlocutori dopo averli scrupolosamente esaminati per qualche minuto mormorò salute e fratellanza rispose colui che parlava voi dunque siete il bravo d'andolo col quale il comitato mi incaricò di carteggiare e questo cittadino è cottalto di cui spesso feci parola nelle mie lettere salute fratellanza a lui pure ho molte cose da comunicare ad entrambi e tornerò questa notte ma in strada possiamo essere veduti io non ardisco offrire la mia casa rispose d'andolo perché la tirannia fa spiare tutte le nostre mura ma il luogo qui indicato è sicuro e fece scorrere in mano al suo corrispondente un indirizzo dunque stanotte alle nove adesso altri affari mi chiamano fece una pausa e cambiando colore con voce appassionata ripigliò nell'ultima vostra lettera mi parlaste di un ricco e misterioso forestiero zanoni egli sempre a venezia ho udito che partì stamane ma sua moglie è rimasta qui sua moglie va bene lo conoscete credete che si unirebbe con noi la sua ricchezza gioverebbe molto il suo indirizzo presto interruppe l'altro il palazzo di sul canal grande grazie alle nove ci troveremo l'uomo scomparve fra i viottoli donde era uscito e passando dal suo alloggio era giunto a venezia la notte precedente una donna che stava sull'uscio lo afferrò per braccio signore disse in francese io aspettavo il vostro ritorno mi capite io affronterò qualunque pericolo per ritornare con voi in francia e rimanere in vita o in morte a fianco di mio marito cittadina promisi a vostro marito che avrei arrischiata la mia sicurezza per aiutarvi se lo volevate egli è uno di quelli che robespierre tiene d'occhio per cui non può sfuggire l'intera francia è divenuta un carcere per i sospetti sarebbe pericoloso per voi il ritorno e a dir la schietta il destino che volete con lui dividere sarebbe la ghigliottina io vi parlo secondo le intenzioni di vostro marito esposte in questa lettera signore voglio ritornare con voi rispose la donna sul cui pallido volto brillò un sorriso eppure avete abbandonato il marito nell'aurora della rivoluzione perché ora fra le sue tempeste volete tornare domandò l'incognito in tono di sorpresa mista al rimprovero perché la vita di mio padre era in pericolo perché egli non aveva altro scampo che fuggire in terra straniera perché egli era vecchio e povero ed io sola potevo mantenerlo col mio lavoro perché finalmente mio marito non era in pericolo adesso che il padre è morto e mio marito corre rischio di vita terminati i doveri di figlia rimangono quelli di moglie sia dunque come volete fra tre giorni io parto avete quindi tempo di ricredervi giammai un cupo sorriso apparve sul volto dell'uomo che esclamò o ghigliottina quante virtù metteste in luce bene si può chiamarti santa madre o sanguinosa ghigliottina e mormorando fra sé entrò in una gondola che si allontanò nel canal grande capitolo quinto ciò che io ignoro è forse ancora più triste e spaventoso la harp il conte di warwick viola sedeva al balcone aperto contemplando scorrenti per l'ampio canale al limpido sole del meriggio gli eleganti cavalieri nelle nere gondole ad un tratto una di essa sostò e un uomo dalla griglia affissando il grandioso palazzo diede la voce ai barcaroli che si avvicinarono alla riva lo straniero uscì e salendo l'ampia scala entrò nel palazzo lagrime non più sorrisi giovane madre l'ultima pagina della tua vita si svolge un servo diede a viola un biglietto con queste parole in lingua inglese clarence clinton ha bisogno di vedervi o sì viola lo rivedrà con gioia e parlerà con lui della sua felicità di zanoni o con quanta compiacenza gli mostrerà suo figlio povero clarence ella lo aveva dimenticato al pari delle agitazioni della sua prima giovinezza dei suoi sogni delle vanità dell'allegro teatro dell'applaudente moltitudine entrò e viola libi in vederlo così mutato la graziosa fisionomia del giovane artista innamorato aveva preso un'aria risoluta e severa gli abiti erano negletti e in disordine appariva in lui un non so che di selvaggio e disperato ben diverso da quell'amabile titubanza sua caratteristica con cui aspirava più sublimi destini siete voi disse finalmente viola povero clarence quanto cambiato cambiato l'interruppe sedendole al fianco e chi devo ringraziarne se non le furie i negromanti i quali si impadronirono della mia esistenza e della vostra ascoltami viola poche settimane fa mi giunse l'avviso che eri a venezia ed io attraverso innumerevoli pericoli qui sono venuto per salvarti arrischiando la libertà e forse la vita se il mio nome e i miei disegni fossero scoperti dici che io sono cambiato sì nell'esteriore ma che è mai a confronto dell'interno stai in guardia finché ne hai tempo la voce di glindon cupa e sepolcrale allarmò viola più ancora delle sue strane parole pallido magro con gli occhi stravolti sembrava un cadavere risorto per avvertirla e spaventarla che volete dire rispose con voce semispenta con queste terribili parole ascolta interruppe glindon ponendole una mano agghiacciata sul braccio ascolta tu hai udito le vecchie storie di uomini i quali avevano fatto patto coi demoni per ottenere poteri soprannaturali queste storie non sono favolose tali uomini esistono e godono a crescere il numero dei miserabili loro pari quando i loro proseliti falliscono nell'iniziazione il demonio li afferra anche in questa vita come ha afferrato me se poi riescono guai ai medesimi vi ha un'altra esistenza le cui torture nulla può raddolcire io vengo di francia dove il sangue scorre a torrenti dove la morte sta a fianco degli uomini più valorosi e intelligenti dove unico monarca è la ghigliottina ma tutti i pericoli che possono circondare l'uomo sono nulla a confronto del silenzio di una stanza dove si aggira un'orrenda larva più spaventosa della stessa morte e glindon con fredda e minuta precisione raccontò come aveva fatto alla sorella l'iniziazione da lui subita descrisse con parole che agghiacciavano il sangue di viola l'apparizione della larva senza forme con sguardi che infocavano il cervello e gelavano il midollo delle ossa una volta veduta non era più possibile scongiurarla si affacciava a sua voglia ispirando cattivi pensieri sussurrando tentazioni fatali soltanto si teneva lontana nelle scene turbolente la solitudine un animo tranquillo che la pace la virtù sono gli elementi in cui opera viola atterrita tale racconto si confermò nella vaga paura a essere zanoni diverso dagli altri mortali paura che la bandiva per la dietro senza approfondirla e che l'aveva resa a vie più innamorata del misterioso consorte balzò in piedi atterrita non per se stessa ma per il figlio che strinse fra le braccia infelicissima esclamò glindon rabbrividendo hai dato in luce una vittima che non puoi salvare rifiutagli l'alimento almeno nel sepolcro si trova pace e riposo allora viola si ricordò le lunghe veglie notturne di zanoni presso la culla del bambino e il timore che la colpiva udendolo mormorare magiche parole e quando il bambino la fissava con limpido occhio vi era in esso un non so che di misterioso che rafforzava i suoi timori rimasero entrambi silenziosi il sole rischiarava il palazzo ma da essi non veduta la larva velata stava presso la culla a grado a grado le suavi reminiscenze del passato si ridestarono nell'animo della giovane madre le fattezze del bambino ricordavano il padre assente e pareva che da quelle rose e labbra uscisse una mesta voce dicendo io ti parlo nel figlio tuo in contraccambio dell'amor mio mi condannerai per i detti di un frenetico che mi accusa viola col petto ansante con gli occhi sereni e animati da una santa fiamma gridò andate povera vittima delle vostre illusioni non crederei ai miei propri sensi se accusassero zanoni e che sapete voi di lui quali vincoli hanno mesnur e l'orrido spettro che egli evoca con la radiante immagine del mio sposo lo saprai bentosto rispose copamente glindon il fantasma che mi perseguita mormora con le scolorate labbra che già minaccia voi e vostro figlio non risolvere ora prima che io abbandoni venezia ci rivedremo disse e partì capitolo sesto a quale delirio si abbandona l'anima tua la harp il conte di warwick ahimè zanoni e tu penseresti che fra l'uomo superstite alle generazioni ed una figlia della polvere possa esservi un nodo durevole non prevedesti che prima di iniziare viola non poteva esservi uguaglianza fra la tua saggezza e l'amore di lei ora lontano vai cercando fra solenni segreti il talismano per la madre e per il figlio dimenticando che il fantasma da te invocato ha un potere sopra la vita di coloro che mercei suoi doni ai salvati dalla morte e non sai che il timore e la diffidenza seminate che siano una volta nel cuore degli amanti crescono in guisa da formare una foresta che non lascia penetrare raggio di stelle o zanoni le pupille del fantasma fiammeggianti di astio stanno fisse sulla madre e sul figlio per tutto quel giorno viola fu distrata da mille pensieri e terrori i quali svanivano dietro la riflessione ma per riprodursi più tetri rammentava come nella sua fanciullezza fosse agitata da strane visioni quasi predestinata a fatale predestino si ricordava altresì che allorquando raccontava ciò a glindon in riva al mare nella baia di napoli egli le aveva confessato di aver avuto le identiche visioni per cui sembrò che una simpatia misteriosa unisse i loro destini soprattutto si risovenne che confrontando gli avviluppati loro pensieri entrambi avevano convenuto che al primo vedere zanoni gli istinti si erano risvegliati più forti e che un'interna voce mormorò essere il segreto della loro esistenza congiunto a zanoni ora che viola si trovò nuovamente con glindon i timori della sua prima giovinezza addormentati si risvegliarono il terrore di glindon ebbe su di lei un tal fascino che in vano si opponevano la ragione e l'amore non di meno quando contemplava il bambino questi la guardava con occhio fisso e muoveva le labbra quasi per parlare rifiutava dormire e sempre fissava la madre con uno sguardo esprimente sofferenza e insieme rimprovero facendola rabbrividire viola incapace di sopportare il subitaneo cambiamento di tutti i sentimenti della sua vita fece una risoluzione naturale in una napoletana mandò in cerca del prete cui ricorreva da che si trovava in venezia e gli confessò con animo contrito e spaventato i dubbi che l'agitavano il buon prete devoto ma di poca cultura a segno che riteneva una specie di maghi gli stessi poeti chiuse il cuore di lei a qualunque speranza e le fece urgenti rimostranze unendosi con glindon per indurla a fuggire qualora avesse il minimo dubbio che le arti di suo marito fossero di quelle che la chiesa cattolica ha condannate le poche cose esposte da viola parvero a quell'ottuso ascetico prove irrefragabili di negromanzia tanto più che antecedentemente gli erano giunte all'orecchio strane dicerie intorno a zanoni tal che era predisposto a credere il peggio viola rimase atterrita dalle vehementi di atribe del prete e tanto più che questi conoscendo il cuore umano parlava dei rischi del bambino più che dei suoi i maghi disse gli mirarono sempre a sedurre le anime dei giovani o dei fanciulli e convalidò l'argomento con un lungo leggendario di racconti da lui vantati autentici una donna inglese avrebbe sorriso ma alla superstiziosa napoletana ne fu sgomentata uscito che fu il prete con un ultimo rabbuffo che la tradiva i doveri materni se esitava a fuggire col figlio da un'abitazione contaminata da potenze in fauste e da arti infernali viola sempre con l'immagine di zanoni dinanzi al pensiero cadde in passiva letargia che la teneva perplessa scorsero le ore e sopraggiunse la notte il palazzo era deserto e viola risvegliandosi dal torpore che aveva assopite tutte le sue facoltà si agitò irrequieta la solitudine divenne insopportabile e vie più ancora le battute dell'orologio a pendolo che segnava i minuti d'improvviso le sembrò che le ore del quadrante animandosi danzassero come fuochi fatui ricadendo poscia nelle tenebre dopo averle mormorato donna non riportiamo l'eternità tutto ciò che viene operato nel tempo e che riporteremo di voi custode dell'anima di un bambino era un delirio parziale della sua sconvolta fantasia in quello stato tra il sonno e la veglia ad un tratto un'idea predominò tutte le altre in ogni casa abitata da zanoni vi era una stanza isolata in cui nessuno poteva entrare nemmeno la stessa viola nemmai ella ebbe la curiosità di introdurvisi malgrado il divieto del marito ma ora sentiva una spinta a disubbidirlo forse in quella stanza troverebbe qualche soluzione ai suoi dubbi gradatamente l'idea divenne più intensa e la trascinò con forza irresistibile quasi ponendo in moto le sue membra contro la stessa volontà in bianca veste le braccia concerte sul petto gli occhi fissi calma perché era in un semisonambulismo viola attraversò al chiarore della luna stanze e gallerie o madre è vostro figlio che vi spinge la vostra felicità sta per finire l'ora che batte ve lo annunzia e lei giunta alla porta non chiusa da chiavestello e si trova sola di notte nella stanza dove gli abitatori dello spazio hanno danzato intorno al veggente capitolo 7 la dura realtà della vita terrestre lo opprime l'ideale e la vita viola guardò all'ingiro non scorse alcuno di quegli indizi che avrebbero scoperto ad un vecchio inquisitore l'arte della negromanzia non crogiuoli e fornelli non volumi e manoscritti in cifra non teschi ed ossa incrociate il raggio della luna rifletteva quietamente sulle nude pareti della stanza pochi fuscelli di erbe dissecate alcune urne antiche di bronzo ne formavano l'unico mobilio se esisteva magia consisteva nel proprietario in quei pochi utensili inconcludenti per tutti gli altri così sempre accade con le tue meraviglie o genio contemplatore degli astri le stesse parole proprietà comune a tutti gli uomini diventano per te architetto di mortali esistenze colonne di tempi che superano le piramidi la semplice foglia del papiro si trasmuta in una montagna intorno a cui in vano rumoreggiano i flutti dell'età ma in quella solitudine non aveva lasciato alcunché del proprio l'evocatore di tanti prodigi pareva di sì già che viola appena si trovò in quella stanza sentì operarsi in lei un misterioso cambiamento il suo sangue scorreva più rapido nelle vene con una piacevole sensazione pareva che le membra fossero disciolte da pesanti catene e le nubi si dileguassero dai suoi occhi tutte le vaghe idee che le si affacciavano nei sogni si concentravano in una sola nell'intenso desiderio di vedere il lontano marito gli atomi che si aggiravano nello spazio pareva avessero un'attrazione spirituale in guisa da fornire al suo spirito il mezzo di sciogliersi dal corporeo inviluppo e comunicare con lo spirito di zanoni verso il quale la spingeva un'ardentissima brama presa da una grande bolezza si avvicinò barcollando alla seggiola su cui erano le erbe e le urne e curvandosi vide in una di esse un piccolo vaso di cristallo con impulso meccanico involontario lo aprì l'essenza volatile di cui era pieno diffuse nella stanza un'acuta e deliziosa fragranza viola l'assorbì si bagnò le tempie con liquido e tosto scomparsa la debolezza sentì rinvigorirsi e le pareva sollevarsi a volo quasi avesse a tergo le ali scomparve la stanza ai suoi occhi e lo spirito nelante sorvolava attraverso lo spazio vide l'universo quale si presenta ai cultori delle scienze sopra un'inerte massa di materia ondeggiava una delle nebole che i soli di migliaia di sistemi planetari gettano da sé allorché sa girano intorno al trono del creatore e che diventano altrettanti nuovi mondi simmetrici e gloriosi soli e pianeti nell'eterno loro giro moltiplicano la luminosa loro famiglia formando alla loro volta altri soli in quell'immensa solitudine di un mondo primitivo che mille e mille anni soltanto poterono ridurre a compimento lo spirito di viola intravide l'ombra di zanoni o per dir meglio il simulacro il lemure di lui non già la sua sostanza corporea come se l'intelletto di esso al pari del suo si fosse disciolto dal corpo le sembrava che siccome il sole nelle sue evoluzioni aveva respinto in remota lontananza la propria immagine nebulosa così il pianeta terrestre aveva riprodotta l'immagine di zanoni in quelle regioni del firmamento al di lui fianco si orgeva come un fantasma mejnur nell'immenso caos all'intorno si agitavano cozzando gli elementi primitivi fuoco ed acqua tenebre e luce nubi e vapori si sollevavano in fantastiche montagne e il vitale raggiava luminoso soprattutto la sognatrice rabbrividi scorgendo che i due fantasmi umani non erano soli in quella scena verano mostri di forme orribili che il solo caos può ingenerare la razza colossale dei rettili che strisciavano sui primitivi strati del mondo che si andava formando in mezzo a vapori mefitici i due fantasmi non parevano curare quei mostri il loro sguardo era fisso sopra un oggetto nel remoto spazio viola con gli occhi dello spirito li accompagnò e scorse con un terrore più forte di quello del caos e dei suoi schifosi abitatori una fosca riproduzione della stanza in cui ella si trovava con le sue bianche mura il pavimento rischierato dalla luna e i tetti di venezia che si riflettevano nei placidi canali della laguna e in quella fantastica stanza ravvisò il suo proprio simulacro cotesta duplice riproduzione di sé medesima era così orribile che parole non valgono ad esprimerlo né forza umana sopportarlo allora intravide il proprio simulacro alzarsi ad agio lasciare la stanza con tacito passo traversare il corridoio e inginocchiarsi presso una culla potenza del cielo mirò il figlio con la sua bellezza infantile e i silenziosi occhi scrutatori ma a fianco della culla stava covacciato un cupo fantasma il più terribile di tutti gli esseri incorporei le pareti parvero aprirsi come le scene teatrali un'oscura prigione con trade in cui si precipitava una folla di gente con facce da demoni tanto ardevano d'odio e di rabbia una piazza di morte la ghigliottina un carnaio di vittime umane e la stessa il figlio e tutti questi oggetti si succedevano come una rapida fantasmagoria d'improvviso l'immagine di zanoni si volse e parve riconoscere il simulacro di lei accorse ma lo spirito di viola non poter reggere più a lungo mandando un grido si risvegliò e si avvide d'avere abbandonata la stanza e di trovarsi presso la culla del figlio tutto quanto aveva veduto nella visione era sveneto nell'aria anche il terribile fantasma figlio mio figlio mio esclamò io ti salverò capitolo ottavo che mi abbandoni tu ah no rimani la harp il conte di warwick lettera di viola a zanoni siamo a tal punto io sono la prima a lasciarti io infedele ti dico addio per sempre quando i tuoi occhi cadranno su questo scritto tienmi come defunta io sono perduta per te mio amante e sposo o adorato se tu pur mami e senti pietà non cercare di scoprire dove rivolgo i passi fuggendoti se le tue malie giungono a scoprirmi o risparmi a me e il figlio nostro zanoni io l'educerò ad amarti a chiamarti padre le sue labbra infantili mormoreranno preghiere per te o risparmi il figlio tuo perché i bambini sono i santi della terra e la loro intercessione viene ascoltata lassù ti dirò il motivo della partenza no tu divinatore terribile puoi scoprire ciò che la mia mano trema vergare mentre io pavento il tuo misterioso potere e fuggo col figlio tra le braccia pur mi conforta il pensiero che codesto potere ti concederà di leggermi in cuore quindi conoscerai che ti scrive una madre amorosa non una sposa infedele è peccaminoso questo tuo sapere o zanoni ma avrebbe resa triste eppure io provavo tanta dolcezza in confortarti o mago io sottrago a te l'anima del figlio perdono se le mie parole t'offendono io mi inginocchio vedi per continuare a scriverti perché non sfuggì il tuo misterioso destino perché la strana tua esistenza cotanto mi affascinò fu perché mago demonio che tu sii non vi era pericolo che per me sola e neppure essendo l'affetto mio purissimo e la mia ignoranza ad ogni cosa fuorché in amarti respingevo ogni pensiero che non splendesse puro come l'immagine tua ai miei occhi ma ora c'è un altro essere perché mi guarda con quegli occhi sempre aperti l'hanno già affascinato le tue malie il rimarcasti l'hai tuo crudele destinato ai terrori dell'arte tua inesplicabile o non togliermi il senno sciogli l'incantesimo ascolta i remi battono nel canale vengono a dividermi da te guardo intorno e mi pare vederti dappertutto e udirti parlare da ogni ombra da ogni stella là vicino al balcone il tuo labbro premette il mio là sulla soglia ti rivolgesti con un sorriso che sembrava riporre in me ogni fiducia zanoni sposo io rimango non posso dividermi da te no no andrò nella stanza dove la tua voce musicale temperava le doglie del mio parto dove fra le tenebre mi sussurrò all'orecchio viola tu sei madre madre sì io mi rialzo in piedi sono madre ecco non ho più dubbi addio sì colei per la quale zanoni aveva rinunziato a tanta gloria a tanto potere l'abbandonò crudelmente d'improvviso nel delirio di una cieca superstizione e per il convincimento che nasce dal dovere codesto abbandono imprevisto è la sorte che sempre tocca a coloro i quali vorrebbero collocare l'intelletto oltre il mondo ne calcolano abbastanza gli impulsi del cuore l'ignoranza rifugierà sempre dal sapere ma giammai sposa abbandonò per motivi più santi il marito lontano poiché il solo amor materno la spingeva ad allontanarsi da tutto ciò che formava la sua felicità sulla terra fin tanto che l'appassionata energia che la spinse a fuggire l'animò con fittizio entusiasmo viola si consolava rassegnata stringendo il figlio tra le braccia ma a quale rimorso acuto non le trafisse il cuore allorché fermatasi alcune ore sulla strada di livorno udì la donna che accompagnava lei e glindon pregare di poter raggiungere suo marito per dividere con lui gli imminenti pericoli terribile contrasto col suo abbandono viola cade in profondo abbattimento ne trovò nel proprio cuore alcuna consolazione capitolo nono dono mi festi dell'avvenire ma oimè il presente tu mai rapito schiller cassandra guarda mejnur l'opera tua malaugurata la nostra vanitosa saggezza la vecchia nostra esperienza io abbandonai viola per salvarla dal pericolo e il pericolo la ferrò zanoni rispose il mistico non incolparne la saggezza ma le tue passioni abbandona la vana speranza dell'amore d'una donna guarda quale inevitabile maledizione sovrasta su coloro che vogliono unire gli oggetti terreni agli spirituali l'intima tua indole sconosciuta i tuoi sacrifici non compensati ogni uomo materiale non ravvisa in essi che un negromante o un demonio o titano puoi tu piangere ora lo conosco ora tutto scorgo era lo spirito di lei che ci si affacciò e si sottrasse ai miei vani abbracciamenti o potente amore materno quali terribili lezioni sascondono mejnur nell'ignoranza ad un cuore amante il cuore replicò frettamente il mistico ai da 5.000 anni io scrutai i misteri del creato ma non ancora giunsi a scoprire tutte le meraviglie del cuore di un semplice contadino pur la nostra scienza ora non ci inganna i misteriosi fantasmi insanguinati ci avvertono che io ho il potere di salvare madre e figlio anche nel carcere e dinanzi al carnefice sì ma con qualche impreveduto e funestissimo sacrificio di te stesso di me freddo savio non va egoismo nell'amore io parto ne ho più duopo di te che bastano ora a guidarmi gli umani istinti e l'affetto non va caverna si oscura non solitudine si vasta dove io non arrivi a scoprire viola venga pur meno l'arte mia non mi aiutino le stelle e il firmamento con le solenni sue miria di diastri non sia altro per me che uno spazio azzurro io mi affido all'amore alla gioventù alla speranza quando mai non riuscirono a trionfare libro settimo il regno del terrore orrida maestà nel ferro aspetto terrore accresce e più superbo il rende rosseggian gli occhi e di veneno infetto come in fausta cometa il guardo splende gli involve il mento e sull'irsuto petto ispida e folta la gran barba scende e in guisa di voragine profonda s'apre la bocca datro sangue immonda geroseremma liberata canto quarto capitolo primo chi sono io che vengo accusato uno schiavo della libertà un martire vivente della repubblica robespierre discorso dell'otto termidoro trabocca la riviera d'averno i cui primi sgorghi vennero cantati come conducenti all'eliso avvampano di floride speranze i cuori che si nutrirono con le rugiade di quella rosea aurora quando la libertà emerse dal nero oceano e dalle braccia della decrepita schiavitù come l'aurora dal talamo di titone speranze che portarono frutti di cenere e di sangue o avvenente roland facondo vergnò visionario condorsè maleserb d'alti sensi o voi filosofi uomini di stato patrioti visionari tutti vedete ora il millennio dietro il quale sognavate lavorando per giungervi invoco gli estinti saturno ha divorati i suoi figli e vive solo col suo vero nome di moloch è il regno del terrore robespierre né il monarca la lotta fra il boa ed il leone terminò il boa spense il suo tremendo competitore e si impinguò dalle sue spoglie caduto è d'anton e con lui camillo de smoulin prima di morire d'anton esclamò robespierre poltrone io solo avrei potuto salvarlo infatti da quel momento il sangue dell'estinto gigante oscurò l'astuzia di massimiliano l'incorruttibile finché da ultimo gli soffocò la voce fra il trambusto della tumultuante convenzione che se robespierre dopo quell'ultimo olocausto indispensabile forse alla propria salvezza proclamava finito il regno del terrore e agiva dietro le massime di compassione che d'anton aveva cominciato ad inculcare forse sarebbe vissuto e morto monarca ma le prigioni continuarono a rigurgitare la mannaia a cadere il dittatore non si accorse che il popolaccio era sazio di supplizi e che la più forte scossa che poteva dargli un capo sarebbe il tornarli uomini da diavoli che erano siamo trasportati in una stanza in casa del cittadino duplè lebanista il mese di luglio 1794 o secondo il calendario repubblicano nel termidoro anno secondo della repubblica una indivisibile benché quella stanza fosse piccola era immobiliata e adorna con la minuziosa cura di un gusto elegante e raffinato sembrava infatti che il proprietario bramasse fare una distinzione tra gli oggetti triviali e rozzi e di voluttuosi la forma delle classiche seggiole le pieghe dell'ampie tende gli specchi appesi alle pareti busti e bronzi sui loro piedistalli e molti libri ben legati e disposti regolarmente nelle loro caselle tutto mostrava l'amore dell'ordine la precisione il buon gusto un osservatore avrebbe riflettuto quest'uomo desidera persuaderci sul conto suo come se dicesse io non son ricco non vano glorioso non amante del lusso non sono un indolente sibarita con letti di piume pitture provocanti il senso non sono un altero nobile con ampie sale e gallerie nelle quali lei corrisponde ma appunto è più grande il mio merito se disprezzo codeste superfluità del mondo essendo io uomo di gusto ed amatore dell'eleganza altri possono essere semplici ed onesti per le loro rozzi abitudini ora se io sono semplice ed onesto malgrado i raffinamenti e la delicatezza rifletti bene e mi ammirerai dai muri di quella stanza pendevano vari ritratti molti di essi rappresentavano una sola fisionomia sui piedistalli sorgevano molti busti i più dei quali effigiavano una sola testa in quella cameruccia l'egoismo era il supremo nome e contemplava se stesso nelle produzioni delle arti ritto sud una seggiola dinanzi a un'ampia tavola piena di lettere sedeva l'originale dei quadri dei busti il padrone dell'appartamento quando un que solo stava ritto sulla persona e con tutta etichetta come se nemmeno in casa si trovasse in piena libertà il suo vestire consonava con l'atteggiamento e la stanza affettava una pulizia ben diversa dalla sontuosa eleganza degli ex nobili e dalla nudità cenciosa dei sanculotti pettinato e arricciato non aveva un capello fuori di luogo non una macchia sopra la liscia superficie del suo abito blu non una piega sopra il bianco panciotto arabescato a fiori avreste potuto scorgere a colpo d'occhio su quel viso null'altro che l'espressione disgustosa d'un malaticcio ma alla seconda occhiata vi avreste ravvisato una forza e un carattere peculiare la fronte quantunque bassa e schiacciata non mancava dei tratti caratteristici del pensiero e dell'intelligenza che sta quasi sempre nella larghezza interposta fra i sopraccigli erano asciutte strette le labbra se non che di quando in quando tremavano e si corrugavano gli occhi fulvi e truci pieni di un vigore concentrato che non pareva sostenuto dalle esili membra e dalla livida pallidezza del volto indizio di malattia e d'interna angoscia tale era massimiliano robespierre tale la camera sopra la bottega dell'ebanista ad onde manavano gli editti che lanciavano gli eserciti nella carriera della gloria ed ordinavano lo scavo d'un canale per dare sfogo al sangue di guazzante nella capitale del popolo più marziale del globo tale era l'uomo che rifiutò un impiego giudiziario scopo della giovanile sua ambizione anziché violare i suoi principi filantropici col sottoscrivere la sentenza di morte d'un reo tale il vergine nemico della pena capitale ora dittatore macellaio che se fosse morto cinque anni prima egli copuri e rigidi i suoi modi con l'incorruttibile onestà con l'odio d'ogni eccesso qui spingono il vino e l'amore avrebbe lasciato un modello ai prudenti genitori e ai prudenti cittadini da proporsi all'imitazione dei loro figli tale ripeto era l'uomo che appariva senza un solo vizio finché le circostanze ne fecero sbucar fuori due che nei tempi tranquilli giacciono nascosti nel più profondo del cuore umano la codardia e l'invidia al primo di questi vizi si deve attribuire ogni assassino commesso da quella furia ed era la sua codardia ad un genere strano e speciale perché si univa ad una volontà risoluta e senza scrupoli una volontà di ferro che napoleone ossequiava e nervi di un serpente mentalmente robespierre era un eroe fisicamente un poltrone quando il pericolo lo dappresso tremavano le sue membra ma alla volontà lo salvava decretando assassini sedeva impettito stringendo convulso le smilze sui dita girando vagamente dintorno i fulvi occhi infoscati da strisce sanguigne rizzando le orecchie come un ignobile animale per spiare il più lieve rumore era come dionigi nella sua grotta meno l'atteggiamento decoroso e l'acconciatura del capo accuratissima sì sì mormorò in tono basso io li sento i miei buoni giacobini sono al loro posto sulle scale peccato che essi bestemmino in questa guisa farò una legge contro le bestemmie bisogna riformare le maniere del povero e virtuoso popolo quando tutto sia salvo uno o due esempi fra codesti buoni giacobini farà effetto fedeli compagni come mamano che razza di bestemmia essi non devono imprecare così forte specialmente sulla scala di questa casa ciò fa torto alla mia reputazione ah qualcuno giunge troncò il soliloquio guardando nello specchio di faccia ed aprì un volume pareva sorto nella lettura quando un uomo alto con una sciabola in mano e pistola in cintura aprì l'uscio ed annunziò due visite un giovane che somigliava a robespierre ma con un'espressione in volto più risoluta entrò il primo e guardando il volume che aveva tra le mani mentre sembrava non averlo veduto esclamò che l'eloisa di russo un racconto amoroso caro paian non è l'amore è la filosofia che mi diletta che nobili sentimenti quale ardore per la virtù o se gian giacomo avesse vissuto per vedere questo giorno mentre il dittatore commentava in tal guisa il favorito autore che si sforzava a imitare nei suoi discorsi un secondo individuo fu introdotto nella sala sopra una seggiola a ruote era un uomo nel fiore della vita 38 anni circa ma morto negli arti inferiori paralitico rattratto eppure era come fu chiamato un ercole per il delitto il più dolce degli umani sorrisi gli errava sul labbro e i suoi lineamenti erano d'una bellezza quasi angelica un'espressione indefinibile di tenerezza e la rassegnazione dei patimenti colpivano il cuore di coloro che lo vedevano per la prima volta il cittadino cuton con voce argentina melodiosa come un flauto salutò l'ammiratore di gian giacomo no non dire che l'amore non ti attrae è l'amore ma non il grossolano sensuale attaccamento dell'uomo per la donna no è il sublime affetto per l'uman genere per tutto quanto a vita sì per tutto quanto a vita ripeterò bespierte neramente buon cuton povero cuton a la malignità degli uomini come noi siamo giudicati male calunniati quali carnefici dei nostri colleghi ah è un insulto che trafigge il cuore essere oggetto di terrore ai nemici del nostro paese e ciò è nobile ma essere oggetto di terrore e di odio ai buoni ai patriotti a coloro che amiamo e veneriamo è la più orrenda delle umane torture almeno per un uomo onesto e delicato quanto godo nell'ascoltarlo esclamò cuton disse paian con qualche impazienza ma ora agli affari ah agli affari ripeterò bespier con un sinistro sguardo negli occhi sanguigni il tempo è venuto incominciò paian che la salvezza della repubblica esige una completa concentrazione del potere codesti gridatori del comitato di salute pubblica possono soltanto distruggere ma non edificare essi todiano massimiliano fin dal momento in cui tentasti di sostituire istituzioni all'anarchia quanto si porlavano della festa in cui proclamasti la conoscenza dell'essere supremo essi che non vorrebbero avere un padrone nemmeno in cielo tu chiaro e vigoroso intelletto comprendi che avendo spezzato il vecchio mondo diventa necessario ricomporne uno nuovo e il primo passo verso la ricostruzione deve essere di atterrare i distruttori mentre noi stiamo deliberando i tuoi nemici operano val meglio attaccare questa notte medesima il drappello di gendarmi che vegliano a guardia di loro che non l'affrontare i battaglioni che potrebbero sorgere domani no disse robespierre che rifugiva dal risoluto coraggio di paian io ho un piano migliore più sicuro il giorno 10 la convenzione si reca in corpo alla festa decadaria si formerà una gran riunione di gente i cannonieri le truppe di enriot i giovani allievi della scuola di marte si mescoleranno alla folla e riuscirà agevole colpire i cospiratori che noi additeremo ai nostri agenti lo stesso giorno fuchier e dumas non staranno in ozio un numero sufficiente di sospetti cadranno sotto la spada della legge per mantenere un terror salutare e tener destra l'energia rivoluzionaria il 10 termidoro sarà il gran giorno d'azione avete preparata una lista di questi ultimi colpevoli paian eccola rispose l'interrogato laconicamente sporgendo una carta robespierre vi gettò una rapida occhiata esclamando collo derbois buono barrer ah fu egli che disse colpiamo non va che i morti che non ritornano vadiè il selvaggio schernitore bene bene vadiè della montagna egli mi ha chiamato maometto scellerato bestemmiatore maometto sta per salire la montagna disse cuton con l'argentina voce accarezzando il suo cagnolino ma che vuol dire non vedo il nome di talien io odio costui cioè disse robespierre correggendosi con ipocrisia o ingannandosi in medesimo come accade abitualmente a coloro che nei consigli fan smercio di frasi cioè la virtù e il nostro paese lo odiano non va un solo uomo in tutta la convenzione che mi ispiri tanto orrore come talien io vedo cuton mille d'anton dove siede costui talien non è che la testa di quel corpo deforme disse paian la cui ferocia e di delitti erano accompagnati come in sen giusto da talenti non comuni non sarebbe meglio invece di troncargli il capo guadagnarlo vincerlo comperarlo per il momento e spacciarsene quando sia rimasto solo egli vi odierà ma ama il denaro no rispose robespierre scrivendo il nome di giovanni lamberto talien con mano leggera e staccando ogni lettera con severa precisione no questa testa è la mia necessità ho qui una listerella disse cuton con dolcezza una semplice listerella tu tratti con la montagna è necessario dare qualche esempio col piano codesti moderati sono pagliuzze che seguono il vento ieri l'altro nella convenzione si dichiararono contro di noi un po di terrore correggerà queste girandole povere creature io non voglio loro male piangerei per esse ma innanzitutto la cara patria il terribile sguardo di robespierre divorò la lista che l'uomo sensibile gli presentò a questi sono scelti bene uomini non abbastanza distinti per essere compianti ciò che è la più saggia politica con le reliquie di questo partito anche qualche forestiere sì e i non hanno parenti a parigi vedove congiunti cominciano a muover la menti contro di noi e demoralizzano la ghigliottina cuton ha ragione disse paian la mia lista contiene quelli che sarà meglio spicciare in massa tra la folla tumultuante il giorno della festa la sua lista sceglie quelli che noi prudentemente dobbiamo consegnare alla legge si deve firmare è firmata rispose robespierre deponendo con formalità la penna nel calamaio ora a materie più importanti queste morti non ecciteranno sdegno ma coiù d'herboise bourdon de l'oise talien robespierre pronunziò con un rantolo quest'ultimo nome sono capi partito trattasi per loro come per noi della vita o della morte le loro teste sono gli sgabelli del tuo seggio curule bisbigliò paian non si corre pericolo nell'essere arditi giudici e giurati sono tutti tue creature con una mano afferrare l'esercito con l'altra la legge la tua voce comanda ancora il popolo povero e virtuoso popolo mormorò robespierre inoltre continuò paian se il nostro disegno per la festa va fallito non dobbiamo lasciar di servirci dei mezzi che tuttora sono a nostra disposizione rifletti henriot il generale dell'armata parigina ti fornisce truppe per gli arresti il club dei giacobini un pubblico per sanzionarli e l'inesorabile dumas giudici che non assolvono mai noi dobbiamo essere arditi e lo siamo esclamò robespierre con subitanea passione battendo le mani sulla tavola mentre si alzava con la testa alta come un serpente in atto da salire nel vedere la moltitudine dei vizi che il torrente rivoluzionario mischia con le civiche virtù io tremo di passare contaminato agli occhi della posterità per l'impura vicinanza di quegli uomini perversi i quali si mettono fra i sinceri difensori dell'umanità che essi vorrebbero spartirsi il paese come un bottino io li ringrazio per loro odio contro tutto ciò che è virtuoso e di merito questi uomini e stropicciò la lista di paian nelle mani questi uomini non già noi hanno posta una linea di separazione fra se stessi e i devoti alla francia è vero dobbiamo regnare soli mormorò paian in altri termini lo stato ha bisogno dell'unità di volere deduceva col suo senso pratico il corollario dalla logica a compassate parole del collega andrò alla convenzione proseguì robespierre mi assentai troppo a lungo devo almeno tenere in rispetto la repubblica da me creata via gli scrupoli io disporrò il popolo e a niente eroi traditori con uno sguardo parlava col terribile convincimento dell'oratore che non cade mai col coraggio morale che s'avanza intrepido come il soldato contro il cannone in quel punto fu interrotto e gli si recò una lettera la perse in pallidì e un tremitolo invase in tutte le membra era uno di quegli anonimi avvertimenti con cui l'odio e la vendetta di coloro che erano ancora in vita torturava i carnefici tu sei bruttato scriveva l'anonimo del sangue più puro di francia leggi la tua sentenza io aspetto l'ora che il popolo ti trascinerà la ghigliottina se la speranza mi fallisce se ritarda troppo a lungo odi leggi questa mano che i tuoi occhi cercano in vano di scoprire ti trafiggerà il cuore io ti vedo io sono con te ogni giorno ciascun'ora il mio braccio salza sul tuo petto miserabile vivi ancora ma per pochi giorni vivi per pensare a me dormi per sognarti di me il tuo terrore il pensiero di me sono i precursori della tua condanna addio oggi stesso esco per congiurare alla tua rovina le vostre liste non sono piene abbastanza disse il tiranno con voce cupa mentre gli cadeva la lettera dalla mano tremante porgete porgete ci ripenso sì barrera ragione colpiamo non vi sono che i morti i quali non ritornano libro settimo il regno del terrore orrida maestà nel ferro aspetto terrore accresce e più superbo il rende rosseggian gli occhi e di veneno infetto come in fausta cometa il guardo splende gli involve il mento e sull'irsuto petto ispida e folta la gran barba scende e in guisa di voragine profonda s'apre la bocca d'atro sangue immonda gerusalemme liberata canto quarto capitolo primo chi sono io che vengo accusato uno schiavo della libertà un martire vivente della repubblica robespierre discorso dell'otto termidoro trabocca la riviera d'averno i cui primi sgorghi vennero cantati come conducenti all'eliso avvampano di floride speranze i cuori che si nutrirono con le rugiade di quella rosea aurora quando la libertà emerse dal nero oceano e dalle braccia della decrepita schiavitù come l'aurora dal talamo di titone speranze che portarono frutti di cenere e di sangue o avvenente roland facondo vergnò visionario condorsè e maleserb d'alti sensi o voi filosofi uomini di stato patrioti visionari tutti vedete ora il millennio dietro il quale sognavate lavorando per giungervi invoco gli estinti saturno ha divorato i suoi figli e vive solo col suo vero nome di moloch è il regno del terrore robespierre né il monarca la lotta fra il boa e il leone terminò il boa spense il suo tremendo competitore e si impinguò dalle sue spoglie caduto è d'anton e con lui camillo de smoulin prima di morire d'anton esclamò robespierre poltrone io solo avrei potuto salvarlo infatti da quel momento il sangue dell'estinto gigante oscurò l'astuzia di massimiliano l'incorruttibile finché da ultimo gli soffocò la voce fra il trambusto della tumultuante convenzione che se robespierre dopo quell'ultimo locausto indispensabile forse alla propria salvezza proclamava finito il regno del terrore e agiva dietro le massime di compassione che d'anton aveva cominciato ad inculcare forse sarebbe vissuto e morto monarca ma le prigioni continuarono a rigurgitare la mannaia a cadere il dittatore non si accorse che il popolaccio era sazio di supplizi e che la più forte scossa che poteva dargli un capo sarebbe il tornarli uomini da diavoli che erano siamo trasportati in una stanza in casa del cittadino duplè lebanista il mese di luglio 1794 o secondo il calendario repubblicano nel termidoro anno secondo della repubblica una indivisibile benché quella stanza fosse piccola era immobiliata e adorna con la minuziosa cura di un gusto elegante e raffinato sembrava infatti che il proprietario bramasse fare una distinzione tra gli oggetti triviali e ruzzi e di voluttuosi la forma delle classiche seggiole le pieghe dell'ampie tende gli specchi appesi alle pareti busti e bronzi sui loro piedistalli e molti libri ben legati e disposti regolarmente nelle loro caselle tutto mostrava l'amore dell'ordine la precisione e il buon gusto un osservatore avrebbe riflettuto quest'uomo desidera persuaderci sul conto suo come se dicesse io non son ricco non vano glorioso non amante del lusso non sono un indolente sibarita con letti di piume pitture provocanti il senso non sono un altero nobile con ampie sale e gallerie nelle quali lei corrisponde ma appunto è più grande il mio merito se disprezzo codeste superfluità del mondo essendo io uomo di gusto ed amatore dell'eleganza altri possono essere semplici ed onesti per le loro rozze abitudini ora se io sono semplice ed onesto malgrado i raffinamenti e la delicatezza rifletti bene e mi ammirerai dai muri di quella stanza pendevano vari ritratti molti di essi rappresentavano una sola fisionomia sui piedistalli sorgevano molti busti i più dei quali effigiavano una sola testa in quella cameruccia l'egoismo era il supremo nome e contemplava se stesso nelle produzioni delle arti ritto sud una seggiola dinanzi a un'ampia tavola piena di lettere sedeva l'originale dei quadri e dei busti il padrone dell'appartamento quando unque solo stava ritto sulla persona e con tutta etichetta come se nemmeno in casa si trovasse in piena libertà il suo vestire consonava con l'atteggiamento e la stanza affettava una pulizia ben diversa dalla sontuosa eleganza degli ex nobili e dalla nudità cenciosa dei san culotti pettinato e arricciato non aveva un capello fuori di luogo non una macchia sopra la liscia superficie del suo abito blu non una piega sopra il bianco panciotto arabescato a fiori avreste potuto scorgere a colpo d'occhio su quel viso null'altro che l'espressione disgustosa ad un malaticcio ma alla seconda occhiata vi avreste ravvisato una forza e un carattere peculiare la fronte quantunque bassa e schiacciata non mancava dei tratti caratteristici del pensiero e dell'intelligenza che sta quasi sempre nella larghezza interposta fra i sopraccigli erano asciutte e strette le labbra se non che di quando in quando tremavano e si corrugavano gli occhi fulvi e truci pieni di un vigore concentrato che non pareva sostenuto dalle esili membra e dalla livida pallidezza del volto indizio di malattia e d'interna angoscia tale era massimiliano robespierre tale la camera sopra la bottega dell'ebanista donde emanavano gli editti che lanciavano gli eserciti nella carriera della gloria ed ordinavano lo scavo d'un canale per dare sfogo al sangue di guazzante nella capitale del popolo più marziale del globo tale era l'uomo che rifiutò un impiego giudiziario scopo della giovanile sua ambizione anziché violare i suoi principi filantropici col sottoscrivere la sentenza di morte d'un reo tale il vergine nemico della pena capitale ora dittatore macellaio che se fosse morto cinque anni prima egli copuri e rigidi i suoi modi con l'incorruttibile onestà con l'odio d'ogni eccesso cui spingono il vino e l'amore avrebbe lasciato un modello ai prudenti genitori e ai prudenti cittadini da proporsi all'imitazione dei loro figli tale ripeto era l'uomo che appariva senza un solo vizio finché le circostanze ne fecero sbucar fuori due che nei tempi tranquilli giacciono nascosti nel più profondo del cuore umano la codardia e l'invidia al primo di questi vizi si deve attribuire ogni assassino commesso da quella furia ed era la sua codardia ad un genere strano e speciale perché si univa ad una volontà risoluta e senza scrupoli una volontà di ferro che napoleone ossequiava e nervi di un serpente mentalmente robespierre era un eroe fisicamente un poltrone quando il pericolo lo stringeva da presso tremavano le sue membra ma alla volontà lo salvava decretando assassini sedeva impettito stringendo convulso le smilze sui dita girando vagamente dintorno i fulvi occhi infoscati da strisce sanguigne rizzando le orecchie come un ignobile animale per spiare il più lieve rumore era come dionigi nella sua grotta meno l'atteggiamento decoroso e l'acconciatura del capo accuratissima sì sì mormorò in tono basso io li sento i miei buoni giacobini sono al loro posto sulle scale peccato che essi bestemmino in questa guisa farà una legge contro le bestemmie bisogna riformare le maniere del povero e virtuoso popolo quando tutto sia salvo uno o due esempi fra codesti buoni giacobini farà effetto fedeli compagni come mamano che razza di bestemmia essi non devono imprecare così forte specialmente sulla scala di questa casa ciò fa torto alla mia reputazione qualcuno giunge troncò il soliloquio guardando nello specchio di faccia ed aprì un volume pareva sorto nella lettura quando un uomo alto con una sciabola in mano e pistola in cintura aprì l'uscio ed annunziò due visite un giovane che somigliava a robespierre ma con un'espressione in volto più risoluta entrò il primo e guardando il volume che aveva tra le mani mentre sembrava non averlo veduto esclamò che l'eluisa di rousseau un racconto amoroso caro paian non è l'amore è la filosofia che mi diletta che nobili sentimenti quale ardore per la virtù o se gian giacomo avesse vissuto per vedere questo giorno mentre il dittatore commentava in tal guisa il favorito autore che si sforzava a imitare nei suoi discorsi un secondo individuo fu introdotto nella sala sopra una seggiola a ruote era un uomo nel fiore della vita 38 anni circa ma morto negli arti inferiori paralitico rattratto eppure era come fu chiamato un ercole per il delitto il più dolce degli umani sorrisi gli errava sul labbro e i suoi lineamenti erano d'una bellezza quasi angelica un'espressione indefinibile di tenerezza e la rassegnazione dei patimenti colpivano il cuore di coloro che lo vedevano per la prima volta il cittadino cuton con voce argentina melodiosa come un flauto salutò l'ammiratore di gian giacomo no non dire che l'amore non ti attrae è l'amore ma non il grossolano sensuale attaccamento dell'uomo per la donna no è il sublime affetto per l'uman genere per tutto quanto a vita sì per tutto quanto a vita ripeterò bespier teneramente buon cuton povero cuton a la malignità degli uomini come noi siamo giudicati male calunniati quali carnefici dei nostri colleghi ah è un insulto che trafigge il cuore essere oggetto di terrore ai nemici del nostro paese e ciò è nobile ma essere oggetto di terrore e di odio ai buoni ai patriotti a coloro che amiamo e veneriamo è la più orrenda delle umane torture almeno per un uomo onesto e delicato quanto godo nell'ascoltarlo esclamò cuton disse payan con qualche impazienza ma ora agli affari agli affari ripeterò bespier con un sinistro sguardo negli occhi sanguigni il tempo è venuto incominciò payan che la salvezza della repubblica esige una completa concentrazione del potere codesti gridatori del comitato di salute pubblica possono soltanto distruggere ma non edificare e si todiano massimiliano fin dal momento in cui tentasti di sostituire istituzioni all'anarchia quanto si burlavano della festa in cui proclamasti la conoscenza dell'essere supremo e sì che non vorrebbero avere un padrone nemmeno in cielo tu chiaro e vigoroso intelletto comprendi che avendo spezzato il vecchio mondo diventa necessario ricomporne uno nuovo e il primo passo verso la ricostruzione deve essere di atterrare i distruttori mentre noi stiamo deliberando i tuoi nemici operano val meglio attaccare questa notte medesima il drappello di gendarmi che vegliano a guardia di loro che non l'affrontare i battaglioni che potrebbero sorgere domani no disse robespierre che rifugiva dal risoluto coraggio di payan io ho un piano migliore più sicuro il giorno 10 la convenzione si reca in corpo alla festa decadaria si formerà una gran riunione di gente i cannonieri le truppe di enriò i giovani allievi della scuola di marte si mescoleranno alla folla e riuscirà agevole colpire i cospiratori che noi additeremo ai nostri agenti lo stesso giorno fucchi e duma non staranno in ozio un numero sufficiente di sospetti cadranno sotto la spada della legge per mantenere un terror salutare e tener destra l'energia rivoluzionaria il 10 termi d'oro sarà il gran giorno d'azione avete preparata una lista di questi ultimi colpevoli payan eccola rispose l'interrogato laconicamente sporgendo una carta robespierre vi gettò una rapida occhiata esclamando colloderbois buono barrer a fu egli che disse colpiamo non va che i morti che non ritornano vadie il selvaggio schernitore bene bene vadie della montagna egli mi ha camato maometto scellerato bestemmiatore maometto sta per salire la montagna disse cuton con l'argentina voce accarezzando il suo cagnolino ma che vuol dire non vedo il nome di italien io odio costui cioè disse robespierre correggendosi con ipocrisia o ingannandose medesimo come accade abitualmente a coloro che nei consigli fan smercio di frasi cioè la virtù e il nostro paese lo odiano non va un solo uomo in tutta la convenzione che mi ispiri tanto orrore come italien io vedo cuton mille d'anton dove siede costui italien non è che la testa di quel corpo deforme disse payan la cui ferocia e di delitti erano accompagnati come in saint just da talenti non comuni non sarebbe meglio invece di troncargli il capo guadagnarlo vincerlo comperarlo per il momento e spacciarsene quando sia rimasto solo egli vi odierà ma ama il denaro no rispose robespierre scrivendo il nome di giovanni lamberto tallien con mano leggera e staccando ogni lettera con severa precisione no questa testa è la mia necessità ho qui una listerella disse cuton con dolcezza una semplice listerella tu tratti con la montagna è necessario dare qualche esempio col piano codesti moderati sono pagliuzze che seguono il vento ieri l'altro nella convenzione si dichiararono contro di noi un po di terrore correggerà queste girandole povere creature io non voglio loro male piangerei per esse ma di innanzitutto la cara patria il terribile sguardo di robespierre divorò la lista che l'uomo sensibile gli presentò ah questi sono scelti bene uomini non abbastanza distinti per essere compianti ciò che è la più saggia politica con le reliquie di questo partito anche qualche forestiere sì e i medesimi non hanno parenti a parigi vedove congiunti cominciano a muover la menti contro di noi e demoralizzano la ghigliottina cuton ha ragione disse paian la mia lista contiene quelli che sarà meglio spicciare in massa tra la folla tumultuante il giorno della festa la sua lista sceglie quelli che noi prudentemente dobbiamo consegnare alla legge si deve firmare è firmata rispose robespierre deponendo con formalità la penna nel calamaio ora a materie più importanti queste morti non ecciteranno sdegno ma coiù d'herboise bourdon de l'oise talien robespierre pronunziò con un rantolo quest'ultimo nome sono capi partito trattasi per loro come per noi della vita o della morte le loro teste sono gli sgabelli del tuo seggio curule bisbigliò paian non si corre pericolo nell'essere arditi giudici e giurati sono tutti i tuoi creature con una mano afferrare l'esercito con l'altra la legge la tua voce comanda ancora il popolo povero e virtuoso popolo mormorò robespierre inoltre continuò paian se il nostro disegno per la festa va fallito non dobbiamo lasciar di servirci dei mezzi che tuttora sono a nostra disposizione rifletti henriot il generale dell'armata parigina ti fornisce truppe per gli arresti il club dei giacobini un pubblico per sanzionarli e l'inesorabile dumas giudici che non assolvono mai noi dobbiamo essere arditi e lo siamo esclamò robespierre con subitanea passione battendo le mani sulla tavola mentre si alzava con la testa alta come un serpente in atto da salire nel vedere la moltitudine dei vizi che il torrente rivoluzionario mischia con le civiche virtù io tremo di passare contaminato agli occhi della posterità per l'impura vicinanza di quegli uomini perversi i quali si mettono fra i sinceri difensori dell'umanità che essi vorrebbero spartirsi il paese come un bottino io li ringrazio per loro odio contro tutto ciò che è virtuoso e di merito questi uomini e stropicciò la lista di paian nelle mani questi uomini non già noi hanno posta una linea di separazione fra se stessi e i devoti alla francia è vero dobbiamo regnare soli mormorò paian in altri termini lo stato ha bisogno dell'unità di volere deduceva col suo senso pratico il corollario dalla logica a compassate parole del collega andrò alla convenzione proseguì robespierre mi assentai troppo a lungo devo almeno tenere in rispetto la repubblica da me creata via gli scrupoli io disporrò il popolo e annienterò i traditori con uno sguardo parlava col terribile convincimento dell'oratore che non cade mai col coraggio morale che s'avanza intrepido come il soldato contro il cannone in quel punto fu interrotto e gli si recò una lettera la perse in pallidì e un tremitolo invase in tutte le membra era uno di quegli anonimi avvertimenti con cui l'odio e la vendetta di coloro che erano ancora in vita torturava i carnefici tu sei bruttato scriveva l'anonimo del sangue più puro di francia leggi la tua sentenza io aspetto l'ora che il popolo ti trascinerà la ghigliottina se la speranza mi fallisce se ritarda troppo a lungo odi leggi questa mano che i tuoi occhi cercano in vano di scoprire ti trafiggerà il cuore io ti vedo io sono con te ogni giorno ciascun'ora il mio braccio salza sul tuo petto miserabile vivi ancora ma per pochi giorni vivi per pensare a me dormi per sognarti di me il tuo terrore il pensiero di me sono i precursori della tua condanna addio oggi stesso esco per congiurare alla tua rovina le vostre liste non sono piene abbastanza disse il tiranno con voce cupa mentre gli cadeva la lettera dalla mano tremante porgete porgete ci ripenso sì barrera ragione colpiamo non vi sono che i morti i quali non ritornano capitolo secondo ferro omicida ha in questi luoghi l'odio che nell'ombra si inoltra la harp giovanna di napoli tali erano i terrori e i disegni di massimiliano robespierre e frattanto il pericolo comune e l'odio di quanti fra gli agenti della rivoluzione ancora rimanevano virtuosi e dotati di compassione servivano a riunire oppostissimi partiti nell'ostilità contro l'universale ammazzatore vi era in realtà una congiura attivissima contro di lui fra gli uomini di poca importanza meno bruttati di robespierre di sangue innocente ma questa congiura sarebbe caduta a vuoto nonostante l'abilità di taglien e di barra unici che per antiveggenza ed energia meritassero il nome di capi gli elementi sicuri di dissolvimento ammassati d'intorno al tiranno erano il tempo e la natura il tempo che egli più non assecondava la natura che oltraggiava e sconvolgeva nel cuore umano i più atroci rivoluzionari seguaci di herbert che aveva salito il patibolo per rendere l'ultimo suo conto assassini ateisti che bestemmiando il cielo e la terra si arrogavano un'inviolabile santità essi pure erano sdegnati per la morte del loro schifoso capo e per la proclamazione dell'essere supremo fatta da robespierre il popolaccio per quanto fosse stato brutale si risvegliò da un sogno di sangue allorché il suo idolo colossale danton non più empì l'assemblea di terrore rendendo popolare il delitto con quel misto di non curante franchezza e di energica eloquenza che fa cari alla plebe i suoi eroi la mannaia della ghigliottina si era rivolta con tressi avevano urlato cantato e danzato quando la veneranda vecchiaia o la coraggiosa gioventù dell'aristocrazia e della letteratura attraversava le contrade nelle terribili carrette ma chiusero le botteghe mormorando fra loro quando la proscrizione colpì anche i popolani e sarti ciabattini giornalieri lavoranti furono alla rinfusa trascinati all'abbraccio della santa madre ghigliottina senza cerimonia come se fossero stati montmorency la tremuil maleserbe o la voisie a quei giorni disse con ragione cuton le ombre di danton d'herber di chomet passeggiano fra noi fra coloro che avevano abbracciate le dottrine ed ora paventavano la sorte dell'ateista herbert vi era il pittore nicot mortificato e sdegnoso di trovare chiusa la sua carriera per la morte del protettore nel punto culminante della rivoluzione per la quale aveva lavorato saggirava per le bettole e nascondigli più miserabili oscuro e spregiato più che non fosse al principio di quella neppure usando esercitare la propria arte e tremanti ad ogni ora che il suo nome ingrossasse la lista dei condannati egli era naturalmente uno dei più accaniti nemici di rovespier e del suo governo mantenne segreta corrispondenza con colliot d'herbois animato dallo stesso spirito e con l'astuzia furtiva propria del suo maligno carattere si adoperò nascostamente a spargere invettive contro il dittatore e preparare fra il povero e virtuoso popolo lo scoppio della grande esplosione ma sempre agli occhi di politici ben più profondi di nicot appariva in concusso il cupo potere di massimiliano l'incorruttibile per cui era così timido il movimento contro di esso che il pittore insieme ad altri molti collocavano le loro speranze piuttosto nel pugnale di un assassino che nella rivolta della moltitudine pur colui benché solitamente non fosse codardo rifugiva di incontrare la sorte di un martire avendo bastante criterio per vedere che se tutti i partiti avrebbero gioito dell'assassinio tutti probabilmente si unirebbero per mandare a morte l'uccisore e non avendo tanto coraggio da divenire un brutto tendeva a fanatizzare qualcuno non improbabile lusinga in mezzo dell'infiammabilissima popolazione di parigi tra i più ardenti e risoluti ad abbattere il regno del terrore disingannati appieno della rivoluzione e atterriti dai suoi eccessi vi era come facile congetturare clarence clinton l'ingegno i modi urbani e le fluttuanti virtù di camillo de smoulin l'avevano affascinato più delle doti di qualsiasi altro agente rivoluzionario quando camillo che aveva un cuore a differenza dei suoi contemporanei che parevano morti ad ogni affetto il vivace alunno del genio e dell'errore scosso dalla strage dei girondini e pentito dei suoi attacchi contro di loro incominciò ad accorgersi della serpentina malizia di robespierre per le nuove dottrine di compassione e tolleranza glindon sposò con tutta l'anima le sue vedute però da quel giorno disperando ormai della propria vita e della causa dell'umanità non cercò che il modo di fuggire quel divorante golgota aveva due vite da proteggere oltre la propria e tremando per esse macchinò per trovare i mezzi di una fuga quantunque glindono di asse i principi la fazione e i vizi di nicò pure lo soccorse di denaro e il pittore in contraccambio disegnava esaltarlo all'immortalità di un novello brutto da cui modestamente ei rifugiva si fondava sul coraggio fisico dell'inglese sulle deliranti sue fantasie e sull'odio profondo e liroso abborrimento contro il governo di massimiliano la stessa ora lo stesso giorno di luglio in cui robespierre conferiva come dicemmo coi suoi alleati due persone sedevano in una stanzuccia in una delle strade che mettono alla via sentonore uno pareva ascoltare con impazienza aggrottando il ciglio quanto gli diceva una donna di singolare bellezza ma il cui volto era animato da passioni proprie ed un indole violenta e selvaggia inglese disse la stai in guardia tu sai che nella fuga o sul patibolo io affronterei tutto per stare al tuo fianco tu lo sai parla bene fillide dubitai io già mai della tua fedeltà non puoi dubitarne bensì puoi tradirla tu mi dici che nella fuga devi avere un altro compagno oltre di me e che è una donna ciò non sarà non sarà no ripete fillide risolutamente e incrociando le braccia al petto avanti che glindon potesse replicare sudì un legger colpo all'uscio e nicò aperto il chiavistello entrò fillide si lasciò cadere sulla scranna e coprendosi con le mani il volto parve non accorgersi del sopravvenuto e del successivo colloquio non posso darti il buongiorno glindon disse nicò e col suo fare da san culotto s'avanzò a gran passi verso lui col cencioso cappello in testa le mani nelle tasche e con la barba lunga di una settimana non posso darti il buongiorno perché mentre vive il tiranno è funesto il sole che sparge i suoi raggi sopra la francia è vero ma perché noi abbiamo seminato il vento or dobbiamo mietere la tempesta eppure disse nicò che apparentemente non aveva udita la risposta e come se parlasse tra sé eppure è strano il pensare che l'assassino è mortale al pari dell'assassinato e la vita di lui pende da un sottilissimo filo che dall'acute al cuore va un brevissimo tratto in breve che un colpo può liberare la francia e redimere il genere umano glindon tened occhio il parlatore con non curante sprezzo e nulla rispose più volte proseguì nicò guardai dintorno a me cercando un uomo nato perciò e sempre miei passi qui mi condussero e non potevano invece condurti a fianco di massimiliano robespierre disse glindon con un soggino no rispose freddamente no io sono un sospetto e non posso introdurmi fra il suo seguito e neppure avvicinarmi di cento tese alla sua persona perché verrei arrestato tu invece sei sicuro ascoltami e la sua voce divenne più vibrata ascoltami sembra pericolosa questa azione ma non è parlai con coglieu d'erbois e billova ren essi sanno sicuro chi vibrerà il colpo il popolaccio correrà in tuo soccorso la convenzione ti proclamerà quale suo liberatore il basta come osi tu congiungere il mio nome con un assassino che suoni a stormo da quella torre per una guerra tra l'umanità e il tiranno e io non sarò ultimo a combattere ma la libertà non riconosce un difensore in un fellone vi era il conché di così nobile e coraggioso nell'accento nell'animo e nel gesto di glindon così parlando che nicò fu ridotto al silenzio evite d'aver mal giudicato il suo uomo no disse fillide levando le mani dalla faccia no il tuo amico ha impronto un più saggio partito lasciando che i vostri lupi si divorino l'un l'altro pensa a sottrarsi una fuga esclamò nicò è possibile una fuga come quando con quali mezzi tutta la francia recinta da spie e da guardie volesse il cielo che fosse il nostro potere il fuggire adunque desideri tu pure fuggire la benedetta rivoluzione se lo desidero gridò e cadendo strinse le ginocchia di glindon o salvami con te la mia vita è una tortura ogni momento la ghigliottina mi guata conosco che le mie ore sono contate conosco che il tiranno non aspetta che il tempo di scrivere il mio nome sull'inesorabile sua lista e renato di umà il giudice che mai perdona ha già decisa la mia morte o glindon per la nostra vecchia amicizia per l'arte comune per la tua fede leale il tuo buon cuore inglese lascia che io fugga con te sia così se lo vuoi grazie ti renderò grazie per tutta la vita ma come preparasti i mezzi i passaporti il travestimento e te lo dirò conosci quello il membro della convenzione egli è potente ma attaccagno con mome pris pur vu che cedì dice egli allorché gli si rimprovera la sua avarizia ebbene con l'aiuto di questo brusco repubblicano il quale ha molti amici nel comitato io ottenne i mezzi necessari per la fuga comperandoli mediante un regalo posso ottenere anche il tuo passaporto dunque le tue ricchezze non sono in assegnati no io ho denaro bastante per tutti e conducendo nico in un'altra stanza gli espose in brevi parole il suo piano e i travestimenti da indossare conformi ai passaporti indi soggiunse in contraccambio del servigio che ti rendo fammi un favore che sta in poter tuo rammenti viola pisani ah sì la rammento e l'amante col quale la fuggì da napoli e dal quale è ora fuggita davvero che ho inteso sacreble ma voi siete un fortunato uomo caro confratello silenzio con le tue eterne charle di virtù e fratellanza non credi mai ad un pensiero virtuoso ad una buona azione nico si morse le labbra e replicò torvamente l'esperienza è un gran disinganno qual servigio renderti quanto all'italiana io contribuì indirettamente a farla venire in questa città piena di tranelli e non posso lasciarla sola esposta ai pericoli dei quali nella sua oscurità nell'innocenza sua la salverebbero un buono e non sospetto cittadino nella vostra benedetta repubblica che desideri una donna non ha che a dirle sì mia o ti denunzio in una parola viola deve accompagnarci nella fuga che di più facile vedo che è compresa nel passaporto che di più facile anzi difficilissimo questa fillide o non l'avessi mai conosciuta né avessi resa schiava l'anima mia dei sensi l'amore di una donna priva d'educazione violenta senza principi incomincia col paradiso per piombarci in un inferno e lei gelosa come tutte le furie ne soffrirebbe un'altra donna in compagnia e guai se vede la bellezza di viola tremo al pensarvi è capace di qualunque eccesso nell'impeto delle sue passioni ah conosco che razza di donne siano codeste mia moglie beatrice sacchini che condusse in francia da napoli allorché non riuscii con questa viola divorziò quando mi mancò il denaro ed ora ganza di un giudice mi passa vicino in cocchio mentre io cammino pedestre per le vie che sia maledetta ma pazienza pazienza questo è il destino della virtù o se fossi robespiero un giorno solo finiscila con queste declamazioni esclamò glindone impaziente e veniamo al punto che mi consigli di lasciare indietro la tua fillide abbandonarla alla propria ignoranza nemmeno protetta dal suo talento lasciarla derelita nei saturnali di stupri assassini no ho peccato verso di lei un tempo ma avvenga che può non voglio così vilmente abbandonare una donna che malgrado tutti i suoi errori affidò la sua sorte all'amor mio tu l'abbandonasti a marsiglia sì ma la lasciai al sicuro né allora io credevo che l'amor suo fosse tanto profondo e costante le diedi denaro supponendo che si sarebbe agevolmente consolata ma da quel tempo abbiamo conosciuto insieme il pericolo ed ora lasciarla esposta sola ai rischi che mai avrebbe in corsi se non era il suo amore per me è impossibile mi suggerisce un progetto non potresti tu dirle che hai una sorella una parente o benefattrice che vuoi salvare non possiamo fino al di là delle frontiere di francia far credere a fillide che viola è una donna che interessa a te solo e alla quale io permetto di fuggir con noi a tuo solo riguardo ah ben pensato certamente io farò finta di accondiscendere alle brame di fillide rinunziando al progetto che tanto la irrita di salvare l'innocente oggetto della sua frenetica gelosia tu frattanto indurrai fillide ad intercedere da me che procuri mezzi di fuga ad una signora e la sa che io non ho sorelle la quale mi soccorse nelle mie angustie sì non dubitare combinerò ogni cosa ancora una parola che avvenne di zanoni non parlare di lui non lo so ama ancora questa donna parrebbe è sua moglie e madre del figlio che ha con sé moglie madre e gli lama e perché nessuna domanda per ora vado a preparare viola alla fuga intanto torna presso fillide ma è l'indirizzo della napoletana è necessario che io lo sappia almeno per rispondere alle domande di fillide contrada mt numero 27 addio glindon pigliato il cappello uscì di casa e nicò rimasto solo parve immerso in pensieri alcuni momenti o mormorò fra sé non potrei io rivolgere tutto ciò mio vantaggio non potrei vendicarmi di te come tante volte giurai sopra tua moglie e tuo figlio non potrei impossessarmi del tuo oro dei passaporti della tua fillide superbo inglese che pretendi umiliarmi coi tuoi avorriti benefici che mi gettasti in viso come si getta l'elemosina ad un accattone fillide io l'amo e più ancora amo il tuo oro fantocci tengo in mano le funicelle vi faccio muovere così dicendo entrò nella stanza dove la napoletana sedeva aggrottato il ciglio e con gli occhi gonfi di lacrime guardò ansiosa udendo aprir l'uscio e si volse con impaziente moto al mirare la schifosa faccia di nicò glindon disse questi tirando una scranna presso fillide mi lasciò per tenerti compagnia nella solitudine bella italiana egli non è geloso del brutto nicò eppure nicò vi amava un tempo quando era in miglior condizione di fortuna ma lasciamo queste passate follie il vostro amico è dunque uscito per dove ah rivolgete gli occhi balbettate non ardite guardarmi parlate io l'imploro lo comando parlate bambina e di che temi temo sì purtroppo temo e tremando in tutte le membra si rimise a sedere dopo una pausa allontanò i lunghi capelli dagli occhi e balzando in piedi corse su e giù per la stanza finché piantandosi in faccia nicò le strinse con la mano un braccio lo trascinò ad uno scrittoio la perse e mostrando un cassetto pieno d'oro gridò tu sei povero ami il denaro prendine quanto vuoi ma toglimi dal dubbio chi è la donna che visita l'amico tuo l'ama egli gli occhi di nicò fiammeggiarono strinse convulsamente le mani e le aprì guardando le monete ma resistendo all'impulso rispose con finta amarezza pensi tu di sedurmi se ciò fosse non sarebbe per denaro che ti importa se gli ama una rivale se ti tradisce se annoiato delle tue gelosie medita lasciarti indietro nella fuga saresti più felice sapendone il motivo sì esclamò fieramente l'italiana sì perché sarebbe una felicità odiare e vendicarsi o tu non sai quanto l'odio sia dolce per coloro che hanno veracemente amato ma giurerai di non tradirmi se ti rivelo il segreto che non cadrai come fanno le donne impianti e rimproveri allorché ritorna colui che ti fu spergiuro lacrime rimproveri la vendetta si nasconde sotto un sorriso sei una valente creatura esclamò nicò con una specie d'ammirazione un'altra condizione l'amante tuo medita una fuga con la nuova innamorata abbandonandoti al tuo destino se io te lo provo e ti fornisco i mezzi di vendicarti della rivale fuggirai tu con me io t'amo e ti sposerò gli occhi di filli demandarono fuoco e guardandolo con inesprimibile sdegno stette muta nicò comprese ed essersi lasciato trasportare troppo oltre e conoscendo il lato cattivo dell'umana natura imparata dal suo depravato cuore e dai commessi delitti risolse ed affidarsi per il resto alle passioni dell'italiana allorché sarebbero giunte al grado che egli si disponeva di spingerle perdona rispose l'amore mi rese presuntuoso il solo amore la mia simpatia per te bella e tradita può indurmi ad offendere con le mie rivelazioni un uomo che io tenne sempre per fratello posso fidarmi di un tuo giuramento che nulla paleserai a glindon lo giuro per la mia fede per i torti ricevuti per il mio sangue montanaro basta prendi cappello e mantiglia e seguimi mentre filli de usciva a distanza nicò rivolse gli occhi all'oro era un mucchio più che egli non osasse agognare ad occhio il cassetto aprì gli altri e vide un plico di lettere del notissimo carattere di camillo de smoulin lo afferrò e apertolo nel esse alcune linee esclamando queste manderebbero alla ghigliottina 50 glindon e lo ripose in seno o artista o genio errante mira i due tuoi peggiori nemici il falso idealismo che non riconosce il dio e il falso amore ardente per la corruzione dei sensi il quale non riceve luce dall'anima capitolo terzo nel regno della notte amor risplende il trionfo d'amore lettera di zanoni a mesnur rammenti tu la vecchia età in cui il bello aveva ancora stanza in grecia quando noi due nell'ampio teatro d'atene assistemmo alla nascita di divine parole che al pari di noi non sono moriture rammenti tu il brivido d'orrore che corse per tutta quella fitta donanza allorché l'invasata cassandra ruppe il suo terribile silenzio cedendo al nome che la trasportava come orrendi risuonarono i vaticini di lei sull'atrio della casa da treo in cui stava per trovare la tomba dimora borrita dal cielo bruttata ad umano sangue col suolo insanguinato rammenti tu com'io in mezzo a quella dunanza di mille e mille e sterrefatto di terrore mi strinsi vicino a te e mormorando sommesso in vero non va profeta che guagli il poeta quella scena mi tornò al pensiero e udì rimbombarmi all'orecchio la voce di cassandra entrando in questo macello un solenne infasto orrore si indonnò di me come se fossi qui giunto per trovarvi una tomba e la rete della morte già ma avesse avvinghiato nelle sue maglie quale oscuro ricettacolo di vicissitudini e di guai divenne la nostra memoria o mechnur che altro è la vita nostra fuorché una cronaca della morte che miete senza posa mi sembra ieri quando io giravo per le strade di questa città della gallia in cui splendevano i piumati elmetti dei cavalieri e l'aria risuonava di bellicose grida il giovane luigi monarca e amante era rimasto vincitore nel torneo e tutta la francia insuperbiva dello splendore del suo magnifico re oggi qui non v'è più trono e altare che sottentrò loro io la veggo la ghigliottina è terribile starsi fra mezzo le rovine delle crollate città atterrire il serpente e la lucertola fra le macerie di persepoli e di tebe ma più terribile lo stare come io tra le intellettuali rovine della legge e dell'ordine tra lo sfasciarsi dell'umana specie eppure anche qui l'amore che tutto abbellisce che guidò i miei passi passeggia pieno di speranza attraverso gli orrori della morte strana passione per la quale l'uomo si forma un mondo in se stesso che individualizza un'unica creatura fra la moltitudine che attraverso tutte le vicissitudini della mia solenne esistenza ancora sopravvive dopo che l'ambizione l'odio l'ira sono spente l'amore qual angelo solitario si libra sopra un mondo pieno di tombe sulle due tremule sue ali umane speranza e timore come accade o mechnur che è perduta l'arte mia soprannaturale sono aiutato nelle ricerche di viola dall'istinto comune ai più abietti mortali come accade che io non abbia mai disperato avendo sempre in qualunque difficoltà la prescienza che da ultimo io e viola ci incontreremo ogni vestigio della sua fuga mi venne crudelmente nascosto ella evase così improvvisamente ed in segreto che tutte le autorità tutte le spie di venezia non seppero darmene il più lieve indizio invano percorsi l'italia invano visitai la casa ovella crebbe fanciulletta a napoli o come ivi pareva aspirasse tuttora la fragranza della sua presenza i più sublimi segreti della nostra scienza mi fallirono ogni volta che tentai rendere visibile l'anima di lei alla mia eppure giorno e notte io posso comunicare con mio figlio la natura medesima nel benedetto misterioso e tipico suo rapporto sembra supplire a quanto rifiuta la scienza nello spazio può separare l'anima vigilante d'un padre dalla culla del suo primogenito ignoro la sua dimora le mie visioni non mi dipinsero innanzi un paese ma soltanto la tenera vita ad un bambino per il quale tutto lo spazio è ancora una futura eredità perché il bambino prima che si svolga il lume della ragione prima che le tristi passioni dell'uomo fuschino l'indole che sorti nascendo il bambino non ha patria città linguaggio mortale l'anima di lui è ancora abitatrice di tutti i mondi e nell'immensità dello spazio si incontra con la mia il figlio comunica col padre o tu crudele che m'abbandonasti e per cui lasciai la sapienza delle superne sfere tu che sortisti in dote una fatale debolezza e i terrori dell'umanità potevi credere che la giovine anima del figlio nostro sarebbe meno salva sulla terra perché io volevo sempre più innalzarla al cielo potevi credere che io avrei danneggiato il sangue mio e non ti avvedesti che nei sereni occhi di lui parla la vita che io gli diedi avvertendo la madre la quale vorrebbe avvincerlo nell'oscura prigione e fra i tormenti della creta non t'avverti che io col permesso del cielo lo difesi dai mali e dai patimenti e nell'amirabile sua avvenenza benedì il santo veicolo per mezzo del quale il mio spirito poteva almeno porsi in comunicazione col tuo come riuscì a scoprire che essi si trovavano qui seppi che glindon il già tuo pupillo era stato a venezia non sapevo è vero persuadermi che il giovane gentile neofita di partenope fosse l'identico col delirante selvaggio visitatore introdottosi presso viola avanti che fuggisse ma allorquando ebbe evocata la sua idea dinanzi a me questa ricusò obbedirmi io allora conobbi che il suo fato era congiunto a quello di viola e ne seguì le tracce fino in questa città somigliante ad un lazzaretto giunsi l'altro ieri ma non ancora li ho scoperti torno orora dai loro tribunali di giustizia caverne ove le tigri afferrano la preda e non rinvenni quello che io cercavo sono dunque ancora salvi ma io riconosco nei delitti degli uomini l'oscura visione del sempiterno o mechnur qui per la prima volta ravviso quanto sia maestosa e bella la morte di che sublimi virtù defraudiamo noi stessi quando si ti bondi per la virtù raggiungiamo il segreto per il quale ci è dato ricusar di morire allorché in qualche ridente contrada dove respirare è godere si apre la fossa per la gioventù e la bellezza chiudendo loro quella terra incantevole allorché la morte sorprende lo studioso in mezzo alla sua scientifica carriera escludendolo dall'incantevole regione che si schiudeva i suoi sguardi è naturale in noi il desiderio di sopravvivere naturale il fare oggetto principio delle nostre indagini una esistenza perpetua ma qui dal mio pinnacolo dei secoli volgendo l'occhio al passato e al fosco avvenire io scorgo qual dolcezza e gloria provino i cuori sublimi morendo per coloro che amano vidi un padre sacrificarsi per il figlio suo gli si imputavano delitti che poteva smentire con una parola l'avevano preso in scambio del figlio con qual gioia profittò dell'equivoco confessando le nobili colpe di valore fedeltà e subì la condanna esultante che la sua morte salvasse la vita al figlio cui non l'aveva data in vano e vidi donne giovani delicate nel fiore della bellezza le quali avevano abbracciata la vita claustrale mani bruttate del sangue dei santi aprirono le griglie che le segregavano dal mondo le trascinarono fuori violentandole a rinnegare i loro voti ed abbiurare il dio santo che quei demoni volevano distruggere affinché trovassero amatori e mariti e fossero libere ebbene rinnegarono esse i voti abbandonarono la fede le sedusse l'amore no men jur ad una voce preferirono morire e dove provenne tanto coraggio da ciò che tali cuori vivono una vita più astratta e più santa dell'attuale mentre il vivere sempiterno su questa terra come noi non ci sublima appunto dall'umana natura sì anche fra questa sanguinosa carneficina dio eterno giustifica dinanzi all'uomo la santità della morte ministra dei suoi voleri ti ho nuovamente riveduto in spirito ti ho benedetto mio dolce figlio e non mi riconosci tu pure nei tuoi sogni non senti battiti del mio cuore attraverso il velame delle rose e tue visioni non senti le ali di esseri più luminosi che io scongiuro perché ti circondino ti veglino e ti salvino e quando l'incanto cessa al destarsi quando i tuoi occhi si schiudono alla luce del giorno non si volgono in cerca di me non chiedono a tua madre con la muta loro eloquenza perché ti rapì il padre donna non ti penti fuggendo immaginarie paure non venisti nel ricettacolo del terrore ove il pericolo è visibile di incarnato o se potessimo incontrarci cadresti sul cuore che hai sì crudelmente trafitto e sentiresti povera vagabonda trabalzata dalle tempeste d'aver trovato un ricovero le ricerche continuano a riuscire infruttuose o mechnur io persisto a mischiarmi tra gli uomini tra i giudici e le spie ma in vano conosco che là in parigi lo conosco per istinto che il respiro di mio figlio sembra più caldo e più familiare essi madocchiano con velenosi sguardi quando giro per le contrade con un'occhiata io disarmo la loro malizia ed affascino i basilischi in ogni dove vedo le tracce e fiuto la presenza della larva che sta sull'imitare e le cui vittime sono le anime che vorrebbero aspirare ed altro non sanno che temere io vedo la larva senza forme torbida precedere gli uomini sanguinari e regolare la loro strada robespierre mi passò d'accanto con la sua furtiva pedata e l'orribile guardatura della larva gli si figgeva in cuore girai gli occhi sopra la convenzione e l'arcigno fantasma vera oscurando tutto il pavimento e gli stabilì la sua demora in codesta città della morte e chi sono in realtà costoro che vorrebbero ricostruire un nuovo mondo simili ai neofiti i quali tentarono in vano raggiungere la nostra suprema scienza tentarono ciò che è superiore ad ogni loro potere trapassarono il mondo positivo negli usi e nelle forme in una regione di ombre e l'aborrito custode della medesima li afferrò come sua preda io scrutai l'anima tremante del tiranno mentre rabbrividiva nel passarmi vicino e in essa tra le rovine di mille sistemi aventi per scopo la virtù stava il delitto e vi spandeva la sua desolazione eppure questo robespierre è il solo pensatore il solo aspirante fra tutti egli ha sempre dinanzi agli occhi un avvenire di pace e misericordia ai quando incomincerà questa nuova era allorché abbia annientato ogni suo nemico pazzo nuovi nemici pullulano da ciascuna goccia di sangue e spinto da una forza irresistibile s'avvicina alla sua condanna o viola la tua innocenza ti protegge tu che le umane dolcezze dell'amore esclusero dei sogni di un'area e spirituale bellezza facendo del tuo cuore un universo di visioni più bello che non ammiri colui che s'aggira sopra gli astri non ti circonda ancora lo stesso puro affetto d'un'incantevole sfera lo stesso terrore non ha potere sopra una vita troppo innocente per cotesti falsi sapienti ombra più che di notte in cui di luce raggio misto non è tutto il circonda né più il palaggio apparne più le sue vestigia né dir possi egli qui fue gerusalemme liberata i clubs sono agitati da clamorosa frenesia il fosco enriot corre qua e là gridando ai suoi sgherri armati il vostro amato robespierre è in pericolo a misura che questi si vedeva minacciato ingrossava la lista delle sue vittime talien il mcduff del condannato macbeth infondeva coraggio ai suoi timidi cospiratori le carrette rotolano pesantemente per le contrade sono chiuse le botteghe e il popolo saturo di sangue non vuol più lambirne ogni notte accorrono agli 80 teatri i figli della rivoluzione a ridere i frizzi della commedia a spargere dolci lacrime sopra immaginarie sciagore in una cameretta nel centro di parigi sedeva una madre vegliante sul figlio era sul mezzogiorno e tutto quiete all'intorno il sole penetrando dagli alti tetti nella straduzza rischiarava dall'aperta finestra la cameretta a portatore sempre di gioia nel tempio nella prigione in una sala come in una caverna dorato e giocondo quando sorride alla prima ora della nostra vita come quando irradia con la sua luce il terrore e l'agonia dell'ultima il bambino giacenti ai piedi di viola sporgeva le sue manine per afferrare gli atomi che si aggiravano nel raggio la madre stornando gli occhi e facendosi vie più triste sospirò ed è la medesima viola che brillava sotto il cielo di grecia più bella della venere italia come pallida e macilenta siede trascuratamente con le mani cascanti sulle ginocchia è scomparso il sorriso che sempre animava il suo labbro una cupa disperazione come se la vita l'avesse abbandonata pare abbattere la sua giovinezza e renderle esoso perfino il sole e davvero l'esistenza sua il languidì da che vagò quel tristo rivo lungi dal fonte che l'alimentava il momentano entusiasmo del timore della superstizione che l'aveva spinta a fuggire zanoni per uno di quegli impulsi simili ai trabalzi d'un sogno svanì dal giorno che si trovò in paese straniero la sentì che la sua vita dipendeva dal sorriso dell'abbandonato consorte non si pentì della fatta risoluzione poiché quantunque spento l'entusiasmo durava tuttora la superstizione e credeva sempre d'aver salvato suo figlio dalla nera e colpevole stregoneria in ogni paese corrono tradizioni intorno alla medesima ma nel mezzodì dell'italia più che altrove eccitano la credulità e il terrore l'impressione di viola fu confermata dalle misteriose confidenze di glindon e dal vedere coi suoi occhi il terribile deperimento di lui che ella riteneva vittima degli incantatori non si pentì ma sembrava avesse perduta ogni forza di volontà giunta a parigi viola cercò una sua cara amica ma questa da tre settimane insieme al marito aveva cessato di vivere per la prima volta i meschini bisogni della vita tormentarono la bella napoletana la perfezione che dà anima e forma alla poesia e al canto a cui si era dedicata dalla fanciullezza ha in sé un eccitamento che la innalza sopra un mestiere manuale l'esistenza dei compositori di musica e dei cantanti ondeggia fra la realtà e l'idealismo ma codesta esistenza era per sempre perduta per colei che fu già l'idolo degli occhi e delle orecchie dei napoletani sollevata nell'alta sfera ad un amore appassionato sembrava che il fittizio suo genio che rappresentava gli altrui pensieri si fosse trasfuso nel genio che crea sarebbe stato la peggiore delle infedeltà per lo sposo salire nuovamente le scene per ottenere gli applausi del pubblico in conseguenza colei che aveva riposato sul petto di zanoni ripugnando da accettare le mosine da glindon provvide al sostentamento del figlio coi minuti lavori propri del suo sesso travagliando sconosciuta nella solitaria sua camera né rimase traccia della sua esistenza formata dalla poesia e dall'amore del pari che non apparivano vestigie dell'incantato palazzo distrutto da armida il fanciullo però vendicava il padre fioriva e si rinfrancava nella luce della vita ma sembrava che un altro essere oltre la madre vegliasse su lui il suo sonno era così profondo che non l'avrebbe destato uno scoppio di tuono dormendo egli stendeva sovente le braccia quasi per abbracciare l'aria sovente le labbra mormoravano suoni affettuosi non per la madre un incarnato quasi d'angelo gli brillava sulle guance ed un sorriso di misteriosa gioia sul labbro e quando si risvegliava il primo sguardo non era per la madre ma avvaganti indagatori volgeva all'intorno gli occhi fissandoli da ultimo sul pallido viso di lei con espressione di muta tristezza e di rimprovero non mai per l'addietro aveva sentito viola la forza dell'amor suo per zanoni pensieri sentimenti anima erano in lei paralizzati per l'assenza dell'uomo cui aveva sposato il suo destino non udiva il rumore esterno che prorompeva ad ogni ora nella popolatissima parigi soltanto allorché glindon travolto e simile ad uno spettro veniva a visitarla si accorgeva la bella figlia dell'indolente mezzogiorno quanto greve fosse l'atmosfera di morte che la circondava sublime nella sua passiva incoscienza menando una vita meccanica viola si trovava nella caverna di belve umane senza nulla temere l'uscio si spalancò e glindon entrò più agitato del consueto siete voi clarence disse ella con languida voce non vi aspettavo così di buon'ora e chi può contare le ore in parigi rispose glindon con spaventoso sorriso non è già molto che io mi trovi qui la vostra patia fra queste sciagure mi atterrisce mi dite con calma dio e con calma benvenuto come se in ogni angolo non vi fosse una spia come se ogni giorno non vi fosse una strage perdono ma fra queste mura sta il mio universo a stento credo ai racconti che mi andate facendo qui ogni cosa a meno questi e aditava il figlio sembra così inanimata che non mi colpiscono i delitti commessi al di fuori come se fossi in una tomba glindon fe pausa contemplando con un misto di stupore di pietà quella donna si giovane già investita della tristezza del completo riposo proprio d'un cuore invecchiato o viola esclamò con represso affetto avrei mai pensato di vedervi in questo stato e di sentire una sì viva compassione per voi allorquando ci scontrammo la prima volta nell'allegra napoli o perché ricusaste allora ad amarmi perché non fui degno di voi non v'allarmate permettete di toccarvi la mano una passione così dolce come quel mio giovanile amore non la proverò mai più ora io v'amo come un fratello ama una suora giovinetta e derelitta per quanto sia tristo mi sembra la vostra presenza di respirare l'aria pura della mia gioventù qui soltanto fuori delle scene turbolenti il fantasma cessa di perseguitarmi e dimentico la morte che mi tiene indietro come la mia ombra ma giorni migliori forse sono a noi preparati io comincio se non altro a intravedere confusamente che per domare il fantasma che rese maledetta la mia vita fa duopo sfidarlo affrontandolo ed ora comprendo quanto disse mesh nur nel suo oscuro apotegma che la larva sarebbe più terribile quando io non la vedevo e la mia appare ogni volta che faccio una virtuosa e pacata risoluzione sì eccola coi lividi occhi un freddo sudore bagnava la fronte di glindo ma non varrà a stornarmi da quanto risoluto io l'affronto e gradatamente svanisce nell'ombra fe pausa e fissò con terribile esultanza gli occhi sul raggio di sole che penetrava nella stanza poscia con un profondo sospiro ripigliò ho trovato viola i mezzi di fuggire in qualche altro paese ci sforzeremo di confortarci a vicenda e di scordare il passato no disse viola con calma non ho più voglia di muovermi da questo luogo che è il mio ultimo asilo sognai questa notte o clarence sognai di lui per la prima volta da che siamo separati o non deridetemi mi palve che perdonasse alla fuggitiva chiamandomi moglie questa visione si aggira ancora nella stanza e forse mi ricomparirà innanzi prima che io muoia non parlare di lui di quella semifuria esclamò glindo infieramente e battendo il piede ringraziate il cielo che io abbia salvata da esso zitto replicò viola in tono grave e mentre stava per continuare l'occhio suo cadde sul fanciullo stava questi nel centro dell'obliqua colonna di luce che il sole diffondeva nella stanza i raggi pareva formassero un aureola d'oro intorno alle bionde sue chiome nelle esili sue membra squisitamente modellate nei grandi e tranquilli occhi vi era qualche cosa che incuteva rispetto e lusingava ad un tempo l'orgoglio materno il fanciullo volse a glindo mentre parlava uno sguardo non scevro disprezzo e che viola interpretò per una difesa dell'assente sposo più valida che ella non potesse fare glindo ruppe il silenzio dicendo e perché vorreste rimaner qui per tradire i doveri di madre se vi coglie qualche sciagura che ne sarà del figlio vostro lo alleveranno come orfanello in un paese che rinunziò la vostra religione e dove più non esiste l'umana carità o piangetelo e stringetelo al seno le lacrime non valgono a proteggerlo e a salvarlo vinceste amico io fuggirò con voi siate pronta domani notte recherò io stesso gli abiti per travestirvi e glindo spiegò rapidamente la strada che avrebbero tenuta e la storia che doveva fingere viola l'ascoltò senza capire gran cosa ed egli premendola di lei mano al cuore partì capitolo quinto van seco pur anco sdegno ed amor quasi due veltri al fianco gerusalemme liberata glindon all'uscir dalla casa non scorse due individui appiattati all'angolo del muro egli che vedeva pur sempre il fantasma al fianco non sa vide che gli sguardi ancora più velenosi dell'umana invidia e della gelosia femminile spiavano i suoi passi nicò si avvicinò alla casa e figli degli tenne dietro in silenzio il pittore vecchio san culotto conosceva benissimo il linguaggio da assumere col portiere chiamatolo dalla sua stanzuccia gli disse che significa ciò cittadino tu alloggi un sospetto cittadino tu mi spaventi se tale è non è un uomo qui alloggia una donna italiana sì al terzo piano l'uscio a sinistra ma la povera giovane non può essere pericolosa cittadino vada ardisci tu aver compassione di lei io no davvero ma pure di la verità chi la visita nessuno eccettuato un inglese è lui un inglese spia di pitt e di coburgo giusto cielo sarebbe possibile come cittadino ardisci parlare del cielo tu mai l'aria ad un aristocratico no in verità fu una vecchia e cattiva abitudine la parola muscì di bocca inavvertitamente capita spesso l'inglese ogni giorno fillide lasciò sfuggire un'esclamazione ella non esce mai continua il portiere non s'occupa che di lavori femminili e di suo figlio suo figlio e fillide fece un salto in vano nicò tentò arrestarla era già corsa su per le scale fino innanzi all'uscio indicato dal portiere e trovato lo semichiuso entrò immobile sul limitare vide viola ancora avvenente l'aspetto d'una simile bellezza le tolse ogni speranza e il figlio su cui pendeva la madre la trafisse ancor più che non ebbe mai la consolazione d'essere madre fillide non proferì sillaba le più feroci passioni le straziavano il cuore viola si voltò e scorgendo la rimase atterrita da quella strana apparizione con una fisionomia esprimente odio sprezzo vendetta mise un grido e si strinse il figlio al seno l'italiana con uno scoppio di riso convulso precipitò dalle scale e raggiunto nicò che stava ancora parlando con l'atterrito portiere lo trasse seco quando furono lontani dalla casa si fermò d'improvviso gridando vendicami e di qual prezzo esigi la mia ricompensa o carissima è il permesso di amarti devi fuggir con me domattina avrai in mano i passaporti ed il piano ed essi saranno quest'oggi chiusi nella consiergerì la ghigliottina vendicherà i tuoi torti fallo ed io sono paga rispose energicamente fillide né più aprirono bocca fino a casa ivi al mirare il tristo fabbricato ai balconi della stanza che la sua fede nell'amore di glindon aveva reso un paradiso la tigre si sentì commuovere e per quanto furibonda e selvaggia alcunché di femminile la raddolci stringendo il braccio di nicò a cui si appoggiava convulsamente esclamò no no lui no denunzia con lei che la muoia ma io dormì sul suo seno lui no sarà fatto come vuoi rispose nicò con diabolico sorriso ma per il momento necessario che egli venga arrestato non gli accadrà alcun male non comparendo chi lo accusi ma per lei non avrai tu compassione fillide gli volse un'occhiata così copa che fu sufficiente risposta capitolo sesto vider piccola nave e in poppa quella che guidarli dovea fatal donzella gerusalemme liberata poiché la fiamma eterea furò prometeo al polo piombò di febbre squallide sul mondo ignoto stuolo orazio libro primo l'italiana non smentì la fama dissimulazione propria del suo paese del suo sesso non un detto non uno sguardo rivelarono a glindon in quel giorno il terribile cambiamento che aveva tramutato in odio l'amor suo egli d'altronde immerso nei pensieri della fuga e riflettendo al suo strano destino a null'altro badava però le maniere di fillide più dolci del consueto lo distolsero la sera dal cupo meditare e cominciò a parlare con lei delle sue speranze di fuga e dell'avvenire che le aspettava in più tranquilla contrada e la tua bella amica che doveva esserci compagna disse fillide con un falso sorriso e stornando gli occhi tu rinunziasti a condurla per favorire una che interessa nicò come mi disse è ciò vero nicò ti ha detto questo replicò glindon in modo evasivo ebbene ti garba un tale cambiamento traditore mormorò fillide e alzandosi gli si avvicinò spartì i lunghi capelli dalla fronte e baciandolo con labbra convulse è una testa troppo bella per il carnefice soggiunse con lieve sorriso e si allontanò fingendo di occuparsi dei preparativi della fuga la mattina seguente glindon non vide l'italiana uscita di casa per tempissimo era urgente che egli rivedesse il signor c avanti la partenza non solo per combinare di prendere consegni con nella fuga ma per sgombrare qualunque sospetto potesse nascere dall'aver cambiato il piano il signor c benché non appartenesse all'intima società di robespierre e in segreto gli fosse nemico aveva avuto l'arte di star d'accordo con ogni partito che saliva al potere uscito dalla feccia del popolo possedeva non di meno la grazia e la vivacità che si trovano diffuse in francia in tutte le classi era riuscito ad arricchirsi nessuno sapeva in qual modo durante la sua rapida carriera divenuto uno dei più doviziosi proprietari di parigi teneva una casa splendida ed ospitale era uno di coloro che robespierre per vari motivi si degnava a favorire e spesso aveva salvato proscritti e sospetti procacciando ai medesimi passaporti con nomi supposti e distruendoli sul modo di fuggire ma ci non si pigliava tale disturbo che per i ricchi l'incorruttibile massimiliano cui non mancava la tirannica facoltà della cume scorgeva probabilmente tutte le costui manovre e come l'avarizia fosse ascosa sotto la compassione ma era rimarchevole che robespierre di frequente pareva incoraggiare i vizi in uomini che destinava più tardi al supplizio come se mirasse ad abbassarli nella pubblica stima e far risaltare la propria austera intangibile integrità e il suo purismo fuor di dubbio rideva spesso tra sé della sontuosa abitazione della cupidigia del rispettabile cittadino c glindon s'avviò gogi da bondo alla casa di costui era vero come disse oscuramente a viola che in proporzione che egli resisteva alla larva i terrori di questo scemavano di influenza giunse al fine il tempo che vedendo il delitto e il vizio in tutta la loro orridezza e sud un teatro si vasto glindon trovò che essi erano più orribili degli sguardi di uno spaventevole fantasma e la nobiltà dell'animo suo cominciò a risorgere mentre percorreva le strade meditava in cuor suo progetti di pentimento e di riforma e qual giusta ricompensa all'affetto di fillide di sposarla sacrificando ogni ostacolo di nascita e di educazione voleva riparare tutti i torti avuti con essa immolandosi ad un matrimonio con una donna che si poco armonizzava con lui egli che un tempo rifugiva l'idea ad unirsi alla nobile gentile viola aveva imparato in questo mondo di ingiustizie che la giustizia è una sola e che il cielo non creò un sesso per chi sia vittima dell'altro le giovanili sue visioni del bello e del buono sorsero di nuovo a lui dinanzi e nel cupo oceano della sua mente brillò il sorriso della virtù risvegliata qual raggio di luna forse giammai l'anima sua era stata così sublime e meno egoista frattanto nicò assorto del pari nei sogni del futuro e calcolando fra sé il miglior vantaggio che potrebbe ricavare dall'oro dell'amico che stava per tradire si avviò alla casa onorata dalla residenza di robespierre non intendeva con piacere alla viva preghiera di fillide che fosse salva la vita di glindon partecipando egli all'opinione di barrer che i morti soli non ritornano tutti gli uomini che si sono dedicati ad uno studio ad un'arte con sufficiente insistenza per raggiungere un certo grado di perfezione possiedono un fondo d'energia incomparabilmente superiore a quello della massa codesta energia è per solito concentrata sugli oggetti scopo della professione coltivata lasciandoli indifferenti su ciò che ambiscono gli altri uomini quando però non riescono a raggiungere tali oggetti quando il rivo non ha un legittimo corso allora l'energia irritata si indonna di tutto l'essere e diventa un elemento pericoloso e distruttivo nel sistema sociale prorompendo in disordini e sommosse se non si fiacca in vani tentativi o non purificano la coscienza e i principi virtuosi è perciò che in tutte le monarchie seggiamente ordinate anzi in qualunque governo ben costituito sia cura speciale di schiuderla via ad ogni arte e scienza è per questo che i provvidi e avveduti uomini di stato ne onorano i cultori quantunque forse non l'altro scorgano in un quadro che un pezzo di tela colorito non l'altro in un problema che un ingegnoso indovinello uno stato non corre mai più gran pericolo di quando il talento invece di esercitarsi pacificamente si getta fra gli intrighi politici e vuol spingersi innanzi il talento non onorato si mette in guerra con gli uomini ed è rimarchevole come la classe degli attori drammatici i quali erano i più avviliti dalla pubblica opinione sotto l'antico regime in francia fino a privarli della sepoltura cristiana fu salvo qualche eccezione dei favoriti di corte la più implacabile vendicativa tra i rivoluzionari il selvaggio coyot d'arbois mauvais comedian rappresentava i torti e le vendette dell'intera sua casta ora l'energia di nikono si era mai applicata sufficientemente all'arte che gli professava e fino dalla prima giovinezza le politiche discussioni del suo maestro il famoso pittore david l'avevano distratto dai tediosi lavori del cavalletto le fisiche imperfezioni ne inasprirono lo spirito e l'ateismo del suo benefattore spense in lui la coscienza è uno dei più sublimi pregi della religione cristiana di innalzare la pazienza al grado prima di virtù poi di speranza togli di mezzo la dottrina di una vita futura di una ricompensa e di un padre che si compiace delle nostre pene del nostro soffrire qua giù che mai diventa la pazienza ma senza essa che cosa è l'uomo che cosa è un popolo senza essa l'arte non può salir sublime la libertà non può ridursi a perfezione con sforzi selvaggi e con tentativi senza scopo l'intelletto cerca sottrarsi all'indigenza ed una nazione tenta di venir libera ma guai ad entrambi se rimangono abbandonati in tal guisa in balia di sé medesimi senza forza e senza pazienza nicò era un furfante insieme un fanciullo vanno alcuni indizi d'umanità alcune reliquie di virtù nei più colpevoli e spesso il creatore dell'umana specie non è dileggiato dai cuori cattivi e dalle ottuse menti perché anche gli oggetti di pessima lega hanno qualche minuzzolo d'oro e le opere più perfette della natura non sono scevere di un po' di scoria però vi sono alcune eccezioni benché scarse della regola generale eccezioni quando la coscienza è morta del tutto e il bene e il male diventano cose indifferenti e un mezzo a qualche malvagio scopo tale era il protetto del vecchio ateista impastato d'odio e di invidia la coscienza del proprio talento gli faceva esecrare chiunque lo superava per doni di natura o per ricchezza ma per quanto egli fosse un mostro allorché da giovane come raccontammo tentò assassinare il suo benefattore gli anni il fermento di tutte le malvagie passioni e l'epoca sanguinosa lo avevano corrotto nel più intimo del cuore le rivoluzioni non sono favorevoli alle belle arti più degli opulenti orgogliosi magnati l'artista e il poeta hanno maggiori interesse alla conservazione dell'ordine e della pace la onde nicò non potendo effettuare il suo vivissimo desiderio di render chiaro il proprio nome nella pittura rivolse l'animo ai delitti in lui congeniti egli non aveva a venire oltre questa vita e intanto i suoi compatriotti giunti al potere a quali condizioni si trovavano ridotti tutti buoni senza egoismo fossero repubblicani o realisti erano scomparsi per mano del carnefice i poveri spinti dalla disperazione sarebbero sorti in turbe innumerevoli per trucidare i ricchi indilacerarsi tra loro le membra se la pazienza che l'angelo della povertà non fosse stata al loro fianco additando solennemente una vita futura mentre nicò si avviava la casa del dittatore cominciò a macchinare un piano affatto diverso da quello del giorno precedente non già che avesse rinunciato all'idea di denunziare glindon il cui destino dividerebbe necessariamente viola sua compagna egli si era deciso perché gli odiava ambedue oltre al suo antico e non mai spento odio contro zanoni viola lo aveva insultato glindon invece gli era stato utile ma la gratitudine era insopportabile per nicò quanto l'insulto non di meno qual uomo riusciva in quei giorni a fuggire dalla francia poteva è vero avere tutto il aro di glindon giacché non dubitava di indurre fillide per mezzo dell'ira e della gelosia a fare quanto piacesse a lui le carte rubate a glindon il quale nella sua corrispondenza con desmoulins biasimava robespierre dovevano tornare sommamente utili a questi fargli scordare la vecchia relazione di nicò con herbe ed arruolarlo fra i suoi terroristi speranze di avanzamento di ricchezza di onori lo citarono di nuovo la corrispondenza di camillo desmoulins era scritta con l'ardire imprudente e la non curanza caratteristica del discepolo di danton parlava apertamente di progetti contro robespierre nominava persone che il tiranno voleva spegnere al minimo pretesto si fatta corrispondenza era dunque un nuovo strumento di morte nelle mani di robespierre ne avrebbe potuto nicò fare un dono più gradito a massimiliano l'incorruttibile con tali progetti giunse alla casa del cittadino duplè sul cui limitare erano aggruppati confusamente dieci o dodici giacobini guardie del corpo volontarie di robespierre bene armati ed insolenti per il potere che esercitavano alcune belle giovani donne abbigliate con eleganza mescolate tra coloro chiedevano teneramente nuove di robespierre che si diceva assalito da un eccesso di bile per quanto sembri strano egli era l'idolo del bel sesso nicò si fece strada tra il corteggio stanziato avanti alla porta e sulla scala non avendo l'appartamento di robespierre anticamere abbastanza vaste per la folla dei visitatori una salva di interrogazioni tutt'altro che amichevoli gli ferì l'orecchio oh che grazioso pulcinella disse una matrona cui aveva scomposta la gonna col gomito ma chi può aspettarsi galanteria da un simile bifolco cittadino disse un'altra bada che mi schiacciasti un piede ora però che vedo il tuo ma accorgo che la sala non è abbastanza grande oh cittadino nicò esclamò un giacobino brandendo la sua formidabile scimitarra che cosa vieni a far qui pensi forse che i delitti di herbert siano già dimenticati via aborto di natura e ringrazia l'essere supremo che ti fece abbastanza insignificante per essere obliato che bella faccia per guardar fuori dalla finestra nazionale esclamò una donna alla quale il pittore aveva sciorinato l'abito cittadini parlò nicò con enfasi ma raffrenandosi in modo che le parole gli uscivano appena di bocca ho l'onore di informarvi che io cerco il rappresentante per affari della massima importanza a lui ed al pubblico e invoco soggiunse volgendo intorno uno sguardo maligno tutti i buoni cittadini a rendermi testimonianza quando mi lanierò con robespierre dell'accoglienza fattami da alcuni tra voi vi era nel tono di voce nello sguardo di nicò una sì profonda malizia che gli oziosi si tirarono indietro e ricordando le subitane e vicende della vita rivoluzionaria molti assicurarono lo squallido e rabbioso pittore essere lontanissimi dall'insultare un cittadino che aveva tutta l'apparenza di un buon sanculotto nicò ricevette queste apologie in cupo silenzio e incrociando le braccia si appoggiò alla parete aspettando con impazienza di essere introdotto gli oziosi cianciavano i vari crocchi di due o tre e in mezzo al generale bisbiglio si udiva la voce sonora del giacobino che stava di guardia sulla scala vicino a nicò una vecchia ed una giovinetta parlavano sottovoce egli si avvicinò per udirne il colloquio ti assicuro cara mia disse la strega con una misteriosa stretta di mano che la divina caterina teo ora perseguitata dagli empi è realmente ispirata non va dubbio che l'eletto di cui don gerle ed il virtuoso robespierre sono destinati ad essere i due gran profeti godrà qui una vita eterna sterminando tutti i loro nemici non va su ciò il minimo dubbio che delizia rispose la giovane questo caro robespierre e quanto vivranno entrambi il più gran miracolo continuò la strega è che caterina teo più vecchia di me che ho 81 anni è realmente ispirata non va dubbio che gli eletti dei quali lo ripeto don gerle e il virtuoso robespierre sono destinati ad essere i profeti godranno quaggiù una vita immortale sterminando tutti i loro nemici no non va in ciò il minimo dubbio che delizia rispose la giovane questo caro robespierre eppure non ha l'aspetto di vivere lungamente sarà più grande il miracolo proseguì la vecchia o lo ripeto 81 anni e non mi sento invecchiare da che caterina teo mi promise che sarei una delle elette sopra giunsero altri che parlavano ad alta voce infaticamente sì gridava un uomo membruto che alla veste sembrava un beccaio nude le braccia e con in testa il berretto rosso io vengo a custodire robespierre li preparano un trabocchetto offrendoli da alloggiare nel palazzo nazionale non si può essere amico del popolo ed abitare in un palazzo no davvero rispose un calzolaio l'uomo di più qui in casa dello stipettaio somiglia ad uno di noi arrivò un'altra turba di gente ed un gruppo si spinse vicino a nicò parlando ancora più forte dei primi tutti insieme confusamente il mio piano è al diavolo il tuo piano ti dirò il mio stratagemma sciocchezze urlò un terzo quando robespierre udrà il mio nuovo metodo di fabbricare polvere da cannone i nemici della francia saranno ma chi teme i nemici al di fuori interruppe un quarto i nemici da temersi sono quei di dentro la mia nuova ghigliottina tronca 50 teste per colpo ma la mia nuova costituzione esclamò un quinto la mia nuova religione cittadino mormorò con compiacenza un sesto sacre mille tonner silenzio intimò una guardia giacobina la folla si aprì dando il passo ad un uomo di fiera guardatura con l'abito abbottonato fino al mento e che strascinando rumorosamente la sciabola facendo suonare gli sproni scendeva le scale le sue guance erano rosse per ubriachezza gli occhi grifagni come quelli di un avvoltoio vi fu un momentaneo silenzio e tutti impallidendo lasciarono il passo all'implacabile a un rio appena questo feroce arcigno satellite del tiranno fu passato la folla si aprì con nuovi segni di rispetto e timore dinanzi ad un pacato e sorridente cittadino vestito decentemente e con occhi sommessi il quale come un'ombra scivolò su per la scala un poeta arcadico non avrebbe potuto descrivere una fisionomia che più della sua somigliasse a corridone e a tirsi perché dunque tutti rabbrividivano e trattenevano il respiro come una donna la si caccia nella sua tana sparì colui fra i rozzi spettatori che si spinsero indietro gli uni sugli altri per evitarlo nel passaggio ad un cenno di lui il gigantesco giacobino aprì l'uscio senza fare alcuna domanda ed egli entrò nelle stanze del tiranno ivi noi lo seguiremo capitolo settimo è statuito che chiunque lo chiamasse uomo subirebbe la pena di morte sant'agostino la città di dio robespierre stava languidamente sdraiato sulla sua poltrona col volto cadaverico più abbattuto del consueto egli cui caterina theo assicurava una vita immortale aveva l'aspetto di un agonizzante sulla tavola lui dinanzi vi era un piatto d'aranci il sugo dei quali si diceva che raddolcisse l'acre bile che rodeva il suo organismo una vecchia donna sfarzosamente vestita era una marchesa dell'ancien regime si occupava di mondare i frutti delle speridi pelmalato dragone con le sue delicate dita coperte di gioielli ho già premesso più sopra che robespierre era l'idolo delle donne strano in vero ma tali erano allora le francesi la marchesa che al pari di caterina teolo chiamava suo figlio pareva realmente amarlo con l'affetto disinteressato d'una madre mondando gli aranci gli rivolgeva le più tenere carezzevoli parole che fecero apparire un livido sorriso sulle smilze labbra di robespierre alquanto discosti paiano e coton seduti ad un'altra tavola scrivevano rapidamente e di quando in quando interrompevano il lavoro per consultarsi a vicenda bisbigliando sommesso ad un tratto uno dei giacobini aprì l'uscio ed avvicinatosi a robespierre gli sussurrò all'orecchio il nome di geren a questo nome il malato si scosse come se gli infondesse una nuova vita mia dolce amica disse volgendosi alla marchesa scusate se devo far senza le vostre cure amorevoli la francia mi reclama e non sono mai sofferente quando si tratta di servire la mia patria la vecchia signora alzò gli occhi al cielo mormorando che angelo robespierre agitò la mano con impazienza e quella con un sospiro accarezzandogli la pallida guancia lo baciò in fronte e sommessa si ritirò un istante dopo l'uomo pacato e sorridente che descrivemmo stava dinanzi al tiranno questi aveva ragione di dire benvenuto uno dei più scaltri agenti del suo potere l'uomo in cui poneva maggior fiducia che nel club dei giacobini nella lingua dei suoi oratori nelle baionette dei suoi soldati geren il più rinomato dei suoi agenti la spia che tutto indagava scopriva che si trovava dovunque ed insinuandosi come il raggio del sole fra le screpolature delle rocce riferiva a lui non solo le azioni ma gli affetti degli uomini bene cittadino bene disse robespierre che cosa di taglien stamattina di buon'ora due minuti dopo le otto e gli uscì così per tempo oltrepassò le strade catville temple riunione mare martin nulla di rimarchevole forché che cosa si divertì a contrattare alcuni libri ad un banchetto alcuni libri o il ciarlatano vorrebbe nascondere l'intrigante sotto le apparenze del letterato bene finalmente nella contrada fosse monmartre un individuo sconosciuto che indossava un soprabito turchino gli si avvicinò passeggiarono insieme alcuni minuti finché le raggiunse le gendre le gendre avvicinati paian intendi io proseguì geren entrai nella bottega d'un fruttivendolo e dissi a due ragazzine di andare a giocare alla palla vicino ad essi le ragazzine udirono le gendre che diceva credo che il suo potere vada scemando italien rispondere ed io pure non gli darei tre mesi di vita non so cittadino se intendessero parlare di te nemmeno io rispose robespierre con maligno sorriso qui sottentrò una cupa concentrazione a mormorò sono ancora giovani non commetto disordini il mio temperamento è robusto c'è altro di italien sì la donna che gli amò teresa di fontenè la quale si in prigione continua ad essere in corrispondenza con lui eccitandolo a salvarla col rovesciarti lo udirono le mie ragazzine il servitore di italien è quello che porta le lettere davvero questo servitore deve venire arrestato nelle strade di parigi il regno del terrore non è ancora finito con le lettere che gli si troveranno indosso io rovescerò italien dal suo banco nella convenzione robespierre si alzò e dopo aver passeggiato alquanto su e giù impensierito aprì l'uscio chiamando uno dei suoi giacobini gli diede ordine di arrestare il servitore di italien poi si gettò nuovamente sulla poltrona mentre il giacobino usciva gueren sussurrò non è egli il cittadino aristide sì uomo fedele se si lavasse di più e bestemmiasse meno non facesti tu ghigliottinare suo fratello ma fu lo stesso aristide che lo denunziò non di meno è poco sicuro tenere simili uomini vicino a te è vero e rovespierre cavandosi di tasca il portafogli vi scrisse una nota lo ripose e continuò e che altro di italien nulla egli e le gendre lo sconosciuto passeggiarono nel giardino eguaglianza poi si divisero vidi italien rientrare in casa ma ho altre notizie tu mi incaricasti di scoprire gli autori delle lettere anonime che ti minacciavano gheren li hai scoperti li hai e il tiranno così parlando apriva e chiudeva i pugni come se afferrasse gli scrittori delle lettere ed una di quelle convulse smorfie simili all'insulto epilettico cui andava soggetto sformò il suo volto credo cittadino di averne trovato uno sai che fra i tuoi più acerrimi nemici va il pittore nicò aspetta aspetta disse rovespierre aprendo un libro manoscritto legato in marocchino rosso perché rovespierre era elegante preciso fino nelle sue liste di morte e ricorrendo ad un indice alfabetico nicò eccolo ateista san culotte odio i cenciosi amico di herbert ah v'è un nb renato dumas che conosce i suoi precedenti e i suoi delitti continua gheren cotesto nicò è sospetto di spargere libelli e caricature contro di te e del comitato l'altriere sera mentre era fuori di casa il portinaio mi introdusse nel suo alloggio contrada a bore paies con la mia chiave maestra aprì il tavolino allo scrittoio e vi trovai un disegno che ti rappresentava sotto la ghigliottina con queste parole carnefice del tuo paese leggi la sentenza del tuo gastigo io confrontai lo scritto coi frammenti delle varie lettere di nicò che mi hai date e il carattere è identico osserva rovespierre guardò sorrise e come se la sua vendetta fosse già pagata si rigettò sulla poltrona va bene temevo che fosse un nemico più potente urge che costui sia tosto arrestato e gli aspetta qui fuori io gli passai rasente salendo le scale replicò gheren davvero introducilo ma no ritirati nella stanza vicina finché ti richiami caro paian guarda se questo nicò non ha indosso armi nascoste paian il quale era altrettanto coraggioso quanto rovespierre posillanime represse un sorriso disprezzo che gli errava sul labbro ed uscì frattanto il tiranno con la testa inclinata sul petto rimaneva assorto in profondi pensieri la vita è una cosa triste o coton disse gli scusatemi ma credo peggiore la morte rispose gentilmente il filantropo rovespierre tacque e cavò dal suo portafoglio una lettera quella che fu in seguito pubblicata e che porta il numero 61 senza dubbio vi spiace di non avere ricevute da qualche tempo mie notizie non allarmatevi sapendo che non rispondo fuorché per mezzo del corriere ordinario e che essendo egli stato interrotto nell'ultima sua corsa questo è l'unico motivo del ritardo allorché vi giungerà questa mia fate tutta la diligenza di fuggire un teatro dal quale siete vicino a scomparire per l'ultima volta sarebbe inutile ricordarvi tutti i motivi che vi espongono al pericolo l'ultimo passo che vi collocherà sul seggio della presidenza vi guiderà altresì al patibolo e la plebe vi sputerà in viso come ha sputato su quelli che voi avete condannati appena quindi abbiate raccolta una somma sufficiente per vivere io vi aspetto con grande impazienza per ridere insieme della parte che rappresentaste nelle turbulenze di una nazione credula e avidissima di novità combinate la partenza come abbiamo tra noi disposto tutto è apparecchiato finisco perché il corriere aspetta io sto attendendo la vostra risposta il dittatore divorò meditabondo questa lettera e disse a se stesso no no colui che gustò il potere non può più godere il riposo o danton avevi ragione meglio essere un povero pescatore che governare gli uomini l'uscio si riaprì e paian ricomparve dicendo sottovoce a robespierre non va amore soddisfatto accenno al giacobino di guardia di condurli nicò questi entrò con un'espressione di arditezza sulla ributtante fisionomia rimanendo in piedi dinanzi a robespierre che lo esaminava con occhio scrutatore è rimarchevole che i principali attori della rivoluzione avevano un orrido aspetto colossale rozzezza in mirabù e danton villana ferocia in simone david cadaverico pallore in marà bilioso giallastro in robespierre ma questi che venne paragonato ad un gatto ne aveva pure anche la nettezza il suo abito pulito ed elegante la morbida carnagione il volto ben rasato la bianchezza delle sue mani quasi femminili rendevano vie più saliente la scomposta spavalderia caratteristica nel contegno e nel vestire del pittore san culotto adunque cittadino disse robespierre con dolcezza tu vorresti parlare con me conosco i tuoi meriti il tuo civismo furono troppo a lungo dimenticati mi chiedi qualche posto parla senza scrupoli virtuoso robespierre tu che rischiari l'universo io non vengo a chiederti un favore ma a rendere un servigio allo stato ho scoperta una corrispondenza che palesa una congiura gli agenti della quale non si sospettano ancora in così dire depose alcune carte sulla tavola robespierre le afferrò scorrendo le rapidamente con ansia bene bene mormorò fra sé ecco quanto mancava barrer le gandra sono già in mia mano camillo de smoulin era il loro zimbello e non l'altro io l'amavo una volta ma essi non li ho mai amati ti ringrazio cittadino nicot ma queste lettere sono dirette ad un inglese qual francese non sospetterà di codesti lupi britanni sotto la pelle d'agnello la francia ormai non ha più bisogno di cittadini del mondo la farsa ebbe termine con anacarsi clouz vi chiedo perdono cittadino nicot ma clouz e herbert erano vostri amici no rispose il pittore in tono d'apologia ma noi tutti siamo soggetti ad essere ingannati cessai di stimarli quando ti dichiarasti contro i medesimi perché rinnego i miei propri sensi anziché la tua giustizia sì io mi pregio di giustizia è la virtù di cui io mi do vanto disse Robespierre con dolcezza e con la sua indole tigresca gioì perfino in quel momento che combinava vasti piani dell'imminente pericolo della meditata vendetta e del piacere di schernire una vittima isolata la mia giustizia proseguì non sarà cieca più a lungo pei tuoi servigi buon nicot conosci tu questo glindon sì intimamente egli era amico mio ma io accuserei mio fratello ovegli fosse uno degli indulgenti non mi vergogno dirlo ho ricevuto alcuni favori da costui ah e tu professi la dottrina onesta che se un uomo mi insidia la vita tutti i riguardi personali devono porsi in oblio tutti buon cittadino gentile nicot favorisci di scrivermi l'indirizzo di questo glindon nicot si avvicinò allo scrittoio e già aveva in mano la penna quando ad un tratto un pensiero li traversò la mente e si arrestò imbarazzato e confuso scrivi dunque gentile nicot il pittore ubbidì lentamente quali sono le altre conoscenze di glindon stavo appunto per dirlo egli visita giornalmente una donna straniera la quale conosce ogni suo segreto affetta di essere povera e di nutrire il suo bambino a forza d'industria ma è la vedova ad un italiano immensamente ricco ne va a dubbio che sia fornita di denaro e ne usi a corrompere i cittadini fa dopo arrestare costei scrivi anche il suo nome non c'è tempo da perdere perché so che entrambi hanno deciso di fuggire questa notte da parigi il nostro governo è pronto buon nicot non temere e robespierre prese la carta scritta da nicot e osservandola aggiunse sorridendo scrivi tu sempre con la medesima mano cittadino questo pare un carattere contraffatto non mi piacerebbe che essi sapessero chi li denunziò rappresentante bene bene la tua virtù sarà premiata credilo a me salute e fratellanza così dicendo si alzò a metà e nicot si ritirò olà gridò il dittatore scuotendo il campanello e dal giacobino a corso alla chiamata seguita disse quest'uomo appena uscito da questa casa arrestalo e subito conducilo alla consiergerie aspetta niente di legale ecco il mandato l'accusatore pubblico avrà le mie istruzioni va presto il giacobino scomparve ogni traccia di malattia si era dileguata nel valetudinario rimase ritto in piedi con le fattezze contratte e le braccia tese qua a geren la spia rientrò prendi questi indirizzi che fra un'ora l'inglese e la donna siano in prigione le loro rivelazioni mi premoniranno dei più temibili nemici essi morranno insieme a tutti gli altri dopodomani dieci termi d'oro prendi ecco il tuo mandato e lo scrisse in fretta ora kuton paian non indugeremo più oltre con talien e la sua ciurma sono avvertito che la convenzione non aspetterà la festa del dieci termi d'oro e noi dobbiamo affidarci soltanto alla spada della legge io devo riordinare i miei pensieri preparare la mia ringa domani ricomparirò la convenzione domani sen giusta ci raggiunge reduce dalle nostre vittoriose armate ed io dalla tribuna scaglierò il fulmine sui nemici mascherati della francia domani chiederò in faccia alla nazione le teste dei cospiratori capitolo ottavo contro te d'ogni parte volto il brando la harp giovanna di napoli mentre accadeva la scena da noi descritta glindo dopo un lungo colloquio con c in cui aveva combinato i preparativi finali che levavano ogni ostacolo alla fuga ritornava presso fillide improvvisamente in mezzo ai suoi giulivi pensieri gli sembrò che una voce troppo bene e in modo terribile a lui nota gli sussurrasse all'orecchio che vorresti sfidarmi a fuggire vorresti retrocedere alla virtù e alla gioia ad un tempo in vano è troppo tardi no io ti starò a fianco umani passi non meno inesorabili ora ti perseguitano tu non mi rivedrai fino in carcere a mezzanotte prima del tuo supplizio osserva glindon volgendo macchinalmente la testa vide dietro di sé un uomo di gigantesca statura che aveva scorto poc'anzi ma senza badarvi passargli e ripassarli vicino allorché uscì dalla casa del cittadino c subito per istinto conobbe di essere sorvegliato e inseguito la strada in cui si trovava era oscura e deserta per il caldo oppressivo della stagione e l'ora meridiana in cui pochi uscivano di casa per affari o per sollazzo per quanto glindon fosse coraggioso un brivido gelato gli strinse il cuore conoscendo troppo bene il tremendo regime in vigore a parigi per non accorgersi del pericolo che lo minacciava il terrore che produce la prima vittima in una pestilenza lo faceva in quell'epoca della rivoluzione la vista ad una spia che significava arresto condanna ghigliottina consueti e rapidi passi del mostro che gli anarchisti ardivano chiamare la legge glindon respirando affannoso udiva i battiti del proprio cuore si fermò immobile guardando lo spione che si fermò egli pure dietro a lui per il momento la solitudine della strada il non aver colui aiuto di camerata rianimarono il suo coraggio fece un passo verso l'inseguente il quale si ritrasse cittadino tu mi segui disse e per qual motivo certamente rispose l'altro con sprezzante sorriso le strade sono larghe abbastanza per ambe due tu non sei già si cattivo repubblicano ad arrogarti per te solo tutto parigi va dunque innanzi io ti seguirò lo sconosciuto si inchinò si levò garbatamente il cappello e lo precedette un istante dopo glindon si internò in un tortuoso viottolo fuggendo a corsa in un labirinto di strade di passaggi di viali poco a poco si calmò e guardandosi indietro credette di aver deluso il suo persecutore allora con un lungo circuito riprese la via per la sua abitazione mentre riusciva in una larga contrada un passeggero ravvolto nel mantello passandogli rasente con tale rapidità che non ebbe tempo di guardarlo gli mormorò clarence glindon siete spiato seguitemi e lo straniero lo oltrepassò rapidamente glindon si rivolse e rabbrividì al vedersi ancora alle calcania col medesimo sorriso servile la spia alla quale immaginava ad essersi sottratto egli dimenticò l'ingiunzione dello straniero di seguitarlo e scorgendo un gruppo di gente innanzi una bottega di caricature vi si frammischiò ed entrando in un'altra contrada cangiò la primitiva direzione e dopo una lunga corsa a perdita di fiato giunse senza aver più veduta la spia in un remoto quartiere della città là tutto sembrava tranquillo e sereno e l'occhio del pittore se ne compiacque anche nel frangente in cui si trovava era un largo spazio di uno dei più nobili que la senna scorreva maestosamente lunghesso barche reti apparivano sulla sua superficie il sole indorava migliaia di guglia e di cupole e rifletteva i suoi raggi sui bianchi palazzi della caduta nobiltà glindon stanco e ansante fessosta un minuto e la brezza della riviera rinfrescò la sua fronte sudata qui almeno mormorò sono in salvo ma in così dire vide lungi una trentina di passi la spia rimase come inchiodato al terreno stanco come era diventava impossibile fuggire da un lato il fiume senza alcun ponte vicino dall'altro una lunga fila di case tutte chiuse mentre stava irresoluto udì risa e oscene canzoni da una casa posta fra lui e la spia era un caffè conosciuto con terrore nel quartiere e nel quale spesso si riunivano i soldati di henriot gli sgherri e gli usceri di robespierre perciò la spia aveva data la caccia alla sua vittima fino sotto le zanne della muta sinoltrò ad agio e fermandosi innanzi l'aperta finestra del caffè vi introdusse la testa per chiamare i suoi armati compagni nell'istante medesimo che la spia teneva a lui rivolte le spalle glindon scorse sull'uscio semichiuso d'una casa rimpetto l'incognito che l'aveva poc'anzi avvisato il suo volto era appena discernibile per il mantello che lo copriva gli feccenno e gli entrò senza far rumore l'uscio si richiuse e l'inseguito non potendo ormai più trarre il respiro seguitò l'incognito sopra un'ampia scala e per una lunga fila di vuote stanze finché riuscito in un piccolo gabinetto il suo conduttore si tolse il largo cappello e il mantello che celava la persona e il volto glindon riconobbe zanone capitolo nono ne in virtù fatte sondaggio li stigi l'opere mie meravigliose e conte tolga dio così note o su fumigi per isforzar cocito e flegetonte ma spiando men voda lor vestigi quale in sé virtù cieli o l'erba o il fonte e gli altri arcani di natura ignoti contemplo e delle stelle i vari moti tasso gerusalemme liberata qui sei in salvo giovane inglese disse zanoni additando a glindon una scranna fortunato che al fine ti raggiunsi più fortunato se non ci fossimo già mai incontrati pure anche in quest'ora suprema io godo fissare di nuovo in volto il fatale misterioso essere qui devo attribuire tutti i patimenti che ho sofferti qui adunque tu non mi ingannerai più oltre qui avanti di separarci spiegherai lo scuro enigma se non della tua della mia propria vita hai tu sofferto povero neofita rispose zanoni pietosamente sì lo scorgo sulla tua fronte ma perché vuoi darne a me la colpa non ti ammonii forse di stare in guardia non ti dissi che l'iniziazione era un rischio spaventevole non ti offersi di cederti un cuore abbastanza nobile per rendere felice me stesso non scegliesti tu spontaneamente di tentare l'iniziazione con libera volontà non scegliesti meshnur a maestro seguendo nei precetti ma a donde provennero rispose glindon i desideri irresistibili di una cognizione fantastica irreligiosa io non li provai finché il tuo malocchio non cadde su me attraendomi nel magico cerchio della tua esistenza ti inganni quei desideri esistevano in te e in un modo nell'altro si sarebbero fatto strada uomo tu mi domandi l'enigma del mio destino e del tuo guarda intorno su tutto ciò che esiste non avvi mistero dovunque può l'occhio tuo seguire il crescere del grano nel terreno nel mondo morale al pari che nel fisico vi sono oscuri poteri assai più meravigliosi di quelli che tu mi attribuisci li neghi tu codesti poteri ti confessi un impostore ovvero ardisci dirmi che sei veramente venduto allo spirito maligno negromante i demoni a te soggetti mi tormentano giorno e notte non importa qual io mi sia rispose zanoni importa soltanto che io possa aiutarti a scongiurare l'orrendo fantasma e ricolocarti nell'aria salubre della vita comune non di meno qualche cosa ti paleserò non per giustificare me stesso ma il cielo e la natura che offendi coi tuoi dubbi zanoni fe pausa un momento e ripigliò con lieve sorriso nella tua giovinezza avrai certamente letto con piacere il grande poeta cristiano la cui musa emerse somigliante all'aurora da lui cantata ella intanto s'adorna e laurea testa di rose colte in paradiso e in fiora tasso gerusalemme liberata nessun uomo ebbe più di lui imbevuta la mente delle cavalleresche superstizioni dell'età sua e certo il cantore della gerusalemme odiava quanto poteva esigerlo ogni inquisitore i fattucchieri che adoperavano inique arti per risforzar cocito e flegetonte però in mezzo alle sue sciagure imprigionato come demente torquato trovò sollievo nella cognizione di una santa e spirituale teurgia d'una magia evocatrice degli angeli e dei geni benefici non già dei demoni non rammenti che egli profondamente versato come era per l'epoca sua nei misteri del più nobile platonismo il quale tramandò i segreti di tutte le confraternite dai caldei fino ai rosa croce fa distinzione nei sublimi suoi versi tra la negra arte di smeno e la gloriosa saggezza dell'incantatore che guida tra i loro errori i crociati di palestina le sue non sono malie operate con l'aiuto degli spiriti ribelli ma invece la conoscenza dei segreti poteri che ha il fonte e l'erba gli arcani di una sconosciuta natura e il vario roteare degli astri abitava egli le sante cime del libano e del carmelo vedendo ai suoi piedi le nubi le nevi l'arcobaleno variopinto piogge e rugiate l'eremita cristiano il quale convertì l'incantatore non un ente favoloso ma il tipo di tutti gli uomini che aspirano di innalzarsi a dio per mezzo della natura gli comandò forse di abbandonare i suoi sublimi studi le solite arti e l'uso mio primiero non già ma invece gli fe precetto di coltivarli indirizzandoli a santo scopo in questo grandioso concepimento del poeta sta il segreto della vera teorgia che colpisce la vostra ignoranza di puerile spavento e con gli incubi che opprimono in sogno il malato zanoni fece un'altra pausa indi ripigliò in età remotissime d'una civiltà fatto diversa dall'attuale che unisce l'individuo allo stato vissero uomini d'anima ardente accesi d'intenso desiderio di sapere nei regni potenti ove si abitavano non vi erano turbolenze civili e cure terrene per dar sfogo alla febbre dell'anima loro collocati nelle antiche divisioni di caste fuori delle quali né l'intelletto poteva spingerli né il valore farsi strada la sete del sapere regnava unicamente nel cuore di quelli che di padre in figlio si applicavano allo studio la onde anche nelle imperfette vostre tradizioni sui progressi dell'umano sapere trovate che nelle età primitive la filosofia non discendeva sino agli affari e dalle domestiche cure e la spaziava fra le meraviglie del creato analizzava la formazione della materia le facoltà dell'anima leggeva i misteri dei pianeti si tuffava nelle profondità della natura in cui si narra dagli scolastici che zoroastro per primo scoprisse quelle arti che l'ignoranza vostra classifica fra le magiche in quella età adunque sorsero uomini i quali fra le vanità e le illusioni della loro casta immaginarono d'aver scoperto raggi di una più lucida e sicura sapienza i medesimi sospettarono esistere un vincolo di affinità fra tutte le opere della natura e che nelle più umili vi fosse la segreta attrazione che li potesse innalzare alle più sublimi secoli e secoli trascorsero e molte vite furono consumate in tali scoperte ma ogni passo venne registrato e servì a guidare i pochi che soli per ereditario privilegio potevano battere quella via finalmente la luce risplendette fra l'oscurità agli occhi di alcuni ma non credere giovane visionario che brillasse a coloro che nutrivano colpevoli pensieri su cui lo spirito del male ha dominio allora fu concessa come oggi di soltanto alle più pure estasi della fantasia e dell'intelletto non distratti dalle cure d'una vita volgare e dagli appetiti carnali ben lungi dal cercare l'assistenza ad un demonio essi avevano la sublime ambizione di avvicinarsi il più possibile alla sorgente del bene più si emancipavano dal limbo terrestre e più li penetrava lo splendore e la magnificenza di dio se quegli antichi savi da ultimo scopersero come allo spirito si rendano manifeste le più sottili modificazioni dell'essere e della materia se scopersero come per l'ali dello spirito possa annichilirsi ogni spazio e mentre il corpo rimane immobile sulla terra come un vuoto sepolcro la mente libera possa vagare di stella in stella se tali scoperte divennero loro familiari qual sublime risultamento del sapere ciò accadde soltanto a forza di meravigliare venerare adorare un filosofo non affatto inconscio di questi alti misteri lo espresse dicendo esiste un principio dell'anima superiore a tutta la natura esterna per mezzo di questo principio noi siamo capaci di sorpassare l'ordine e i sistemi del mondo partecipando alla vita immortale e dall'energia degli esseri celestiali allorché l'anima è sublimata a nature superiori ed ella esce da quell'ordine di cose cui è avvinta e per una religiosa attrazione viene attirata in un ordine più elevato col quale si immedesima e si mescola giamblico posto adunque che codesti uomini scoprirono il segreto di arrestare la morte di affascinare il nemico evitare il pericolo e traversare in columi le rivoluzioni del globo pensi tu che una tale esistenza ispirasse loro altro desiderio fuorché di affannarsi vie più per l'immortalità migliorando sempre il proprio intelletto per la più sublime esistenza in cui sarebbero trasferiti allorquando più non esisteranno il tempo e la morte sgombra le tue negre fantasie di negromanti e demoni l'anima può aspirare soltanto alla luce e lo scoglio del nostro trascendentale sapere consiste nel dimenticarci che vi sono nell'uomo debolezze passioni e vincoli che la sola morte da noi in vano domata può sgombrare questo discorso riuscì così inaspettato a glindon che lo rese muto per alcuni minuti al fine balbettò ma perché dunque io perché l'interruppe zanoni tu provasti solamente l'angoscia e il terrore del fantasma custode del limitare uomo vanaglorioso osserve più comuni elementi del sapere ordinario può uno scolaro diventare maestro per mera volontà e desiderio può uno studente che imparò euclide diventare un newton e il giovane che coltiva le muse può dire io sarò uguale ad omero può il tiranno con tutto il sussidio delle leggi e dei sistemi concretare un regime di governo meno vizioso di quello che la più sfrenata plebe rigetterebbe allorché nelle età remote di cui ti favellai lo studioso aspirava ad alture dove tu pretendesti giungere d'un balzo e li veniva educato fin dalla culla per la carriera che doveva battere la natura interiore e l'esterna venivano rischiarate agli occhi di lui anno per anno fino al giorno in cui le si appalesavano egli non era messo all'iniziazione pratica finché un solo desiderio terreno incatenava le più sublimi facoltà che voi chiamate immaginazione finché un desiderio carnale oscurava l'essenza penetrante che voi chiamate intelletto ed anche allora o come pochi raggiunsero l'ultimo mistero più felici perché pervennero prima alle sante glorie cui introduce la morte zanoni tacque ed una specie di cordoglio oscurò la sua celestiale bellezza e vi sono altri oltre tu e mechnur che possiedono tali attributi e scoprirono tali segreti altri ve ne furono avanti noi ma ora noi due soli rimanemmo sulla terra impostore ti sei tradito se essi avevano vinta la morte perché non vivono ancora figlio d'un giorno rispose tristemente zanoni non ti dissi che lo scoglio del nostro sapere consiste nel dimenticarsi che lo spirito non può mai domare del tutto i desideri e le passioni finché è unito col corpo pensi tu che non sia doloroso il fargetto di tutti i vincoli umani dell'amicizia e dell'amore e vederli un giorno dopo l'altro avvizzire per noi come il fiore sullo stelo e ti meraviglierai che col potere di stare in vita finché duri il mondo noi talvolta dopo una lunghissima esistenza anteponiamo il morire meravigliati piuttosto che vi siano ancora due che sono rimasti così a lungo sulla terra per me lo confesso la terra mi innamora ancora avendo raggiunto il gran segreto nel fiore della mia giovinezza essa colorisce sempre ogni cosa a me d'intorno con la sua lussureggiante beltà la onde per me vivere e gioire l'aspetto della natura non ha perduto la sua freschezza ne avvi erba nella quale io non discopra pregi novelli sconosciute meraviglie la gioventù produsse i suoi effetti su me l'età matura su majnur egli ti dirà che per lui la vita consiste nel potere di indagare e che fin quando non abbia esauriti tutti i portenti che il creatore sparse sulla terra egli non sentirà desiderio dei novelli abitacoli che le anime vanno ad esplorare dopo la morte noi siamo i tipi delle due essenze che mai non periscono l'arte che gioisce e la scienza che contempla ed ora che ti puoi rallegrare di non aver raggiunti i nostri segreti sappi che quanto più l'intelletto si stacca da tutto ciò che forma l'occupazione e il diletto degli uomini tanto più deve separarsi da ogni oggetto ispiratore di amore o di odio sappi che il nostro potere non profitta all'ambizioso all'innamorato al vendicativo io finalmente avvinto ed accecato dai più comuni vincoli di famiglia io senza aiuto e fra le tenebre ti scongiuro di essermi guida dove sono mia moglie e mio figlio o dillo parla silenzioso ah tu conosci ora che io non sono un negromante un nemico io non posso darti quello che le tue facoltà ti negano né compiere l'iniziazione che lo spassionato majnur tentò in vano ma posso offrirti un dono migliore forse il migliore di tutti riconciliandoti col mondo attuale e metter pace fra te e la tua coscienza lo prometti sì per le care loro vite glindon fissò zanoni credette e mormorò l'indirizzo della casa ove la sua fatale presenza aveva portato sventura all'infelice viola sì benedetto esclamò zanoni con enfasi e tu sarai benedetto come non sai che sul limitare di tutti i gran mondi abita la razza che intimidisce e spaventa colui che nel mondo in cui vivi abbandona le vecchie abitudini le consuete norme di vita non prova egli forse un terrore che non sa definire per ogni dove intorno a te fra gli uomini che aspirano e lavorano nel gabinetto del saggio nel concilio del demagogo nel campo del guerriero s'aggira benché essi non vedano l'inesprimibile orrore ma la larva è visibile soltanto colà dove ti avventurasti e giammai cesserà dall'assediarti finché tu non entri nell'infinito come un serafino o non ritorni alla vita mortale come un bambino ora rispondimi allorché tentando a consentire a qualche placido impulso virtuoso la larva ti appariva d'improvviso al fianco quando il suo sibilo ti spingeva alla disperazione quando le orribili sue occhiaie ti spingevano fra le scene di riprovevoli e pazze gozzoviglie in cui mai compariva lasciandoti fra nemici di esso più fatali all'anima o dimmi non hai tu in simili incontri resistito coraggiosamente alla larva e al tuo proprio terrore non dicesti mai avvenga che può mi voglio tener saldo alla virtù ahimè rispose clinton soltanto da poco ardi farlo e tu provasti che la larva si faceva meno cupa e scemava il poter suo è vero rallegrati dunque tu superasti il vero terrore il mistero dell'iniziazione risolversi è il primo passo rallegrati che l'esorcismo è sicuro tu non sei di quelli che negando una vita futura sono vittime dell'inesorabile orrore o quando gli uomini impareranno una volta che se la religione inculca tanto rigidamente la necessità della fede è soltanto perché la fede guida al mondo futuro ma senza di essa non va bene anche nel presente perché ella è qualche cosa di più saggio di più divino di tutto ciò che noi scorgiamo sulla terra ritorno vagante ritorna senti quale bellezza e santità esista nel modo usuale di vivere la larva si allontani da te e calmo con cuore infantile sorridi nuovamente il cielo azzurro con le sue notti e gli astri mattutini come un tempo risplenda i tuoi occhi raggiante del duplice lume della memoria e della speranza così favellando zanoni impose la mano sulle infuocate tempie del suo attonito ascoltatore una specie di estasi si indonnò di lui all'istante gli pareva di essere tornato fanciullo e trovarsi nella stanzuccia dove la madre vegliava e pregava sovresso addormentato la solitaria scena gli divenne visibile quasi palpabile nell'angolo il letticciuolo lungo la parete scaffali pieni di libri devoti lo stesso cavalletto dove si sforzava un tempo di tradurre sulla tela il proprio idealismo coperto di polvere spezzato dalla finestra si scorgeva il vecchio cimitero con gli alberi verdeggianti e illuminati dal sole e gli vide la tomba in cui riposavano uniti i suoi genitori e il campanile che si innalza verso il cielo simbolo delle speranze di coloro il cui corpo tornò in polvere gli risuonavano all'orecchio le campane come nei dì festivi lungi svanirono tutte le apparizioni angosciose e spaventevoli che lo avevano cotanto martoriato gioventù infanzia fanciullezza rivissero per lui coi loro innocenti desideri e le loro speranze e gli parve di inginocchiarsi a pregare si risvegliò bagnato di lacrime deliziose e sentì che la larva era sparita per sempre si guardò intorno zanoni era partito ma sulla tavola trovò una lettera di cui l'inchiostro non era ancora asciutto io troverò modo per la tua fuga al cadere della notte quando batteranno le nove una barca ti aspetterà sul fiume che scorre qui innanzi il battegliere ti guiderà in un ritiro dove puoi rimanere al sicuro finché il regno del terrore vicino al suo termine sia caduto non pensare più oltre all'amore sensuale che adesca e per poco non ti perdette ti tradiva e t'avrebbe condotto al supplizio ritornerai salvo in inghilterra lunghi anni ti sono accordati per meditare sul passato e redimerlo quanto al tuo avvenire sia il tuo sogno la tua guida e le tue lacrime il tuo battesimo glindon obbedì alle ingiunzioni della lettera e le sperimentò veritiere capitolo decimo perché ammiri il cangiar del corpo mio che si va trasmutando in tante forme properzio zanoni a mechnur viola si trova in una delle loro inesorabili prigioni per ordine di robespierre e glindon ne è la causa conseguenza della terribile connessione dei loro destini che io non giungo a schiarire ma cheppure avviluppa glindon nella stessa oscurità che circonda viola la prigione è la porta del sepolcro il giudizio e l'inevitabile esecuzione che vi tiene dietro avrà luogo fra tre giorni il tiranno stabilì il suo piano di strage per il dieci termi d'oro mentre il supplizio di innocenti vittime colpirà di spavento parigi i suoi satelliti trucideranno quelli che gli sono nemici una sola speranza rimane che il mio potere il quale oramo prime possa non di meno rendermi strumento della più sollecita caduta del tiranno ma non restano che due giorni ricco come son io di tempo posso disporre soltanto di due giorni d'ogni intorno tutto è solitudine e oscurità posso ancora salvarla il tiranno cadrà il giorno precedente a quello da lui fissato per la strage per la prima volta io mi frammischio negli stratagemmi degli uomini e il mio intelletto spinto dalla disperazione s'apparecchio alla lotta la folla circondava nella contrada santonore un giovinotto arrestato per ordine di robespierre era conosciuto per un servo di italien il capo ostile nella convenzione che il tiranno paventava attaccare questo accidente produsse maggiore agitazione che d'ordinario non suscitassero gli arresti così frequenti durante il regno del terrore tra la folla vi erano molti amici di italien molti nemici di robespierre altri parecchi stanchi che la tigre gettasse vittime e sopravvittime nella sua caverna sudirono bestemmie e un mormorio di cattivo augurio occhi feroci si volgevano alle guardie che stringevano l'arrestato e quantunque non si ardisse ancora a fare un'aperta resistenza coloro che si trovavano indietro spingevano gli altri in modo da impedire il passo alle guardie al prigioniero questi faceva ogni sforzo per sottrarsi e con un violento urto si liberò la folla si aprì e tosto si richiuse per proteggerne la fuga improvvisamente sudì vicino lo scalpitare di cavalli il selvaggio enriò e i suoi sgherri si precipitarono addosso alla folla che fuggì spaurita l'arrestato stava per essere di nuovo preso dai partigiani del dittatore in quel momento una voce gli sussurrò l'orecchio tu hai una lettera se la trovano non c'è più speranza per te dammela la porterò io a taglien il giovinotto si volse sbalordito e lesse un incoraggiamento negli occhi dello straniero gli sgherri di enriò erano a pochi passi il giacobino che aveva ripreso l'arrestato lo abbandonò un minuto per non cadere sotto le zampe dei loro cavalli quel minuto bastò l'incognito scomparve portando con sé la lettera i principali nemici del tiranno erano riuniti in casa di taglien il comune pericolo li stringeva tra loro e tutte le fazioni deposero per il momento le inimicizie per unirsi contro l'uomo formidabile che si inoltrava verso il suo trono insanguinato calpestando tutti i partiti l'avi era il forte lequantre nemico palese l'alo strisciante barrer eroi dei vigliacchi che avrebbe voluto conciliare gli estremi barrà pacato e riflessivo coglie d'erbois spirante rabbia e vendetta senza vedersi che soltanto i delitti di robespierre offuscavano i suoi il consesso era agitato e irresoluto perché la maggior parte degli intervenuti sentiva lo spavento per la prodigiosa energia di robespierre e la sua continua fortuna taglien il più temuto dal tiranno e il solo che potesse dar corpo e direzione a tante passioni cozzanti era troppo triste per la ricordanza delle crudeltà da lui medesimo commesse per non sentirsi imbarazzato dimostrarsi ora campione del perdono è vero disse egli dopo un animato discorso di lequantre è vero che l'usurpatore minaccia noi tutti ma egli è tuttora così amato dalla sua ciurmaglia così sostenuto dai suoi giacobini che sarebbe meglio procrastinare le ostilità fino ad un momento più propizio tentare non riuscire è come andare mani e piedi legati alla ghigliottina ogni giorno va scemando il potere di robespierre quindi il meglio che far possiamo è di indugiare parlava ancora producendo l'effetto che fa l'acqua sul fuoco allorché venne annunziato uno straniero il quale chiedeva di vederlo senza ritardo per affare urgente non ho tempo disse con impazienza ma il servo avendo posto un biglietto sullo scrittoio taglien vi lesse questa frase scritta con la matita dal carcere di teresa di fontenè impallidendo balzò in piedi e corse nell'anticamera dove trovò un uomo che gli era affatto sconosciuto speranza della francia disse il visitatore e il timbro della sua voce scendeva direttamente al cuore il vostro servo fu arrestato in strada io ho salvata la vostra vita e quella della donna che vi sarà moglie col portarvi questa lettera di teresa di fontenè taglien con mano tremante l'aprì e lesse e dovrò io ancora implorarti in vano lo ripeto non perdere un'ora se ti cale la mia e la tua vita il mio processo e la mia morte avranno luogo fra tre giorni il dieci termi d'oro colpisci finché v'è ancor tempo colpisci il mostro due giorni ti rimangono se indugi o se va fallita l'impresa guardami per l'ultima volta quando passerò sotto le tue finestre per andare alla ghigliottina il processo di teresa fornirà prove contro di te disse l'incognito e la sua morte è annunciatrice della tua non temere la plebaglia la quale già voleva liberare il tuo servo non temere robespierre che si pone da sé nelle tue mani domani egli si reca la convenzione e tu devi arrischiare con un ultimo colpo la tua testa o la sua domani egli si reca la convenzione e chi sei tu da conoscere tanto bene ciò che io ignoro un uomo che vorrebbe salvare al pari di te una donna amata prima che talien si riavesse dalla sorpresa il visitatore era scomparso talien ritornò in sala agitatissimo gridando ebbi ulteriori notizie non importa quali esse cambiano i miei progetti domani l'altro dieci termi d'oro siamo destinati alla ghigliottina tronco quindi ogni indugio robespierre mattina viene alla convenzione là dobbiamo assalirlo e schiacciarlo dall'alto della montagna lo spaventerà l'ombra minacciosa di danton dal piano salzeranno gli spettri sanguinolenti di vergnò e di condorsè si colpisca si colpisca gridò barrer cui l'inaspettato ardimento del suo collega aveva infuso energia si colpisca non vi sono che i morti che non ritornano è rimarchevole e il fatto si trova nelle memorie dell'epoca che durante il giorno 7 termi d'oro e la notte successiva un individuo estraneo a tutti gli avvenimenti anteriori a quel tempestoso periodo fu veduto in vari quartieri di parigi nei caffè nei club nei convegni delle diverse fazioni e che con meraviglia e spavento degli ascoltatori favellava ad alta voce dei delitti di robespierre predicando nella imminente caduta le parole di lui infiammavano i cuori sgombravano il timore infondendo rabbia e d'ardire ma il più sorprendente fu che nemmeno una sola voce e nemmeno una sola mano salzò con tresso che nemmeno uno solo degli sgherri del tiranno gridò arrestate il traditore in una simile impunità tutti lessero come in un libro che la plebaglia aveva abbandonato il sanguinario dittatore vi fu soltanto un feroce spavaldo giacobino il quale balzando dal descove sedeva tracannando si avvicinò all'incognito gridando io ti arresto in nome della repubblica cittadino aristide rispose lo straniero sottovoce robespierre è fuori di casa va nelle sue stanze e nella tasca sinistra del suo abito che svestì da un'ora troverai una carta letta che l'abbi ritorna qui io ti aspetterò e se vorrai arrestarmi ti seguirò senza contrasto guarda queste facce minacciose toccami adesso e ti faranno in pezzi il giacobino si sentì forzato ad ubbidire contro voglia uscì brontolando al suo ritorno lo straniero vera ancora mille fulmini gridò io ti ringrazio il poltrone aveva scritto il mio nome sulla lista della ghigliottina così dicendo il cittadino aristide balzò in piedi sul desco orlando morte al tiranno capitolo undicesimo l'indomani nove termi d'oro robespierre si decise a pronunziare il suo famoso discorso tier storia della rivoluzione spuntava l'alba dell'otto termi d'oro 26 luglio e robespierre si avviava la convenzione col suo elaborato discorso con le sue frasi di filantropia e virtù per marcare le sue vittime tutti di lui agenti stavano pronti a riceverlo il fiero saint just era arrivato dall'esercito per secondarne il coraggio ed infiammare l'ira la fatale sua apparizione preparava l'uditorio ad una crisi cittadini gridò con stridula voce robespierre altri offrirono a voi singhieri quadri io vengo ad annunziarvi utili verità ed essi imputano a me a me solo quanto si commette di tristo e di cattivo è robespierre che lo vuole che l'ordina avvi una nuova imposta è robespierre che vi rovina essi mi chiamano tiranno e perché perché io acquistai qualche influenza ma in che modo parlando il vero e chi ardisce pretendere che la verità sia senza forza nella bocca di un rappresentante del popolo francese la verità senza dubbio in sé potenza ira dispotismo e accenti commoventi è terribile del pari quando risuona in un cuor puro come in una coscienza colpevole un potere che la falsità non può raggiungere più che salomone non potesse imitare i fulmini del cielo chi sono io che si accusano uno schiavo della libertà un martire vivente della repubblica un uomo nemico e vittima del delitto tutti i ribaldi mi affrontano ed azioni legittime agli altri sono delitti per me basta che uno mi conosca per calunniarmi toglietemi il sentimento della mia coscienza e sarei il più miserabile degli uomini fece una pausa cuton si asciugò gli occhi saint just lasciò sfuggire un mormorio d'applauso girando fieramente lo sguardo sulla ribelle montagna un cupo silenzio di morte regnava nell'assemblea i sentimenti patetici di robespierre non vi trovavano eco l'oratore volse gli occhi all'ingiro o saprà bene egli scuotere quella patia e continuò il discorso non più commiserando ma lodando se stesso e gli denunzia e accusa e vomita il suo traboccante veleno sulle finanze sulla guerra su tutto con voce divenuta più aspra grida esiste una cospirazione contro la pubblica libertà e trae forza da un colpevole partito che si trova in seno della convenzione medesima vi sono complici anche nel comitato di salute pubblica qual rimedio a tanto male punire i traditori purgare il comitato schiacciare tutte le fazioni col peso dell'autorità nazionale e sopra le loro rovine innalzare il potere della libertà e della giustizia tali sono i principi di questa riforma e sarò chiamato ambizioso io che li professo dunque sono proscritti fra noi principi e regna la tirannia che avete voi da obiettare ad un uomo che è nel suo diritto e sa almeno come morire per la sua patria io sono fatto per combattere il delitto e non per dirigerlo ahimè non è ancora giunto il tempo in cui gli uomini di merito possano servire impunemente il loro paese finché governano gli schiavi non saranno proscritti che i soli difensori della libertà robespierre continuò per due ore il suo discorso foriero di morte in mezzo a quella fredda e tacita assemblea lo incominciò e lo finì tra un silenzio generale i nemici di lui erano troppo atterriti per esprimere il risentimento d'altronde non travedevano ancora da qual lato inclinasse la bilancia del potere i fautori di lui titubavano essi pure d'applaudirlo che non conoscevano quali dei loro parenti o d'amici fossero implicati nelle accuse bada si sussurravano l'un l'altro all'orecchio bada ora vuol parlare di te la silenziosa udienza era soggiogata essendovi pur sempre intorno a quell'uomo terribile la magia ad una prepotente volontà robespierre era franco parlatore benché dir non si potesse oratore facondo e le sue parole parevano altrettante sentenze pronunziate da lui che mover poteva con un cenno alle truppe di henriot e dettare i giudizi di renato di umà arcigno presidente del tribunale rivoluzionario le quantre di versailles si alzò e vi fu movimento di ansiosa curiosità perché le quantre era uno dei più fieri nemici del tiranno ma quale fu lo sbigottimento del partito di italien e il compiacente sorriso di cuton quando le quantre domandò solo che il discorso venisse stampato parve che tutti fossero paralizzati infine bourdon de l'oise il cui nome era certo iscritto sulla lista del dittatore salì la tribuna e provocò un'ardita opposizione che il discorso venisse trasmesso ai due comitati che erano nel discorso medesimo posti in stato d'accusa pure i cospiratori non l'applaudirono e rimasero seduti come uomini agghiadati il corrugato barrer sempre cauteloso si guardò intorno e alzandosi andò a sedere vicino alle quantre allora cuton afferrando l'occasione tentò dalla sua seggiola privilegio conceduto soltanto al paralitico filantropo convertire la crisi in trionfo con la melodiosa sua voce chiese e non solo che il discorso fosse stampato ma che si spedisse a tutti i comuni e a tutte le armate era necessario diceva calmare un cuore esulcerato i più fedeli deputati erano stati accusati di sparger sangue ah se egli avesse contribuito alla morte di un innocente morrebbe subito di dolore bella tenerezza mentre così parlava si stringeva al seno il suo cagnolino bravo cuton robespierre trionfa il regno del terrore durerà e l'assemblea ancora sommessa come una colomba vota la stampa del discorso e l'invio a tutte le municipalità taglien dai banchi della montagna allarmato impaziente sdegnoso si volge al luogo dove gli stranieri sono ammessi ai dibattimenti e scontra gli occhi dell'incognito che il giorno prima gli recò la lettera di teresa di fontenè quegli occhi lo affascinavano e confessò molto tempo dopo che lo sguardo immobile il quale lo rimproverava e lo incoraggiava infuse in lui novella gagliardia parlandogli al cuore come la tromba al destriero di guerra si tolse dal suo posto parlò sottovoce ai suoi compagni e trasfuse in essi il proprio coraggio gli uomini che robespierre aveva specialmente accusati e che vedevano la spada pendere sulla loro testa si risvegliarono dal torpido silenzio vadier cambon bijo varan panì amar balzarono in piedi chiedendo tutti la parola vadier parlò il primo gli altri in seguito la montagna eruttò i suoi fuochi la sua lava divoratrice una folla di ciceroni si precipitò sopra l'atterrito catilina robespierre si smarrisce tituba vorrebbe modificare ritrattare il suo discorso gli altri prendono nuovo coraggio per quel timore e alzando la voce domandano che sia rigettata la proposta amar insiste che venga rimessa ai comitati nemici del dittatore in tutta la sala confusione e grida robespierre si tiene in silenzioso e superbo disprezzo pallido sconfitto ma non vinto egli è come l'uragano nell'infuriare della tempesta la mozione di amar è approvata e tutti prevedono la caduta del dittatore un grido isolato prorompe dalle gallerie e viene ripetuto per tutta la sala abbasso il tiranno viva la repubblica capitolo dodicesimo con un corpo tanto avvilito quale era la convenzione rimanevano alcune probabilità a robespierre di uscir vincitore del conflitto la gretel storia della rivoluzione robespierre uscendo dalla sala fu ricevuto dalla moltitudine con un silenzio di cattivo augurio il popolo in ogni paese si mette dalla parte dei vincenti i sorci fuggono dalla torre crollante ma il dittatore che mancava di coraggio non mancava mai d'orgoglio il quale spesso tiene luogo di quello impensierito e con impenetrabile cipiglio attraversò la folla accennando a saint just a paian e a suo fratello di tenerli dietro giunti che furono a largo robespierre ruppe ad un tratto il silenzio quante teste dovevano cadere il 10 80 rispose paian ah non dobbiamo indugiare si a lungo un giorno può perdere un impero il terrorismo può giovarci tuttora fe pausa avvolgendo gli occhi sospettosi per la strada saint just continuò di slancio essi non rinvennero quell'inglese le cui rivelazioni o il cui giudizio avrebbero avviliti amar e talien no no i miei stessi giacobini diventano ciechi e stupidi pure hanno arrestata una donna la mano di una donna pugnalò marat disse saint just robespierre si fermò respirando a fatica saint just disse gli passato che sia questo pericolo noi fonderemo il regno della pace vi saranno abitazioni e giardini destinati per i vecchi e david già sta disegnando nei porticati uomini virtuosi saranno preposti all'educazione dei giovani ogni vizio e disordine verrà non sterminato ma soltanto espulso noi non dobbiamo morire adesso che la posterità non può giudicarci fin tanto che l'opera nostra sia compiuta abbiamo richiamato l'ente supremo ora e dopo rimodellare questo mondo corrotto tutto deve essere amore fratellanza olà simone ascolta continuò robespierre saint just la tua matita e scrisse rapidamente porta questo biglietto al cittadino presidente di umao simone e si sollecito domattina devono cadere le 80 teste domani di umao anticiperà d'un giorno il loro giudizio ne scriverò a fucchietti in vil accusatore pubblico ci troveremo stasera i giacobini ivi accuserò la convenzione raccogliendo a noi d'intorno gli ultimi amici della libertà e della francia un grido si udì lontano dietro a loro viva la repubblica l'occhio del tiranno lampeggiò di sdegno la repubblica via non dovevamo atterrare un trono di mille anni per questa canaglia il giudizio e l'esecuzione delle vittime è anticipato d'un giorno zanoni con l'aiuto della misteriosa intelligenza che lo aveva guidato e sostenuto fino allora scorse che le arti sue riuscivano in fruttuose e conobbe che viola sarebbe salva ove potesse sopravvivere una sola ora a robespierre conobbe che le ore del tiranno erano numerate e il dieci termi d'oro giorno da lui fissato da prima per il supplizio delle vittime salirebbe egli stesso al patibolo zanoni si era adoperato per farlo cadere con qual esito un solo detto del tiranno sventò tutte le sue arti il supplizio di viola anticipato d'un giorno vano sognatore che volevi farti strumento dell'eterno gli stessi pericoli che ora minacciano il tiranno non fanno che affrettare la morte delle sue vittime domani ottanta teste cadranno e quella pure della donna che riposò sul tuo seno domani e massimiliano è salvo ancora stanotte capitolo tredicesimo la polvere deve tornare alla polvere ma lo spirito abbandona il suo corporeo in sviluppo e sopravvive immortale elegia tedesca domani già spunta l'alba e le stelle scompaiono dal firmamento la senna riceve nelle scarse sue acque l'ultime gocce della notturna rugiada brillano nel cielo azzurro le guglie di notre dame mentre presso alla barriera del trono giganteggia la ghigliottina nell'edificio mezzo rovinato dove vi era una volta il chiostro e la presa dei dominicani conosciuti col nome di giacobini c'è adesso il club di coloro che avevano preso quello scuro nome nell'oblunga sala un tempo biblioteca dei pacifici frati si riunivano gli idolatri di robespierre due immense tribune innalzate ai capi della sala contenevano la feccia di quello schifoso popolaccio la maggioranza degli spettatori si componeva delle furie della ghigliottina in mezzo alla sala vi era lo scrittoio e la cattedra del presidente cattedra che la pietà dei frati conservava come una reliquia di santommaso d'aquino sovressa stava un busto di bruto d'arcigna fisionomia una lampada di ferro e due candelier a braccio infissi nel muro spargevano in quell'ampio recinto un fuliginoso chiarore che rendeva vie più atroci e luride le facce di quel pandemonio là fra gli oratori dalla tribuna urlava la stridula voce di robespierre ora tutto è caos e disordine nel comitato dei suoi nemici ondeggianti fra l'ardire e la codardia sinistre voci rumoreggiavano di strada in strada di casa in casa all'avvicinarsi d'una tempesta le rondini volano rasente terra e il bestiame si raggruppa insieme al di sopra di quel mare burrascoso di viventi stava solitario nella propria stanza colui la sempiterna gioventù del quale simbolo del dominio perpetuo che serberà il calmo idealismo fra gli sconvolgimenti della vita attuale nulla aveva sofferto per trascorrere di secoli in vano egli aveva posto in opera quanti mezzi suggeriscono la mente del coraggio vani furono tutti i suoi sforzi per salvare una vita in cui saturnali della morte la sola caduta di robespierre poteva salvare le di lui vittime ma era troppo tardi la caduta del tiranno ad altro non servirebbe che a vendicarle in quell'estrema agonia della disperazione il veggente zanoni si era ancora una volta immerso nella solitudine per invocare assistenza o consiglio da quei misteriosi intermediari fra il cielo e la terra che avevano ricusato il loro intervento a lui avvinto dal vincolo comune dei mortali nell'intenso desiderio e nelle angosce del suo cuore stava forse un potere non per anche evocato perché chi non sperimentò che un estremo dolore spezza i più forti nodi dell'infermità e del dubbio che avvolgono l'anima umana in una momentanea oscurità spesso dalla nube dalla tempesta guizza fuori l'aquila celeste che sola può salvarci l'invocazione fu ascoltata si ruppe la catena dei sensi e lo spirito visivo restò libero guardò e vide non l'essere da lui chiamato sfolgoreggiante di luce e del pacato sorriso non adonai il figlio della gloria e dell'astro ma il malefico l'oscura chimera l'implacabile nemico nei cui occhi ardenti d'un fuoco infernale scintillava una maligna esultanza non più accosciandosi nell'ombra sorse gigantesco dinanzi a zanoni la faccia sempre chiusa nel velo che alcuna mano mortale già mai sollevò ma le fattezze appieno distinte corporee espargendo a sé d'intorno un'atmosfera di orrore e di rabbia come una montagna di ghiaccio il suo respiro raffreddava l'aria riempiva la stanza come una nuvola ed oscurava le stelle eccomi disse la voce dello spettro sono qui un'altra volta tu mi rapisti più d'una preda ora esorcizza te stesso dal mio potere la vita ti abbandonò per trasfondersi nel cuore di una figliuola del sepolcro e dei vermi per mezzo della vita di lei io vengo a te con l'inesorabile mio passo tu retrocedesti alla soglia tu i cui passi s'aggiravano per gli spazi incommensurabili io mi impadronisco di te o potentissimo che volevi trionfare della morte come il fantasma della propria immaginazione si impadronisce d'un fanciullo nelle tenebre torna al tuo servaggio schiavo se venisti alla voce che non chiamo te non è per comandare ma per ubbidire tu mormorando già mi donasti una vita più cara e santa della mia ora tordino non con alcun fascino ma per la forza d'un'anima più potente di tutta la malizia del tuo essere tordino di servirmi ancora e palesare di nuovo il segreto il quale possa redimere la vita di lei che tu col permesso dell'onnepotente mi rendesti possibile altra volta di ritenere nel suo corporeo involucro più vivo e divorante si fece lampeggiare di quei luridi occhi più visibile colossale lo spettro ed un odio più disdegnoso e feroce trapelava dalla sua voce che rispose e pensasti che un mio dono altro potesse essere fuorché una maledizione per te felice se avessi lacrimato sopra una morte data dalla mano gentile della natura allora non avresti conosciuto come la maternità renda sacra la bellezza né curvo sul tuo primo genito avresti gustata la suprema dolcezza dell'amor paterno entrambi furono salvati e perché la madre per una morte violenta vergognosa e di sangue perché il carnefice squassi per le chiome il tronco capo di colei che ebbe il tuo bacio di sposo il figlio primo ed ultimo rampollo della tua stirpe nel quale speravi perpetuare una razza che con te ascoltasse la musica delle arpe celesti volando a fianco del tuo familiare adonai traverso le azzurre riviere di gioia il figlio fu salvato per sopravvivere pochi giorni come un fungo in un sepolcrale sotterraneo affamato negletto e moribondo per le sevizie tu che volesti deludere la morte impara adesso come periscono gli immortali quando osano amare il mortale ora o caldeo prendi i miei doni ti afferro e ti avviluppo col pestifero mio respiro ora che si spegne la tua stirpe i miei occhi ti arderanno il cervello ti stringerò fra le braccia mentre vorresti alzarti a volo con l'aurora e fuggire gli abbracci della notte no ripeto e di nuovo ti costringo parla e rispondi al padrone che può comandarti come al suo schiavo io conosco benché la scienza non mi soccorra e le canne cui mi appoggio mi feriscano il fianco io conosco non di meno che sta scritto potersi salvare dal carnefice la vita a me cara tu ora chiudi i suoi futuri destini nell'oscurità della tua ombra ma non puoi cambiarli a te è dato conoscere l'antidoto non propinare il veleno ti strapperò il segreto quantunque il dirlo ti sia una tortura io t'avvicino fisso impavido i tuoi occhi l'anima che ama può tutto usare fantasma io ti sfido e ti sforzo lo spettro si impiccolì svanendo come vapore che scema a misura che il sole vi penetra e resosi appena visibile in fosca distanza si videro nuovamente splendere le stelle attraverso il balcone sì rispose la voce con fioco e basso accento tu puoi salvarla dalle mani del carnefice perché sta scritto che il sacrificio può salvare e lo spettro si dilatò un tratto giganteggiando ed esultò ridendo quasi nemico che domo per un istante riacquista il suo potere tu puoi salvare la vita di lei se vuoi far sacrificio della tua ed è per questo che hai sopravvissuto alla caduta degli imperi e dalle innumerevoli generazioni degli uomini al fine la morte ti reclamerà vuoi salvarla muori in sua vece cadi o immobile colonna sovra cui dovevano risplendere astri ancora ignoti cadi affinché l'umile erba che cresce alla tua base possa nutrirsi ancora per breve ora della rugiada e della luce del sole taci sei tu pronto al sacrificio mira la luna spunta nel cielo o bello e sapiente imporrai tu alla medesima di rischierare domani il tuo cadavere mozzo del capo via l'anima mia rispondendoti da profondità ove tu non puoi giungere ha riacquistata la propria gloria odo le ali di adonai agitarsi musicalmente per l'aria disse e con fremente strido d'odio e di rabbia delusi il fantasma sparì e la stanza fu irradiata da un luminoso splendore argentino il celeste visitatore rimase nell'atmosfera della propria luce e guardò in volto il teurgista con espressione di ineffabile tenerezza ed amore e l'aere d'intorno pareva rischiararsi al suo sorriso e traverso l'azzurro firmamento dalla stanza in cui aveva fermate le ali fino ad una lontanissima stella appariva come una traccia visibile del suo passaggio uno splendore diffuso nell'aria simile a quella colonna di luce simile alla gioia come un fiore che spande il profumo che è il respiro della sua vitalità più rapido milioni di volte della luce e dell'elettricità il figlio della gloria era sceso a fianco del suo prediletto e il remeggio delle sue ali sparse la gioia come l'aurora la rugiada per quel breve istante la povertà cessò di lagrimare il morbo abbandonò la sua preda e la speranza rialzatasi da uno straziante abbattimento fece un sogno celeste hai ragione disse la melodiosa voce il tuo coraggio ti restituì il potere di nuovo l'animo tuo mi chiama a sé nelle abitazioni della terra più saggio ora che comprendi la morte di quando il tuo spirito sciolto da vincoli imparava il solenne mistero della vita gli umani affetti che di anzi ti avvincevano e prostravano ti innalzano in queste ore estreme della tua mortale esistenza al più sublime retaggio della tua razza all'eternità che incomincia dalla tomba o adonai disse il caldeo che ravvolto per entro la luce del visitatore pareva brillare di una bellezza sovromana in tutto il corpo ed appartenere di già all'eternità di cui favellava l'apparso o adonai come gli uomini che vicini a morire vedono e comprendono gli enigmi nascosti per là dietro a loro io in quest'ora in cui il sacrificio di me stesso per altri mette un termine all'innumerevole corso dell'età vissute io vedo la meschinità della vita paragonata alla maestà della morte o divino consolatore anche qui in tua presenza l'affetto che io sento ma trista lasciarmi dietro su questa terra senza protezione coloro per i quali muoio la moglie il figlio o favella confortami e che rispose il visitatore in tono di celestiale pietà da cui trapelava un lieve rimprovero e che con tutta la tua saggezza e i prodigiosi segreti col tuo predominio sul passato e le visioni del futuro che sei tu mai rispetto all'onnisciente che tutto governa e puoi supporre che la tua presenza qui in terra sarebbe un sostegno ai tuoi cari più valevole di quello che l'infimo degli uomini ottiene da colui che vive nei cieli ed è presente in ogni dove non temere per loro avvenire ne avrà cura l'altissimo sia che tu viva o muoia nel carcere sul patibolo sta fisso l'occhio di lui infinitamente più tenero di te nell'amare più saggio nel guidare più potente nel salvare zanoni chinò la testa e quando la rialzò non appariva ombra di tristezza sulla di lui fronte il visitatore era scomparso ma la traccia della gloriosa sua presenza sembrava irradiasse ancora la stanza e il quieto aere ondeggiava ancora con tremula armonia e sempre saranno in tal guisa consolati quelli che staccatisi interamente dalla vita furono visitati dall'angelo della fede brilla il suo splendore anche nella solitudine e si libra come aureola sopra le loro tombe capitolo quattordicesimo solleve il guardo ai floridi sentieri stellati o mio diletto lo prende amorosamente per mano e secolo trae nell'azzurra lontananza uland la morte egli rimase sull'ampio balcone che dominava il queto centro di parigi dove lontano dalle feroci passioni degli uomini che lavoravano ad una tela di accuse e sentenze quanto gli cadeva sotto gli occhi riposava al chiarore dell'estiva luna l'anima del veggente alzandosi da questa bassa sfera mortale contemplava soltanto le splendide glorie della creazione stava immobile meditabondo per dare l'ultimo addio alla meravigliosa esistenza da lui conosciuta traverso i campi dello spazio egli vide le esilissime forme ai cui inni di gioia l'anima sua aveva tante volte partecipato a gruppi a gruppi si muovevano nel silenzio di quella notte stellata multiformi nell'inconcepibile bellezza del loro essere composto d'ambrosie rugiade e di purissima luce tutto l'universo divenne visibile all'estatico zanoni mirò nelle verdeggianti valli danzar le fate nelle viscere dei monti ravvisò la razza che spira l'aria pestilenziale dei vulcani nascosta alla luce del cielo in ciascuna foglia delle innumerevoli foreste in ciascuna goccia dei mari incommensurabili vide un mondo separato e pieno di vita più e più lungi nell'azzurro succedersi orbe ad orbe prendendo forma e i pianeti balzare dal fuoco centrale percorrere la loro giornata di diecimila anni il soffio del creatore è per ogni dove e per ogni dove si diffonde la vita zanoni vedeva in grande istanza il confratello solitario e occupato dei suoi numeri e della sua cavala fra le rovine di roma il mistico mejnur sedeva nella propria cella calmo e impassibile vivente anche se il mondo finisse e indifferente se le sue cognizioni producevano il bene o il male agente meccanico di una volontà più saggia e tenera la quale guida ogni principio a seconda dei suoi imperscrutabili disegni sempre vivente come la scienza che soltanto si interessa della cognizione ne è punto sicura come questa cresca la felicità come l'umano progresso spingendosi innanzi per la civiltà schiacci nel suo corso tutto quanto non può ravvolgere intorno alle proprie ruote egli con la sua cabala e coi suoi numeri continua a vivere per tramutare la faccia del mondo abitabile nei suoi movimenti esangui addio vita mormorò il glorioso visionario dolcissima fosti o vita per me incommensurabili le tue gioie quando l'anima mia si lanciava nell'estasi per sentieri elevati come è squisita la mera felicità di esistere per colui che rinnovella la sua gioventù nel limpido fonte della natura addio voi lampade del cielo voi milioni di tribù che popolate l'aria non un atomo di luce non un erba del monte un sassolino della spiaggia non un seme che fruttifica nel deserto che non contribuisca ad insegnare come tutto vivifichi il principio della vita bello giulivo immortale agli uomini fu dimora un paese una città la terra io abbistanza dovunque l'intelletto può penetrare e lo spirito respirare zanoni fe pausa e i suoi occhi e il cuore penetrando attraverso l'immensurabile spazio nell'angusto carcere s'arrestarono sul figlio lo scorso è addormentato fra le braccia della pallida madre e l'anima sua parlò a quella del bambino perdona se fu peccaminoso il mio desiderio quando sognai di educarti ai più sublimi destini che nelle mie visioni potessi travedere incominciando dall'infanzia a rafforzarti il corpo contro le malattie e purificare lo spirito da ogni colpa di innalzarti di cielo in cielo per le sante estasi proprie degli esseri viventi in alto e di formare coi tuoi sublimi affetti una pura e perenne comunicazione fra me e la madre tua era un sogno ora sparito in faccia alla morte io sento almeno che oltre la tomba sta la vera iniziazione di tutto ciò che è santo e saggio e oltre la tomba io v'aspetto entrambi amati pellegrini mesur dalla sua cella fra le rovine di roma assorto nei suoi numeri e nella cabala trasalì alzò gli occhi e in spirito sentì che l'anima del lontano amico a lui si rivolgeva addio per sempre su questa terra il tuo ultimo compagno si stacca dal tuo fianco l'età tua sopravvive alla giovinezza di tutti e il giorno estremo ti ritroverà a contemplare sulle nostre tombe io vado di mia spontanea volontà nella regione delle tenebre ma nuovi soli e nuovi sistemi ci rischiarano oltre il sepolcro vado laddove le anime di quelli per i quali rinunzio alla creta mortale esisteranno con me in eterna gioventù almeno riconosco la vera prova e la vera vittoria getta o mesnuri il tuo elisir e il peso di tanti anni vissuti dovunque l'anima può spaziare è protetta da lui che vivifica dall'eternità capitolo quindicesimo non vogliono perdere un istante d'una notte così preziosa la gretel la notte era inoltrata e renato francesco di umà presidente del tribunale rivoluzionario reduce dal club dei giacobini stava ritirato nel suo gabinetto con lui si trovavano due uomini i quali si sarebbe potuto dire rappresentassero la forza morale la forza fisica del regno del terrore fu chietti in vil l'accusatore pubblico e francesco enriò comandante della guardia nazionale parigina questo formidabile triunvirato era raccolto per discutere ciò che si doveva fare l'indomani le tre streghe curve sulla caldaia non erano infiammate da sì diabolico spirito né macchinavano più esecrandi i disegni dei tre eroi della rivoluzione nella strage premeditata pelvegnente mattino di umà era pochissimo cambiato da quando lo feci conoscere ai lettori nella prima parte di questo racconto solo aveva nei modi alcunché di più tronco e severo e gli sguardi più mobili a confronto dei due compagni appariva un essere superiore nato da rispettabili parenti e ben educato malgrado la sua ferocia renato di umà non mancava ad una certa raffinatezza la quale lo rese accetto al preciso e formalista robespierre ma enriò era stato ladro e spia di polizia egli aveva traccannato il sangue di madama di lambal e sorto fino al grado di cui era investito soltanto per la sua furfanteria fu chietti in vil figlio di un coltivatore di provincia e già scrivano negli uffizi di polizia era triviale nei suoi modi quasi come enriò anzi vi è più ributtante per uno stomachevole di leggio nel suo discorso la testa grossa i capelli corti e neri livida la fronte occhi piccoli pieni di malizia tarchiato di membra egli era il vero sgherro della rivoluzione un orso implacabile Dumas smoccolò le candele e cavò le liste delle vittime che per irto vevano la mattina è un catalogo lungo disse egli 80 giudizi in un giorno e gli ordini di robespierre di spacciare l'intera fornata non sono equivoci oh disse fucchiè con aspro riso li spicceremo in massa so io come regolarmi col nostro giurì penso cittadini che siate abbastanza convinti dei delitti dei nemici più lunga la lista più corta la fatica sì borbottò enriò con una bestemmia mezzo ubriaco come al solito dondolandosi sulla scranna e appoggiando i calcagni con gli speroni sulla tavola il piccolo tinville è uomo che sa sbrigarsi cittadino enriò disse gravemente Dumas permetti che ti preghi a scegliere un altro sgabello del resto ti avverto che domani è una giornata critica ed importante e che deciderà dei destini della francia un fico per la piccola francia vive il virtuoso robespierre la colonna della repubblica maledette le charle mi asciugano il gorgozzule non hai tu acquavite in questa piccola tazza Dumas e Fouquet si scambiarono un'occhiata di disgusto e il primo alzando le spalle rispose è appunto per salvarti dall'acquavite che io ti feci chiamare cittadino generale enriò ascoltami se ne sei capace oh parla il tuo mestiere è parlare il mio combattere e bere domattina ti ripeto il popolaccio uscirà per le strade e tutti i faziosi saranno in moto è molto probabile che si tenti arrestare le nostre carrette durante il loro tragitto alla ghigliottina tieni dunque in pronto i tuoi soldati sgombra le strade e uccidi senza misericordia chiunque ne impedisce la via capisco gridò enriò battendo la sua spada sulla tavola con tal forza che Dumas trasalì il nero enriò non è indulgente sta in guardia cittadino sta in guardia ricordati aggiunse aggrottando il ciglio che se vuoi conservare la tua testa sulle spalle devi lasciare l'acquavite la mia testa sacre miltonner tradiresti tu il generale dell'armata parigina Dumas uomo preciso bilioso ed arrogante come rovespierre stava per replicare quando fu chi è più astuto postagli una mano sul braccio si volse al generale dicendo mio caro erio il tuo repubblicanismo che di nulla teme e che è troppo sollecito ad offendere deve insegnarti a ricevere un rimprovero dal rappresentante della legge repubblicana sul serio tu devi essere sobrio mio caro per questi tre o quattro giorni passata la crisi io e te vuoteremo insieme una bottiglia vieni rallenta la tua austerità o Dumas e dà la mano al nostro amico non alterchi fra noi Dumas esitò ma stese la mano che il furfante strinse e stupide lacrime sottentrando alla sua ferocia egli fra i singhiozzi balbettò le sue proteste di civismo e le promesse di sobrietà bene noi ci fidiamo di te mio generale disse Dumas ed ora già che tutti abbisogniamo di forza per domattina andiamo a casa e dormiamo profondamente io ti perdono Dumas ti perdono io non sono vendicativo io ma però se un uomo mi tradisce e se uno mi insulta e con questi cambiamenti propri degli ubriachi i suoi occhi pregni di lacrime fiammeggiarono nuovamente di sdegno fu chieda ultimo riuscì con fatica a calmare quel bruto e a trarlo fuori distanza pure si contorceva e grugniva come una bestia feroce cui si è sfuggita la preda scendendo con barcollanti passi le scale un robusto soldato stando in sella faceva passeggiare su e giù per la strada il cavallo di Henryo mentre questi aspettava sotto il portico della casa che il servo retrocedesse uno straniero che lo aspettava appoggiato al muro s'accostò generale Henryo desidero parlare con te vicino a Robespierre tu sei o dovresti essere l'uomo più potente della Francia eh sì dovrei esserlo che dunque non ha ciascun uomo il suo merito zitto replicò lo straniero il tuo soldo è appena sufficiente al tuo grado ai tuoi bisogni questo è vero anche in una rivoluzione un uomo a cura della propria fortuna diavolo parla cittadino ho con me mille pezzi d'oro sono tuoi se mi accordi un lieve favore te lo accordo cittadino disse Henryo alzando maestosamente la destra vuoi forse che io denunzi qualche miserabile che ti ha offeso no semplicemente che tu scriva queste parole al presidente di umà ammetti alla tua presenza il latore e se tu puoi accordargli la domanda che ti farà obbligherai oltremodo francesco Henryo così dicendo lo straniero porse matita e carta nelle mani tremanti del generale e dov'è il denaro eccolo Henryo con qualche difficoltà scarabocchiò le parole dettate agguantò il denaro salì a cavallo e se ne andò fu chi è intanto chiuso che ebbe l'uscio dietro Henryo disse con asprezza come sei tanto pazzo da inasprire questo brigante ignori che le nostre leggi sono nulle senza la forza fisica della guardia nazionale e che egli ne è il comandante io so rispose di umà che robespierre fece una pazzia a mettere alla testa di essa questo ubriacone marca bene le mie parole fu chi è se scoppia la lotta l'incapacità e la vigliaccheria di costui ci rovinerà tutti sì tu devi vivere abbastanza da accusare il tuo diletto robespierre e perire con la sua caduta per ovviare a ciò dobbiamo trattarlo bene finché ci si presenta l'occasione di arrestarlo o troncargli la testa a salvarci e dopo piaggiare coloro che hanno in mano il potere e tanto più quanto è nostro interesse di sbancarli non credere che Henryo domani al risvegliarsi voglia dimenticare il tuo rabbuffo è il più vendicativo dei viventi domattina bisogna che mandi a calmarlo hai ragione replicò di umà convinto fui troppo impetuoso ora credo che nulla più ci resti da fare da che abbiamo combinato il modo da abbreviare la fatica con la nostra fornata di domattina vedo in lista un briccone che già da lungo tempo io avevo notato benché un suo delitto mi abbia procacciato un lascito per l'addietro nico lebertista e il giovane andrea chenier il poeta ah mi scordavo che lo abbiamo ghigliottinato oggi la virtù rivoluzionaria è al suo apice suo fratello medesimo lo ha abbandonato sulla lista c'è una straniera una donna italiana ma non trovo alcuna accusa a suo carico è lo stesso bisogna mandarla a morte per fare il numero tondo 80 suona meglio di 79 in quel punto un uscere entrò con la carta su cui era scritta la domanda del rio ah questa è una fortuna disse tinville consegnandola di umà accorda la preghiera con ogni mezzo purché non esiga che si accorci la nostra lista ma devo rendere giustizia del rio confessando che egli non cerca mai di fare sprigionare alcuno bensì di incarcerarne dei nuovi buonanotte io sono stanco e la mia scorta mi aspetta fuori soltanto per la circostanza attuale ma il rischio di notte per le strade e fu che con un lungo sbadiglio uscita alla stanza introduce il portatore del biglietto disse di umà il quale stanchissimo e sonnacchioso come succede di molti legulei non aveva bisogno come i suoi scartafacci di dormire lo straniero entrò renato francesco di umà dissegli sedendo in faccia al presidente e adoperando marcatamente il plurale quasi per dispregio del gergo rivoluzionario fra le agitazioni e gli affari della vostra vita ignoro se vi ricordiate che noi ci siamo già veduti altre volte il presidente esaminò le fattezze del suo visitatore ed un lieve rossore gli colorì le pallide guance sì cittadino me ne ricordo e rammentate le parole che io allora pronunciai voi parlavate con tenerezza e filantropia del vostro orrore per la pena di morte esultavate dell'imminente rivoluzione come d'un termine ai supplizi sanguinari ripetevate con riverenza il detto del nuovo politico massimiliano robespierre essere il carnefice un ritrovato del tiranno io replicai che all'udirvi parlare in tal guisa mi colpiva un presentimento che ci saremmo di nuovo incontrati quando le nostre idee intorno alla morte alla filosofia delle rivoluzioni sarebbero cambiate avevo io ragione cittadino renato francesco di umà presidente del tribunale rivoluzionario po rispose di umà non senza confusione allora io parlavo come gli uomini che non hanno ancora operato le rivoluzioni non si fanno con l'acqua di rose ma tregua al cicaleccio di vecchia data rammento altresì che allora salvasti la vita del mio parente non ti sarà sgradevole udire che il di lui assassino verrà ghigliottinato domani questo concerne voi stesso la vostra giustizia o la vendetta concedete al mio egoismo di ricordarvi la vostra promessa se mai un giorno potrò esservi utile la mia vita il sangue del mio cuore furono le vostre precise parole sono a vostra disposizione non credere giudice austero che io venga a desigere un favore concernente voi medesimo vengo a chiedere un giorno d'indugio per un altro cittadino è impossibile io ho l'ordine di robespierre che tutti i notati sulla lista debbano essere giudicati domani quanto alla sentenza dipende dal giurì né io vi chiedo di diminuire il numero udite nel vostro elenco di morte c'è il nome di una donna italiana la cui gioventù la bellezza e l'innocenza assoluta non solo di qualunque delitto ma d'ogni più lieve imputazione e citerà pietà non terrore voi stesso tremereste pronunziando nella sentenza e sarebbe pericoloso in un giorno che la plebaglia può sorgere e arrestare le vostre carrette le sporre una donna giovane bella innocente alla pietà e all'ardimento di una turba riottosa di umà alzo gli occhi ma non potesse sostenere lo sguardo dello straniero non nego cittadino che sia ragionevole quanto dite ma i miei ordini sono positivi positivi solamente quanto al numero delle vittime e dio offre una sostituzione per lei la testa di un uomo il quale conosce ogni filo della congiura che ora minaccia robespierre e voi stesso è un segreto che credereste pagare a buon mercato con la grazia di 80 vite comuni ciò altera il caso gridò con calore di umà se tu puoi far ciò assumo io la responsabilità di protrarre il giudizio dell'italiana dimmi chi mi dà in sostituzione lo vedete a voi dinanzi tu esclamò di umà con un terrore che nella sorpresa non poté frenare tu e vieni solo di notte per darti mano alla giustizia ah questo è un inganno trema pazzo tu sei in poter mio e vi avrò ambe due lo potete rispose lo straniero con pacato sorriso disprezzo ma la mia vita nulla serve senza le mie rivelazioni sedetevi tacete ed ascoltate ve lo comando il fulgore degli occhi di lui ammaliò e intimorì il giudice voi mi imprigionerete nella consiergerì proseguiva e fisserete il mio processo sotto il nome di zanoni nell'infornata di domani qualora non vappaghi con le mie spiegazioni tenete in ostaggio la donna per salvare la quale io muoio non vi domando che d'accordarle un giorno di respiro dopo domani io sarò polvere e voi potrete sfogare la vostra vendetta sulla superstite silenzio giudice condannatore di migliaia esitate forse immaginando che un uomo il quale si offre volontario a morire avrà timore di proferir una sola parola alla sbarra contro la vostra volontà non avete bastante esperienza quanto sia inflessibile l'orgoglio e il coraggio presidente eccovi la penna scrivete al carceriere di trattenere per un giorno la donna la cui vita nulla vigiova io stesso porterò l'ordine alla prigione ove devo restare in prova dei segreti che paleserò vi dico ora giudice il vostro nome è scritto sopra una lista di morte io posso appalesarvi quale mano l'abbia scritto qual quartiere dobbiate invigilare e dentro qual nube in codesta lurida atmosfera s'addensa il folgore che ridurrà in cenere Robespierre ed il suo regno Diumà impallidì in vano gli occhi suoi tentarono sottrarsi al magnetico fascino che lo signoreggiava meccanicamente come spinto da una forza estranea scrisse ciò che lo straniero gli dettava bene disse Diumà con forzato sorriso promisi che ti servirei e sono fedele alla mia parola suppongo che tu sia uno di quei pazzi che fanno professione di virtù antirivoluzionarie e dei quali ne ho veduti non pochi alla mia sbarra su via mi fa male trovare individui che si fanno un merito di incivismo e muoiono per salvare qualche cattivo patriota perché è loro padre loro figlio fratello o sorella io sono uno di codesti pazzi sentimentali replicò lo straniero alzandosi l'avete indovinato e non vorrai in contraccambio della mia grazia palesare questa notte i segreti che proclamerai domani parla e tu stesso e la donna otterrete non solo un ritardo ma perdono dinanzi al vostro tribunale e soltanto domani ne voglio ingannarvi presidente le mie informazioni a nulla vi serviranno se anche vi indico la nuvola il fulmine scoppierà ugualmente zitto profeta salva te stesso va pazzo va io conosco troppo bene la pertinace ostinazione della classe cui sospetto tuo partenga per sprecare altre parole diavolo voi altri siete così abituati a contemplare la morte che dimenticate il rispetto a lei dovuto poiché m'offri la tua testa io l'accetto domani potresti pentirti ma sarà troppo tardi ah troppo tardi presidente ripete il calmo visitatore ma rammenta concluse di ma che io promisi non il tuo perdono bensì un giorno di ritardo per questa donna secondo che tu mi soddisferai domani e la vivrà o morrà io sono schietto cittadino il tuo fantasma non verrà a turbarmi per aver tradita una promessa un solo giorno vi chiesi il restante lo lascio alla giustizia e dal cielo i vostri usceri aspettano fuori capitolo sedicesimo dell'omicida spada il fulgore vecco e l'ardente sguardo omicida schiller cassandra viola era chiusa nella prigione che sapriva soltanto a coloro già condannati avanti il processo da che si trovava separata da zanoni la sua intelligenza sembrava paralizzata tutta quella brillante esuberanza di fantasia che se non era frutto del genio nera il fiore tutto il cumulo di squisiti pensieri che palesavano aveva detto zanoni misteri del cuore ignoti a lui stesso tanto saggio tutto era scomparso il fiore avvizziva la fonte si naridiva viola superiore dapprima al suo sesso sembrava ora bamboleggiare erano cessate le ispirazioni divisa da zanoni e fuggendo l'amore aveva perduto il suo genio capiva fatica perché fosse stata in tal guisa strappata alla sua casa e dalle materiali occupazioni appena sapeva chi fossero coloro che colpiti dalla sua amabilità si erano raccolti intorno alla sua prigione guardandola in aria di compassione dirigendo le parole confortatrici ella educata da borrire condannati per delitto meravigliava in udire che esseri delicati di gentile aspetto fossero grandi colpevoli per i quali la legge non aveva pena più lieve della morte ma i rozzi e feroci giacobini che l'avevano trascinata fuori della sua casa insultando e minacciando che tentarono di strapparle dalle braccia il figlio ridendo delle sue mute preghiere erano cittadini distinti uomini virtuosi favoriti dei governanti ministri della legge tali sono i tuoi capricci umana intelligenza sempre fallace calunniatrice la prigione era in quell'epoca uno squallido ma pure allegro soggiorno ivi una mano sprezzante aveva gettate come in una tomba persone d'ogni classe eppure anche la dominava la nobile legge naturale in eguaglianza fra uomo ed uomo perché i grandi dolori ispiravano riverenza i prigionieri fossero sanculotti o realisti cedevano il posto all'età al sapere alla rinomanza alla bellezza i forti con l'ingenita generosità aiutavano il debole e il derelitto nervi di ferro e spalle erculee cedevano alla donna ed al fanciullo e le amabili doti dell'umanità respinte nella scompaginata società trovavano un rifugio nel soggiorno del terrore e per qual motivo figlia mia ti hanno condotta qui domandò a viola un vecchio sacerdote coi capelli grigi non so indovinarlo ah se non conosci in che li offendesti temi quanto va di peggio e il mio bambino e la lo portava in braccio essendo malato ahimè giovane madre permetteranno che viva orfanello dentro una prigione mormorò viola esacerbata in cuor suo perciò ti avrò io nutrito o zanoni non chiedere nemmeno col pensiero ciò che feci del figlio che io ti diedi sopraggiunse la notte e la folla corse all'inferriata per udire la chiamata all'appello il suo nome fu pronunciato e il vecchio sacerdote meglio di lei apparecchiato a morire ma non iscritto egli pure sulla lista fatale gli impose gentilmente la mano sul capo e piangendo la benedisse viola udì attonita ma non sparse una lacrima gli occhi bassi e le braccia incrociate sul petto si inoltrò sommessa ma un altro nome fu pronunciato ed un uomo che la urtò sgarbatamente impassando mandò un urlo di rabbia e disperazione era esso nico che voltandosi gridò con diabolico soghigno almeno gentile napoletana la ghigliottina ci riunirà o noi dormiremo bene la notte nuziale e con un riso convulso si cacciò tra la folla e scomparve nel cortile viola fu chiusa in un'oscura cella ad aspettarvi il mattino le fu però lasciato il figlio che ad essa sembrava conscio del terribile presente durante il tragitto non pianse o singhiozzò fissando gli azzurri suoi occhi sulle lucide picche e l'atruce fisionomia dei carcerieri nella solitaria cella le pose le braccia al collo mormorando suoni indistinti dolci come un celeste sconosciuto linguaggio di consolazione ed era veramente celeste poiché a quel mormorio il terrore svanì dall'anima di lei via dal carcere e dalla morte innalzati laddove i beati cherubini inneggiano all'eterno viola cadde in ginocchio e pregò i rivoluzionari strugitori di tutta la bellezza e la santità della vita abbattuto l'altare rinnegato dio avevano tolto alle vittime nelle ultime ore il sacerdote e la croce ma la fede innalza nel carcere nel lazzaretto il suo più sublime tabernacolo ed oltre la volta di macigno che impedisce la vista del firmamento si innalza la preghiera scala per la quale scendono e salgono gli angeli nell'attigua cella si trovava l'ateista nicò seduto mezzo istupidito fra le tenebre ruminando il detto di danton che la morte è il nulla quale spettacolo una coscienza avvilita e martoriata dal rimorso che è l'eco della virtù smarrita e nicò non aveva mai conosciuta la virtù se avesse prolungata l'esistenza avrebbe vissuto come per l'addietro ma più terribile del letto di morte di un credente o di un peccatore disperato era la sua fosca apatia il contemplare il verme e il sorcio che rosicano i cadaveri il tremendo e ributtante nulla che allo sguardo di lui cadeva come funebre sudario sull'intera sua esistenza silenzioso mordendo le livide labbra gli occhi vaganti nello spazio nicò paventava le tenebre convinto che sarebbero per lui eterne i prigionieri si ritirarono nelle loro celle un altro sopravvenne in quel soggiorno di morte mentre il custode con in mano la lanterna introduceva lo straniero questi li toccò la spalla bisbigliando aveva indito un anello di diamante che scintillava al chiarore della lanterna valutate mille franchi ognuna delle ottanta teste che domani cadranno e questo gioiello vale ancora più il custode si fermò abbagliato dal diamante o cerbero tu hai domato ogni sentimento d'umanità nell'esercizio delle tue tremende funzioni non senti più amore pietà rimorso ma l'avarizia sopravvive e ti avvinghi al cuore come un serpente tu lo guadagnasti o astuto straniero entrarono in uno scuro corridoio e giunsero ad un uscio sul quale il custode aveva segnato il marchio fatale ora da cancellarsi perché la prigioniera aveva un giorno di respiro la chiave fu introdotta stridettero le imposte e lo straniero presa la lampada entrò capitolo 17 così vince goffredo gerusalemme liberata canto ventesimo viola che pregava non udì aprirsi la porta né vide l'ombra che si disegnò sul pavimento l'arte e il potere di zanoni erano spariti ma il mistero e la malia tanto influenti sopra il semplice cuore di lei non l'abbandonarono nell'ore della disperazione quando la scienza scompare come il lampo quando il genio appassisce come il fiore in una fossa gelata la speranza ad un'anima virginale al pari di quella dei bambini si solleva luminosa e la fede scevra di dubbi riveste il sepolcro di fiori nel più remoto angolo della prigione viola stava inginocchiata e il bambino quasi volesse imitare ciò che non comprendeva piegava le sue piccole membra sorridendo come se volesse inginocchiarsi a fianco della madre zanoni sostò contemplando al chiarore della lampada che rischierava le loro forme le chiome d'oro scomposte la candida fronte gli occhi neri bagnati di lacrime rivolti nell'estasi al cielo quasi cercando la luce le mani strette le labbra semi aperte e tutto il corpo animato dalla meccanica serenità dell'innocenza e dalla commovente umiltà femminile udì la voce di lei sommessa ma a forte abbastanza per volgersi a dio dall'intimo cuore ed io non lo rivedrò mai più o padre non puoi far sì che l'amore il quale non muore sopravviva oltre la tomba non puoi tu permettere che io lo invigili come uno spirito vivente più bello di quanti con tutta la sua scienza può scongiurare o qualunque sia la sorte che entrambi ci aspetta de concedi se anche migliaia di anni dovessero trascorrere fra noi concedi che purificati rigenerati e resi degni dei trasporti della riunione noi possiamo trovarci di nuovo e il mio bambino che si prostra dinanzi a te sull'astrico della prigione quali braccia lo culleranno domani chi lo nutrirà qual labbro pregherà per la sua salute per l'anima sua viola fe pausa e la sua voce fu tronca dai singhiozzi tu viola tu stessa colui che abbandonasti è qui per salvare la madre e il figlio trasalendo a questi accenti tremoli come i suoi balzò in piedi egli là in tutto l'orgoglio della sua durevole gioventù della sua sovrumana bellezza là nel soggiorno della morte nell'ora suprema immagine e personificazione dell'amore che può penetrare nella valle delle ombre e scendere come spirito celeste giù negli abissi infernali con un grido forse non mai udito per l'addietro in quelle tenebrose mura grido di estatica gioia viola si precipitò ai suoi piedi zanoni curvandosi la rialzò ma ella gli sfuggì dalle braccia la chiamava coi più cari nomi dell'antica tenerezza non ebbe altra risposta che singhiozzi viola gli baciava appassionatamente le mani il lembo dell'abito ma la voce era spenta alzati alzati io sono qui qui per salvarti mi negherai di affisare il dolce tuo viso infedele mi fuggiresti sempre fuggirti proruppe al fine viola con tronchi accenti o se i miei pensieri fecero la tua vendetta se il terribile sogno mi ingannò inginocchiati con me e prega per tuo figlio e gettandosi con subitaneo slancio ai piedi del marito sollevò il bambino e ponendolo nelle sue braccia con umile preghiera interrotta da singulti esclamò non per la mia salute ti ho abbandonato ma zitta disse zanoni io conosco tutti i pensieri che i tuoi sensi confusi e disordinati mal possono analizzare mira come tuo figlio con uno sguardo ti risponde e realmente la faccia di quel bambino straordinario appariva radiante di silenziosa e ineffabile gioia pareva che riconoscesse il padre gli si avvinse al petto poscia volse gli occhi azzurri a viola e sorrise prega per mio figlio disse zanoni tristemente i pensieri di un'anima che aspira come la mia sono altrettante preghiere sedutosi al di lei fianco egli incominciò a rivelarle alcuni dei santi segreti della sua superiore esistenza parlò della sublime ed intensa fede da cui soltanto può emanare un sapere più che umano quella fede che scorgendo in ogni dove il dio purifica ed esalta l'uomo gloriosa ambizione che non sta nelle cabale e nei diletti terreni ma tra le solenni meraviglie che favellano non dei mortali ma di dio del potere il quale astrae l'anima dalla creta e porge a lei dinanzi una visione sublime alzandone le ali nei regni interminati di quella pura severa e ardita iniziazione da cui l'intelletto emerge come dalla morte alla limpida percezione del proprio congiungimento col principio primordiale di vita e di luce per tal modo l'iniziato trova la sua gioia nel senso della bellezza il suo potere nella serenità della sua volontà nella simpatia per la gioventù dell'infinita creazione di cui è egli medesimo essenza e parte trova i segreti che imbalsamano la stessa creta santificandola e rinnovellano la forza vitale con l'ambrosia di un sonno misterioso e celestiale mentre zanone favellava in tal guisa viola l'ascoltava senza trarre il respiro e se non giunse a ben comprendere più non titubava a credergli fu convinta che in quell'entusiasmo non poteva aver parte l'inferno e per intuizione anziché per sforzo di raziocinio vide aprirsi al suo sguardo simile ad un ampio oceano la profonda e misteriosa bellezza dell'anima che l'aveva ingiuriata pure quando concludendo la sua confessione zanoni disse aver sognato di innalzare l'anima di lei a quell'esistenza superiore alla comune un terrore umano si indonnò di viola e zanoni lesse nel suo silenzio quanto vano sarebbe stato il tentativo malgrado tutta la sua scienza ma poi che tacque appoggiandosi sul di lui petto si sentì stretta in un amplesso protettore quando in un santo bacio il passato fu dimenticato e sparve il presente allora si ridestò in lei la soave vivace speranza per una donna innamorata di vivere il marito era venuto a salvarla e la non chiese in qual modo avendo in lui un'illimitata fiducia sarebbero finalmente riuniti fuggendo da quelle scene di violenza e di sangue la beata isola dello ionio la placida loro solitudine li accoglierebbe di nuovo sorrise con fanciullesca gioia a quel quadro che le appariva fra lo squallore del carcere l'intelletto fedele ai suoi dolci e semplici distinti si rifiutava di accogliere le immagini che confusamente l'assediavano e rediva alle antiche visioni di felicità domestica ai troppo fallaci non parlarmi o diletto non parlarmi del passato tu sei qui e mi salverai noi saremo ancora felici perché la vita con te è abbastanza gloria beatitudine per me attraversa se lo vuoi nell'orgoglio dell'anima tua l'universo per me l'universo è concentrato nel tuo cuore io credevo d'essere apparecchiata a morire ti vedo t'abbraccio e so di nuovo quanto sia bello vivere mira attraverso l'inferriata le stelle che scompaiono in cielo a momenti spunta l'aurora che ci aprirà le porte del carcere dici che puoi salvarmi ora ne sono certa o non restiamo più oltre in questa città nella deliziosa nostra isola già mai ho dubitato di te ivi tutti i miei sogni erano ridenti e giulivi al risvegliarsi gli occhi tuoi rendevano vie più a meno e lieto l'universo domani perché non sorridi non è domani una benedetta parola d'amore crudele vuoi forse punirmi col non dividere la mia gioia mira il nostro bambinello come mi sorride io gli parlerò figlio è ritornato tuo padre viola seduta col bambino fra le braccia lo copriva di carezze e baci rideva e piangeva insieme quasi volesse trasfondere il proprio giubilo nel marito cui le stelle scolorandosi davano l'ultimo addio quanto era bella in quell'atteggiamento inconscia del futuro e ridivenuta fanciulla scherzando con suo figlio due fiori sull'orlo del sepolcro le chiome snodandosi le coprivano il petto come un velo d'oro e il bimbo le scompigliava con le sue manine sarebbe stata crudeltà troncare si fatta gioia più crudele il parteciparvi viola disse al fine zanoni rammenti tu che seduti dinanzi la grotta al chiarore della luna nell'isola dei nostri sponsali mi chiedesti questo amuleto emblema di una superstizione dal lungo tempo scomparsa dal mondo insieme alla credenza di cui faceva parte è l'ultima reliquia del mio paese nativo e mia madre sul letto di morte me lo pose al collo ti risposi allora che te l'avrei dato il giorno che le leggi del nostro essere diverrebbero uguali o sì lo ricordo domani sarà tuo ah caro domani esclamò viola e posando gentilmente il figlio addormentato si strinse al seno del marito additando il crepuscolo che coloriva il cielo fra quelle orride pareti l'astro del mattino attraverso le sbarre riluceva su tre esseri che concentravano tutto ciò che va di più soave nei vincoli terreni di misterioso nell'animo umano l'innocenza addormentata l'amore costante che pago d'un guardo d'un soffio non antivede sciagure la scienza che penetrando i segreti della creazione giunge finalmente alla morte per averne la soluzione eppure sul limitare dell'eternità si stringe ancora all'amore così nell'interno del carcere al di fuori picche fucili tempi palazzi terrori vendette e neri raggiri nel cozzo di feroci passioni agitavano i destini degli uomini e delle nazioni l'astro del mattino vibrò l'ultimo raggio sul campanile del tempio e sulla ghigliottina spuntò l'alba fatale gli augelli alzarono il consueto gorgheggio i pescatori si sparsero sulla senna si risvegliò la natura sempre bella e la vita mortale cotanto discorte i trafficanti aprirono le loro botteghe gruppi di fanciulle si avviarono lieti ai lavori gli uomini si affaccendarono in quelle cure che le rivoluzioni abbattendo re ed imperatori lasciano i discendenti di caino stridevano le ruote dei carri avviati al mercato tirannia impallidisci congiura che non chiudesti occhio odile ore e mormora in cuor tuo s'avvicina il momento un gruppo con occhi accesi si raccolse nelle vicinanze della convenzione oggi si decide la sovranità della francia nel cortile del tribunale il solito movimento che importa quanto succederà oggi cadranno 80 teste viola dormiva placidamente giuliva e sicura per la presenza del marito nel suo sonno sembrava avesse la coscienza che vicino a lui ritroverebbe la passata felicità sorrideva e mormorava pronunziando nel nome estendendo le braccia sospirava di non toccarlo zanoni in disparte la contemplava con emozioni che sarebbe impossibile esprimere ella non si risveglierebbe più per lui né saprebbe quanto caro costasse quel sonno il domani che tanto anelava era al fine spuntato placido ma come lo saluterebbe si addormì fra le deliziose speranze con cui la gioventù e l'amore contemplano il futuro speranze che colorivano come un iride i suoi sogni si risveglierebbe per vivere domani ancora il regno del terrore cadrà si apriranno le porte della prigione e viola uscirà col figlio nel momento rischiarato dal sole zanoni così meditando si volse e il suo sguardo cadde sul bambino che desto con occhio limpido e pensieroso lo fissava con solenne fermezza si chinò e lo baciò non più esclamò erede dell'amore dell'angoscia non più mi vedrai nelle tue visioni non più quest'occhi saranno avvivati da un raggio celeste né potrà l'anima mia stornare dal tuo origliere l'affanno e la malattia il tuo destino non sarà quale io avevo vanamente sognato insieme alla tua razza dovrai soffrire combattere errare le umane traversie ti siano lievi e forte sia il tuo spirito per amare e per credere così possa mentre io ti contemplo la mia natura trasfondere nella tua l'ultimo e più intenso desiderio possa l'amor mio per tua madre riversarsi in te ed ella nei tuoi sguardi scorga l'anima mia che la conforti e la consoli odi giungono sì io v'aspetto entrambi oltre la tomba la porta saprì e comparve il carceriere penetrando al tempo stesso attraverso l'apertura un raggio di luce che brillava come un sorriso sulle labbra del bambino che emuto e immobile spiava ogni moto del padre in quell'istante viola mormorò nel sonno il giorno è venuto le porte sono aperte dammi la tua mano noi partiremo al mare al mare come il sole brilla sopra le onde al nostro asilo mio diletto al nostro asilo cittadino la tua ora è venuta disse il carceriere zitto e la dorme un istante ne siano grazie al cielo dorme tuttora non volle darle un bacio per timore di svegliarla ma gentilmente le cinse al collo l'amuleto che le ricorderebbe l'estremo addio e la promessa di una riunione egli è già sulla soglia si rivolge più volte la porta si richiude è partito per sempre viola finalmente si risvegliò guardandosi intorno zanoni è giorno nessuno rispose fuorché un lieve vagito del bambino cielo misericordioso il suo era stato forse un sogno gettò indietro le lunghe trecce che le facevano velo sentì sul petto l'amuleto non era dunque un sogno oddio egli è partito balzò contro la porta gridando venne il carceriere mio marito il padre del mio bambino dov'è donna egli è andato prima di te dove parla o parla alla ghigliottina e la nera porta si richiuse cadde priva di sensi le parole di zanone la sua tristezza il dono del mistico amuleto il sacrificio fatto per lei tutto in un lampo si rese chiaro alla sua mente l'oscurità in cui era ravvolta sparve in un baleno mentre sedeva muta irrigidita gelida come il marmo una visione come turbine le si affacciò allo spirito il tremendo tribunale il giudice l'accusatore il giurì e fra le vittime una figura imperterrita e radiante tu conosci il pericolo che minaccia lo stato interrogò di umà confessa lo conosco e mantengo la promessa rispondeva zanoni giudice io rivelo la tua sentenza so che l'anarchia alla quale tu dai il nome di stato spira col tramontare del sole d'oggi ascolta lo scalpitare dei cavalli il rumore delle vociferazioni a morte un posto all'inferno per robespiere per i suoi satelliti si precipitarono nella sala palli di messaggeri tutto è confusione e spavento via cospiratore gridò di umà domani la donna che volevi salvare morrà domani presidente la mannaia cadrà sopra di te il corteo della morte si incammina per le vie gremite di una plebe agitata popolo valoroso ti levasti finalmente essi non morranno la morte è rovesciata dal suo trono robespierre è caduto si accorre a salvare le sue vittime così gridava dalla carretta e gesticolava lo schifoso nicò al fianco di zanoni il quale nei profetici sogni lo aveva scorto suo compagno nel supplizio salvaci salvaci urlava l'ateista su bravo popolo noi saremo salvi e traverso la folla una donna coi neri capelli scarmigliati con gli occhi gettanti fiamme si avventava alla carretta o mio clares esclamava nel dolce idioma meridionale che era pur quello di viola assassino che hai tu fatto di clarence e girando gli occhi sui condannati non vide colui che cercava si è ringraziato il cielo si è ringraziato il cielo io non fui la tua omicida il popolaccio si serra più vicino un altro momento ed il carnefice defraudato delle sue vittime o zanoni perché regna sempre sul tuo ciglio la rassegnazione e tace la speranza scalpitando s'avvicina la truppa il nero enriò fedele ai suoi ordini la guida e si precipita sulla folla tumultuante che fugge alla rinfusa alcuni rimangono sul selciato fra questi giace trapassata da un colpo di sciabola una donna italiana con le lunghe trecce bruttate di sangue pure un sorriso di gioia le spunta sulle livide labbra e mormora clares io non ti trassi a morte giungono alla barriera del tempio il gigantesco strumento di morte appare terribile in aria uno dopo l'altro sotto la mannaia un altro un altro o pietà è dunque così breve il passaggio dal sole alle tenebre breve come un sospiro è venuto il tuo turno o zanoni o non morire ancora non lasciarmi indietro ascoltami ascoltami esclamava l'ispirato veggente come tu mi sorridi sempre con quelle palli de labbra e al tuo sorriso piazza carnefice orrore tutto svanisce e lo spazio sembra irradiato dall'eterno sole zanoni si sollevò dalla terra e scorse un ente incorporeo un'immagine giuliva e lucente più lungi gli si schiuse dinanzi il cielo nelle sue profondità e ne vide gli abitatori immortali benvenuto con miriadi di melodie uscenti dai loro cori benvenuto esclamarono o tu purificato dal sacrificio ed immortale soltanto attraverso il sepolcro questo è morire e l'immagine radiante fra i radianti allargò le braccia mormorando al veggente compagno nell'eternità questo è morire o perché si fanno cenni da quel tetto perché la folla s'accalca nelle strade perché suona stormo odi il cannone il cozzo delle armi compagni di prigionia c'è dunque qualche speranza per noi così bisbigliavano i prigionieri fra loro tramonta è già notte ed essi ancora spiano con la faccia bianca di terrore alle inferriate e sempre alle finestre sui comignoli vedono sorridere gli amici e far segnali evviva finalmente Robespierre è caduto il regno del terrore più non esiste il dio ci ha permesso di vivere si getta uno sguardo nella sala dove il tiranno e il suo sinedrio odono rumoriggiare al di fuori secondo il pronostico di Dumas enriot ubriaco di sangue d'acqua vite si precipita dentro trascinando l'insanguinata sciabola sul pavimento e grida tutto è perduto miserabile la tua vigliaccheria ci ha rovinati urla il feroce cofinal e precipita quel codardo dalla finestra calmo come la disperazione stava l'austero saint just il paralitico cuton geme sotto una tavola un colpo un'esplosione Robespierre tenta a suicidarsi ma il polso tremante fallì la campana dell'hotel de vil batte le tre sull'ingresso peicupi corridoi nella sala di morte irrompe la moltitudine livido sanguinolento privo di favella ma non di sensi sta orgoglioso ancora il grande assassino si accalcano a lui dintorno lo esecrano lo maledicono le torce squassate rischiarano l'orrida scena Robespierre e non zanoni fu un mago poiché le furie da esso evocate lo circondano nell'agonia lo traggono fuori schiudi le tue imposte inesorabile prigione la consiergeria accoglie la preda ma similiano Robespierre non profferì più parola sulla terra o redenta parigi erutta i tuoi mille i tuoi diecimila alla piazza della rivoluzione rotola il carro del re del terrore saint just du ma cuton gli sono compagni al supplizio una donna orfana del figlio con selvaggia rabbia balza al fianco di lui gridando la tua morte minebria di gioia egli apre gli occhi sanguinolenti discendi all'inferno con le maledizioni delle vedove e delle madri il carnefice gli strappa la benda dalla mascella fracassata un urlo di spasimo la folla applaude scende la mannaia fra i gridi di mille e l'anima tua sprofonda nelle tenebre massimiliano Robespierre così finisce il regno del terrore nel carcere spunta l'alba di cella in cella corrono le notizie entra la folla i giulivi prigionieri si mischiano fra i custodi che intimoriti fingono contentezza sono invasi tutti gli angoli dello spaventoso edificio che in breve rimarrà vuoto in una cella dimenticata fino dall'antecedente mattina trovarono una giovane donna seduta sul meschino giaciglio le braccia concerti al petto il volto sollevato gli occhi aperti ed un sorriso di felicità sulle labbra perfino nelle brezza della loro gioia i prigionieri retrocessero colpiti di stupore e di riverenza che giammai avevano veduta una simile bellezza riavvicinandosi con taciti passi scorsero che non respirava che il suo era un riposo marmoreo e la bellezza estatica quella della morte silenziosi le fecero corona ai suoi piedi giaceva un bambino che svegliandosi li guardò senza timore stringendo con le rose e dita la veste della madre un orfano nel carcere poverino esclamò una donna madre e la pure si dice che il padre fu ghigliottinato ieri ora aspirò la madre derelitto nel mondo quale sarà la sua sorte il bambino sorrideva alla folla mentre la prigioniera così favellava un vecchio sacerdote che là si trovava le rispose con solenne dolcezza mira o donna il bambino sorride gli orfanelli vivono sotto la custodia di dio grazie a tutti